Benvenuti sul canale. Ah, vedo un tau nel tau lì. Ringrazio gli ascoltatori, i donatori e i lettori, come al solito. Un abbraccio. Ripristiniamo questo testo che era molto piaciuto. Benvenuti in Audible. Buon ascolto. La scienza del respiro e del pranayama. Contiene i due libri, La respirazione e la salute, di Yogi Ramacharaka. E La scienza del pranayama di Sri Svami Sivananda. Traduzione a cura di David De Angelis. Tutti i diritti di traduzione sono riservati. Narrato da Vita Wolf. Introduzione. Si può dire che tutto l'universo e tutte le cose create sono fondate sulla respirazione, e che tutto respira e vibra, essendo questa funzione una condizione di vita. Respirano i mari, con l'evaporazione e con l'alta e bassa marea. Respira la terra. Respirano i monti, vulcani, ghiacciai. Respirano le piante. Respirano gli animali, dal più grande al piccolissimo. L'uomo può vivere molti giorni senza mangiare, pochi senza bere. Ma solo pochi minuti può sospendere la respirazione senza morirne. Da una perfetta respirazione dipende una completa vitalità, l'immunità e la cura dalle indisposizioni. La percentuale degli uomini civili che sanno respirare e respirano correttamente è oggi molto ridotta. Parrà un insulto dire che in occidente non si sa respirare bene, che non si conoscono gli effetti, i benefici di una buona respirazione, che signora come diversi malanni provengano da una cattiva respirazione. Come pure finora non si è neppure sospettato che molte indisposizioni si possano curare semplicemente col mezzo di una buona respirazione. Ad esempio, quasi sempre, presso di noi, allorché taluno si trova aggravato da un malessere generale e non sente il solito appetito, ricorre a stimolanti. Mentre, per lo più, basterebbe un esercizio di dieci minuti di respirazione completa, alternata con qualche respirazione purificatrice, in un'aria libera ed il più possibilmente pura, per trovarsi tosto rinvigoriti e sentirsi sbarazzare lo stomaco e ridestare l'appetito. Sembrerà altresì ingiurioso, per la scienza ed il progresso dell'Occidente, l'affermare che fino a questi ultimi tempi solo qualche chimico aveva sospettato che oltre ai soliti conosciuti componenti, ossigeno, idrogeno, azoto, eccetera, vi fosse nell'aria la presenza di un altro elemento, inafferrabile ed indefinibile, che è il prana, sostanza nervina, mentale, vitale e vivificatrice, da molto tempo conosciuta agli yoghi d'Oriente, che nelle loro scuole di respirazione insegnano il modo di raccogliere il prana dall'universale deposito che vi ha nell'aria, per immagazzinarlo nei polmoni e distribuirlo a tutte le parti del corpo e specialmente a quelle che hanno più bisogno di essere rinvigorite. Colui che riesce a comprendere questo prana ha compreso l'essenza stessa della vita e dell'attività cosmica. Colui che ha conquistato e controllato questa essenza non solo ha assoggettato il proprio corpo e la propria mente, ma anche tutti i corpi elementi in questo universo. Quindi il pranayama o il controllo del prana è il mezzo con cui lo yoghi cerca di realizzare nel suo piccolo corpo l'intera vita cosmica e cerca di raggiungere la perfezione ottenendo tutti i poteri dell'universo. I vari esercizi e allenamenti che egli svolge servono a questo scopo. La pratica del pranayama è stata vista con timore in alcuni ambienti a causa di certe limitazioni. Vale a dire l'assoluta necessità dell'avvicinanza ad un guro perfezionato, le restrizioni dietetiche e cose simili. Sri Swamy spiega qui in termini chiari le stravaganze di tali timori e ha stabilito dei metodi molto semplici e sicuri. Questo libro contiene lezioni adatte a tutti i tipi di Sataka. Coloro che seguiranno le istruzioni speciali indicate verso la fine del libro potranno essere sicuri del loro successo e della loro sicurezza. Pranayama è un angha importante nello yoga ashtanga. È necessario a tutti in ugual misura nella vita quotidiana per assicurarsi una buona salute e per avere successo e prosperità in ogni ambito della vita. Come questo sia possibile è spiegato in queste pagine. La scienza del rilassamento è un dono davvero prezioso per i lettori e tutti possono trarne beneficio. In questi due audiolibri gli autori Yogi Ramacharaka e Sri Swamy Sivananda, riconosciuti esperti del settore, ti accompagneranno in un viaggio di scoperta di uno dei più grandi segreti e poteri a disposizione dell'uomo, il potere del respiro. La respirazione e la salute di Yogi Ramacharaka. Prima edizione 1950 Fratelli Bocca Editori. Edizione audiolibro 2020 a cura di David De Angelis. Narrato da Vita Wolf. Ai lettori. Tutte le infermità, quelle accentuate che provengono da cause meccaniche, hanno un'origine invisibile e da questo lato l'ordinaria medicina ne sa ben poco. Una gran distanza corre tra il potere, occulto, che rimuove le cause invisibili dell'infermità, in modo radicale, il qual potere è magico, è quello che solamente riesce a far scomparire gli effetti esteriori dell'infermità, il qual potere, la medicina, è fisico, psichico, chimico, eccetera. Paracelso. La sofferenza non è altro che il risultato della nostra ignoranza. Se noi avessimo conservato il nostro corpo costituzionalmente puro e sano, quale originariamente ci fu dato, vivendo secondo natura e non contro di essa, non abusandone, non commettendo eccessi, noi dovremmo avere un corpo fisicamente valido e adatto, come un buono strumento, alle funzioni richiestegli dal nostro spirito e dalla nostra volontà. Il medesimo dovrebbe essere in perfetto equilibrio, per corrispondere armonicamente alle vibrazioni delle nostre facoltà. La rottura di quest'accordo è quella che cagiona l'infermità, la quale perciò dovrebbe costituire un'eccezione rara e quasi un fenomeno straordinario, mentre, purtroppo, ai nostri giorni, si può quasi dire che la salute sia un'eccezione e l'infermità la regola, ossia lo stato quasi ordinario e comune alla più grande parte degli uomini, poiché, senza si tema di esagerare, si può ben dire che, su mille di noi, è forse difficile trovarne uno cui non sia noto lo stato di infermità. Ed anzi, si verifica questo contrasto ai nostri tempi, che mentre sono aumentate e sempre più aumentano le misure e le regole, le prescrizioni e le precauzioni, gli ordinamenti e le leggi per l'osservanza dell'igiene, e questa ha veramente fatto dei passi notevoli e ha dato dei risultati sicuramente tangibili, in grazia appunto dei provvedimenti largamente adottati o fatti adottare in pubblico e in privato. Per altra parte, le malattie sono in aumento invece che in diminuzione, ed anzi, noi sentiamo parlare spesso del sorgere di forme e manifestazioni patologiche nuove e prima sconosciute, e di conseguenza pure nuovi farmaci e peregrini rimedi. Miracolosi specifici e numerosi ritrovati vengono a raccomandarsi e a riempire le quarte pagine dei giornali. E così, una maggior falange si fa avanti di medici, di sanitari, di genisti e specialisti, patentati ed empirici, in ogni genere. Del pari sono cresciuti e vanno ognor crescendo gli ospedali, le cliniche, gli ambulatori. E gli ospedali, per quanto accresciuti di numero e di capacità, non riescono a soddisfare tutte le richieste, giacché sono sempre moltissimi i pazienti che non possono venirvi accolti. E naturalmente, ogni dì vengono altresì aperte le più ben fornite ed oviziose farmacie, con infiniti preparati nazionali ed esotici, e tutti lavorano. Nessuno difetta mai di clienti. Che di più? Le stesse case, private, a cominciare da quella dell'operaio cosciente ed evoluto, sono quasi elevate al grado di piccole farmacie, poiché ben sarebbe cosa rara che in una casa alquanto ordinata non vi si trovassero gli specifici più indispensabili ed in voga, quali il fernet, il ferrochina, alcuni lisir, il bicarbonato, il citrato di magnesio, certi sali, gli oduro, il sublimato, l'ammoniaca, l'ipercaquana, il calomerano, la genziana, il taftà, certi stimolanti, certi calmanti. Se diversamente fosse, e put a caso, in un frangente malaugurato, ma non insolito, se ne presentasse il bisogno, la dispensa della casa correrebbe perlomeno la taccia di imprevidente ed impudente. La mensa, poi, si è convertita quasi in un dispensario farmaceutico. Quando si imbandisce la tavola, le gocce per la signorina, le pillole per la signora, le polveri per il signore, le ostie per il signorino e acque minerali speciali per tutti, sono ormai entrato nell'uso comune, ma sono ingredienti del pranzo altrettanto essenziali, da doversene rammentare nell'apparecchiare la tavola, quanto il porvile posate, i piatti ed il tovagliolo. E questo perché? Particolarmente perché l'uomo ha voluto divorziare dalla natura, disprezzandone i gratuiti benefici, e questa giustamente se ne vendica, affliggendolo con ogni sorta di miserie e di acciacchi, prodotti dal vivere artificiale e viziato dell'uomo moderno, contro natura. Difatti, mentre il sole è la sorgente di vita per tutto il creato, l'uomo, con le sue fisime, con i suoi pregiudizi, con la sua falsa educazione, con le sue maniere di vivere antinaturali, è arrivato al punto da considerarlo e temerlo come uno spaventevole suo nemico. Nessuno vuol più godere un po' di sole, tutti sono diventati luci funghi, tutti vogliono l'ombra e la semioscurità. Se entrate in un salotto, voi dovete procedere brancolando, poiché la signora, con le cortine impannate, coi vetri colorati, con le tende, tendine e tendoni, con le gelosie e con le persiane, con ingegnosi espedienti, si è data tutte le cure e le premure perché quest'ora, odiati i nemici della nostra umanità, calore, luce ed aria, non avessero ad infiltrarsi neppure di un raggio, venendo ad infestare l'ambiente, a rovinare i mobili, ad alterarne il legname di colori, a sbiadire le tinte delle stoffe, a minare la salute dei signori padroni e figli, già tanto precaria. L'aria, poi, è la perfida tiranna, è l'insidia più pericolosa e temibile. Non esponetevi all'aria, guardatevi dalle correnti d'aria. Aria di fessura, aria di sepoltura, spesso sentitesi ripetere. E perciò, mentre l'aria è un elemento indispensabile per vivere, air pavulum vitae, mentre l'aria è l'alimento indeclinabile, essenziale dei polmoni, molti all'opposto fuggono l'aria, ne hanno miticolosa paura e, quasi temendo di farne troppo consumo, ne fanno risparmio perfino respirando. E così, prendono studiate precauzioni per premonirsi contro la luce, contro il sole, contro l'aria, invece di abituarvisi e immergersi deliberatamente in questi puri elementi vitalizzanti. Per questo, nessuna meraviglia, se in occidente finora poco, per non dire quasi nulla, si è dato importanza alle funzioni, alle azioni, all'influenza, all'uso dell'aria sotto la forma, l'aspetto e il modo che per l'uomo sono i più diretti naturali, cioè quelli che derivano dalla pratica e dagli esercizi della respirazione. Parrà un insulto dire che in occidente non si sa respirare bene, che non si conoscono gli effetti, i benefici di una buona respirazione, che si ignora come i diversi malanni provengano da una cattiva respirazione. Come pure finora non sia neppure sospettato che molte indisposizioni si possano curare semplicemente col mezzo di una buona respirazione. Ad esempio, quasi sempre, presso di noi, allorché tal'uno si trova aggravato da un malessere generale e non si sente il solito appetito, ricorre a stimolanti, vermouth e liquori ed elisir e cordiali e sali, mentre per lo più basterebbe un esercizio di dieci minuti di respirazione completa, alternata con qualche respirazione purificatrice, in un'aria libera ed il più possibilmente pura, per trovarsi tosto rinvigoriti e sentirsi sbarazzare lo stomaco e ridestare l'appetito. Meglio che con i liquori, gli acidi e i sali, che danno al cervello e dai nervi e pure allo stomaco. Mentre alla lunga l'abitudine ai liquori verrà infiltrandosi in noi insidiosamente, quasi a nostra insaputa, e lentamente sconquassando il nostro organismo ne risulteranno alterate le sue regolari funzioni fisiche e mentali. Come sovente, ai nostri giorni, ci si presentano sotto gli occhi degli esempi penosi e disquilibrati per l'uso e l'abuso del vino e di liquori. Parrà altresì ingiurioso, per la scienza ed il progresso dell'Occidente, affermare che fino a questi ultimi tempi solo qualche chimico aveva sospettato che oltre ai soliti conosciuti componenti ossigeno, idrogeno, azoto, eccetera, vi fosse nell'aria la presenza di un altro elemento inafferrabile e indefinibile, che è il prana, sostanza nervina, mentale, vitale e vivificatrice, da molto tempo conosciuta agli yogi d'Oriente, che nelle loro scuole di respirazione insegnano il modo di raccogliere il prana dall'universale deposito che vi è nell'aria, per immagazzinarlo nei polmoni e distribuirlo a tutte le parti del corpo, specialmente a quelle che hanno più bisogno di essere rinvigorite. E non soltanto al proprio corpo sa e può lo yogi orientale fornire il prana di cui il medesimo ha bisogno, ma l'uopo, con pratiche ed esercizi speciali, sa e può fraternamente soccorrere anche in lontananza i pazienti, inviando loro il prana, ossia la energia di cui difettassero, risanando con esso un qualche organo o l'intiero organismo. Ma queste sono pratiche di occultismo, alla quale non tutte le menti si trovano preparate e disposte, e perciò nel libro se ne fa appena un fugace e superficiale cenno, verso la sua fine. Dal poco fin qui detto, non sarà difficile all'amico lettore di intravedere quale immensa importanza abbia la respirazione nell'economia del corpo umano e quali e quante svariate risultanze vantaggiose per l'umanità si potranno in futuro ricavare da ben disciplinati e studiati esercizi di respirazione. Non è azzardato, né inconsulto o prematuro, l'asserire che la respirazione racchiude dei segreti e dei misteri, la cui chiave sarà dai posti ritrovata, e in grazia di essa, molte cose ore ignote ed incomprese all'umanità saranno spiegate ed usufruite nel campo psicofisico. La creazione dell'universo fu l'effetto di un'espirazione, un fiat, un fiato, un verbo, una verberazione o vibrazione. L'uomo fu creato con un alito sulla fronte. Il bambino viene alla luce ricomincia con un'aspirazione o d'inalazione, quella vita che aveva, vecchio, abbandonata con un'espirazione o d'esalazione. Così si ricostituisce la catena o del ciclo delle vite, delle morti e delle rinascite. Si può dire che tutto l'universo e tutte le cose create sono fondate sulla respirazione, e che tutto respira e vibra, essendo questa funzione una condizione di vita. Respirano i mari, con l'evaporazione e con l'alta e bassa marea. Respira la terra, respirano i monti, vulcani, ghiacciai. Respirano le piante, respirano gli animali, dal più grande al piccolissimo. L'uomo può vivere molti giorni senza mangiare, pochi senza bere, ma solo per pochi minuti può sospendere la respirazione senza morirne. Da una perfetta respirazione dipende una completa vitalità, l'immunità e la cura delle indisposizioni. La percentuale degli uomini civili che sanno respirare e respirano correttamente è oggi molto ridotta. Dicesi ridotta perché originariamente l'uomo era regolarmente, ossia fisiologicamente, ben costituito, con un organismo sano, robusto e adatto ai propri compiti e alla propria missione su questa terra, e allora sapeva respirare correttamente. Ma i traviamenti, gli abusi, le passioni, la vita artificiale, antinaturale, troppo agglomerata in città, sono state le cause precipue che alterarono la sua vigorosa costituzione e la sua retta funzione respiratoria. E da questo sistema di vita, a cui va congenita la difettosa respirazione, si deve il gran numero di toraci ristretti ed efficienti, nelle città e anche nelle campagne, nonché quello, sempre crescente, dei dichiarati inabili al servizio militare e quello ancora più impressionante e spaventoso dei colpiti negli organi respiratori e condannati senza rimedio ad una lenta consumazione. Autorità eminenti hanno assodato che basterebbe una generazione di respiratori normali per riformare una razza e rendere cosa rara una malattia. L'exercice della respirazione può metamorfose a lui segni e un être sain e robuste la nature la plus fraile, ha scritto FR Bicking. In Oriente si è convinti, e questo per l'appunto viene insegnato nelle apposite scuole di respirazione di cui si è fatto cenno anteriormente, che il benessere fisico, il potere mentale e la forza morale, lo sviluppo spirituale, la conquista della felicità, infine, dipendono e possono venire aumentati dalla scienza e dalla pratica di un'appropriata respirazione. Giova ripetere che il yogi indiano conosce e pratica esercizi di respirazione, in virtù dei quali consegue il dominio sul proprio corpo e si abilita ad inviare a qualche organo una maggior corrente di forza vitale o di prana, quando si ha mestieri. Il yogi conosce quel grande principio ed elemento d'energia, soprattutto mentale, che si trova nell'aria, costituito dal prana, che viene assorbito con l'aspirazione e sa il modo di manipolarlo e giovarsene, tanto per sé come per gli altri. E sa inoltre che mediante una respirazione ritmica può mettersi in accordo ed in armonia con le vibrazioni della natura ed aiutare ad accelerare così lo sviluppo dei poteri latenti nell'uomo. Ma pochi tra noi sanno compiere una perfetta respirazione. Pochissimi poi fanno esercizi di respirazione. Taluni respirano appena a mezzo polmone, parendo quasi abbiano tema di fare uno scioppio d'aria, e perciò i polmoni non vengono sufficientemente alimentati e per difetto d'azione ed esercizio una parte di essi, cioè le punte, verso il basso, divengono atrofiche, deboli e malate, con un'accentuata predisposizione alla tubercolosi. Altri, per il genere della loro occupazione, costretti a stare curvi o in altre posizioni incomode, non possono respirare liberamente, mentre altri, vittime e martiri della lotta per l'esistenza, dovendo lavorare in ambienti o continuamente chiusi o sotterranei o mefitici, nel malpuzzo e senza ventilazione, contraggono malanni e accorciano la propria vita, per non aver conosciuta o per aver disconosciuta l'importanza di una buona respirazione, in più spirabile aere. Ma è ben più grave la responsabilità che incontrano e il biasismo che meritano coloro che, schiavi di consuetudini irrazionali e di stupidi convenzionalismi e mode goffe, costringono e comprimono i loro corpi con cinte, cinghie, fasce, centuroni e bretelle, con vestiti troppo stretti, troppo aderenti e soffocanti, che ostacolano i liberi movimenti e la circolazione del sangue. Ed infine, con quell'orribile strumento di tortura e di deformazione qual è il busto portato dalle donne. È dunque indispensabile, per una buona salute, per una buona circolazione ed ossigenazione del sangue, di respirare profondamente aria pura. Così il sangue si purifica, si rende più fluido e si arricchisce di principi vitali, che impediscono, assorbono ed espellono i microbi della malattia. Una perfetta e completa respirazione ci salva dall'accumularsi nel nostro organismo di detriti o scorie, che si producono dalla combustione interna. Ossia ci salva dalla formazione di quei depositi tanto favorevoli allo sviluppo di tossine, che sono i migliori centri ed i mezzi più adatti per l'incubazione e la generazione dei detti morbi della malattia. È necessaria una respirazione profonda dal basso in alto, non viceversa, e cioè ricercando di riempire di aria, prima la parte inferiore dei polmoni, venendo poi all'insù, pian piano, verso e fino agli apici dei medesimi. Questa necessità deriva non dalla sola importanza di alimentare integralmente i polmoni, ma pur anco dal fatto che il plesso solare, detto il cervello addominale, che si trova nella regione epigastrica, è il cumulatore centrale di prana e compie una funzione importantissima nella vita ed anzi viene considerato come uno dei centri vitali. Questo, di fatto, sanno per pratica e per tradizione i pugilatori, poiché quando possono, con un pugno colpire l'avversario al plesso solare, lo tramortiscono togliendogli momentaneamente ogni vigoria e così lo possono atterrare facilmente. Altra sorprendente ignoranza nei pretesi o cosiddetti paesi inciviliti è quella delle diverse maniere di respirare. Molti respirano con la bocca anziché col naso o per mezzo delle narici, esponendosi, per tal difetto, a vari inconvenienti. Molti raffreddori, molte bronchiti e molte polmoniti verrebbero evitate soltanto con la conoscenza e con la pratica dei principi della perfetta respirazione, come il lettore potrà apprendere da questo libro. La tubercolosi stessa potrebbe, inizialmente, venire debellata mediante una corretta respirazione. In occidente può ancora recare sorpresa e disporre all'incredulità la pratica di una respirazione psichica ed una respirazione spirituale, per calmare il dolore, per guarire se stessi, per curare altri, tanto da vicino che da lontano, per acquistare qualità fisiche, mentali, eccetera, eccetera. Ma questi usi, mezzi ed esercizi respiratori sono ben conosciuti e adoperati in Oriente e perciò, ancora una volta, torna a proposito concludere. Ex Oriente Luxe. E pertanto, riepilogando, possiamo dedurre che i due cardini basilari della vita umana sono la respirazione e l'alimentazione. E condizioni essenziali per star bene, per godere una buona salute, sono una respirazione corretta e un'alimentazione giusta, e dalla buona salute fisica procedendo pure la salute mentale e quella spirituale. In base alla massima di giovenale, mens sana in corpore sano, ognuno può facilmente valutare di quale grande momento sia il tema e che qui è preso a trattare. Ai nostri giorni molte ricerche, molti studi, molte pratiche, molti esperimenti e di conseguenza pur molte pubblicazioni vennero fatte circa il regime dietetico, i processi, i sistemi, i mezzi, i modi e le misure d'alimentazione. Specialmente hanno fatto scuola le istruzioni contenute nella pubblicazione del Fletcher «Noi mangiamo troppo», «l'arte di mangiar poco». Questo libro ha ottenuto un successo veramente straordinario e fortunato, se si considera che nulla di nuovo ha rivelato, già che tutta la sua dottrina e precetti suoi si possono dire riassunti nell'antico aforisma, prima digestio fit in ore, richiamando cioè la necessità e la grande importanza di una buona masticazione ed insalivazione nel mangiare. In quanto una buona masticazione, per l'avvenuta maggior triturazione del cibo, renda meno laboriosa la digestione, ed una conseguente maggiore insalivazione del bolo coadiuva e facilita l'intervento e il bio dei succhi gastrici, d'onde più pronta, spontanea e abbondante la chilificazione e la chimificazione, che danno come corollario una maggior realizzazione di beneficio nutritivo, pur da una piccola quantità di cibo, in confronto di una maggior o doppia consumata in fretta, ossia mal masticata e peggio insalivata. Anche il regime dietetico può molto influire sulla salute ed osservazioni e statistiche hanno ormai, quasi inconfutabilmente, assodato che il regime più adatto ed appropriato per l'uomo per conservarsi sano, forte e robusto si è di preferenza il regime vegetanano, anziché il regime carneo, innaffiato da vini e liquori o altre bevande alcoliche. Si è di preferenza il regime vegetariano, anziché il regime carneo, innaffiato da vini e liquori o da altre bevande alcoliche, peste e veleno del cervello. Insomma, il ritornello che non sarà mai abbastanza ripetuto, per quanto riguarda il nostro regime di vita, si è che bisogna ritornare alla natura. Sopra i principi qui abbozzati in linea generale, mi pare si potrebbe compilare un codice della salute, fisica, intellettuale, morale e spirituale, da poter costituire il vademecum della salute, che dovrebbe rigenerare la nostra razza e prepararla ad affrettarla verso i più alti suoi destini, dei quali porta indelebilmente scolpite le tracce nella sua natura e nella sua storia millenaria, e che costituiscono la sua meta ed ascesa finale, la spiritualizzazione. E pertanto, procedendo ex modico ad magnum, io auguro di gran cuore all'amico lettore che egli possa ritrovare nel libro che ha davanti tutto il suo pregio ed assimilarne tutto quel vantaggio che dal medesimo è possibile ricavarne, se viene integralmente compreso il suo significato, tanto palese quanto occulto. Il traduttore Capo primo, salaam. L'exercice della respirazione può inetamorfoser a lui seul e un être sain e robuste, la nature la plus frêle. FR Biching Non è cosa insolita che lo studioso occidentale abbia idea alquanto confuse sugli yogi, sulla loro filosofia e sulle loro pratiche. I viaggiatori hanno scritto molti rapporti fantastici sulle orde di fakiri mendicanti, ciarlatani, che infestano le grandi strade e le vie della città dell'India, arrogandosi impudentemente il titolo di yogi. Cosicché non è da incolparsi lo studioso occidentale se crede che il yogi tipico sia un estenuato, un sudicio fanatico oppure un indiano ignorante che si mette in una posizione fissa fino all'ossificazione del suo corpo, che tiene innalzate le braccia fino a tanto che diventano rigide, rimanendo in tale posizione per tutta la vita. Oppure che serra il pugno e lo mantiene così finché le unghie siano cresciute attraverso la palma della mano. Questa gente esiste, è vero, però la sua pretesa al titolo di yogi sembra tanto assurda al vero yogi, come la pretesa al titolo di dottore da parte di un pedicure o al titolo di chirurgo eminente a quello di professore, oppure a quello di presidente delle università di Harvard o di Yale da parte di un venditore di polveri contro le tignole. Fin dalla più remota antichità esistettero nell'India e negli altri paesi orientali persone che consacrarono il loro tempo e la loro attenzione allo sviluppo fisico, mentale e spirituale dell'uomo. L'esperienza, acquistata attraverso varie generazioni di diligenti investigatori, venne trasmessa durante secoli, da maestri a discepoli, e grado a grado si viene elaborando una scienza yogi perfettamente determinata. A queste investigazioni e a questi insegnamenti venne alla fine applicato il termine yogi dalla parola sanscrita yug, che significa unire. Da questa stessa fonte proviene la parola inglese yolk, di significato analogo. La sua applicazione, in connessione con questi insegnamenti, è difficile poter indicare, per il fatto che diverse autorità danno sopra questo proposito differenti spiegazioni, ma probabilmente la più ingegnosa di queste spiegazioni è quella che la presenta come un equivalente hindu dell'idea racchiusa in questa espressione inglese, getting into hardness, o yoking up. Perché indubbiamente l'yogi, gets into hardness, si sottomette ad una certa soggezione nel suo sforzo per controllare il corpo e la mente per mezzo della volontà. La yoga è divisa in vari rami, da quella cioè che insegna il controllo del corpo fino a quella che segnala i mezzi per ottenere il maggior sviluppo spirituale. In questa opera non toccheremo gli aspetti più elevati dell'argomento, salvo allorché la scienza della respirazione abbia relazioni con i medesimi. La scienza della respirazione ha molti punti di contatto con la yoga e quantunque si occupi principalmente dello sviluppo fisico, possiede non di meno il suo lato psichico e penetra perfino nel campo dell'evoluzione spirituale. Nell'India esistono grandi scuole di yoga alle quali appartengono migliaia di pensatori di quel grande paese. La filosofia yogi è il codice che regge la vita di molti. Senza dubbio gli insegnamenti yogi, puri, sono adatti a pochi e perciò le masse vengono appagate con le briciole che cadono dalla mensa delle classi aristocratiche. Sotto questo riguardo il costume orientale è opposto a quello occidentale. Però le idee occidentali cominciano a farsi strada anche in Oriente e gli insegnamenti che una volta si adattavano ad alcuni pochi, ora invece stanno conquistando tutti coloro che si trovano in condizioni di riceverli. L'Oriente e l'Occidente si accostano di giorno in giorno sempre di più, e progredendo questa relazione e facendosi ogni ora più intima, si influenzano reciprocamente. Gli yogi indiani dedicarono sempre grande attenzione alla scienza della respirazione, per ragioni che si renderanno palesi ai lettori di quest'opera. Molti scrittori occidentali hanno menzionato questa frase negli insegnamenti yogi, però crediamo che sia stato riservato all'autore di questo lavoro di dare allo studio occidentale, in una forma concisa e sensibile, i principi fondamentali della scienza della respirazione, congiuntamente a molti degli esercizi e metodi preferiti dagli yogi. Diamo nell'opera nostra tanto l'idea occidentale come l'orientale, dimostrando che si completano una con l'altra, presentandole nel linguaggio più corrente, evitando i vocaboli sanscriti che producono tanta confusione nei lettori occidentali di livello medio. La prima parte di quest'opera viene dedicata all'aspetto o lato fisico della scienza delle respirazioni, poscia saranno trattati gli aspetti psichici mentali e infine quello spirituale. Speriamo che il lettore ci perdonerà se manifestiamo la soddisfazione di aver potuto conseguire il condensamento di tanta dottrina yogi in poche pagine, e ciò senza aver sentito la necessità di impiegare parole ed espressioni che non fossero comprensibili a tutti. L'unico timore che ci rimane, si è che questa semplicità possa diventare per alcuni motivo di ritenere questo trattato poco degno di attenzione, e perciò vadano per altro cammino alla ricerca di qualche cosa di profondo, misterioso e incomprensibile. Senza dubbio il pensiero dell'Occidente è profondamente pratico, per cui sappiamo che è solo questione di poco tempo, perché si riconosca la praticità di questo lavoro. Mandiamo ai nostri studiosi il nostro più profondo salam, saluto, e li preghiamo di prepararsi ad accogliere le prime lezioni della scienza di respirare. Capo secondo. Respirare è vivere. La vita dipende assolutamente dall'atto della respirazione. Respirare è vita. Per quanto vi possono essere disaccordi intorno a dettagli di teoria e di terminologia, gli orientali e gli occidentali ammettono questi principi fondamentali. Respirare è vivere, e non vi può essere vita senza respirare. Non solamente gli animali superiori basano la vita e la salute nel respirare, ma perfino le forme più infime, comprese le piante, che devono all'aria la loro esistenza. Il bambino fa una larga e profonda ispirazione. La ritiene un momento per estrarne le proprietà vitali, e poi la esala in un lento vagito, e così la sua vita ha avuto un principio sopra la terra. Un vecchio emette un debole sospiro, cessa di respirare, e così la sua vita è giunta al suo termine. Dal suave soffio del bambino fino all'ultimo sospiro del moribondo si dispiega una lunga storia di continue respirazioni. La respirazione può considerarsi come la più importante delle funzioni del corpo, perché da essa dipendono indubbiamente tutte le altre. L'uomo può vivere alquanto tempo senza mangiare, qualche tempo minore senza bere, però, senza respirare, la sua esistenza continuerà solo pochi minuti. Non solo l'uomo per vivere dipende dalla respirazione, ma perfino, e in gran parte, dalle abitudini di respirare correttamente, che sono quelle che debbono dargli la vitalità perfetta, dipende la sua immunità contro le malattie. Un controllo intelligente del valore della respirazione prolunga i nostri giorni sulla terra, dandoci una somma più grande di resistenza, mentre una respirazione disordinata tende a diminuire i nostri giorni, decresce la nostra vitalità e ci innette in condizioni favorevoli ad essere colti dall'infermità. L'uomo nel suo stato naturale non ebbe necessità che si fornissero istruzioni per respirare, e alla stessa guisa dell'animale inferiore del bambino respirava naturalmente e bene, secondo i disegni della natura. Però molto esso ha patito l'influenza modificatrice della civiltà, ha contratto costumi e abitudini perniciose nel camminare, nel fermarsi e nel sedersi, le quali lo hanno spogliato del diritto primitivo di una respirazione corretta e naturale. Ha pagato alla civiltà un prezzo molto elevato. Attualmente il selvaggio respira naturalmente, purché non sia stato contaminato dal contatto e con le abitudini dell'uomo incivilito. La percentuale degli uomini inciviliti che respirano correttamente è molto ridotta, ed il risultato può osservarsi nei toraci ristretti, negli uomini decaduti e nello spaventevole aumento delle infermità degli organi respiratori, compreso il terribile mostro della consumazione, l'azoto bianco. Autorità eminenti hanno stabilito che una generazione di respiratori normali rigenererebbe la razza, e che la malattia sarebbe tanto rara che il suo manifestarsi verrebbe considerato come un soggetto di curiosità. Se studiasi l'argomento, si osserverà che la relazione tra la respirazione naturale e la salute è evidente e spiegabile, sia che la si consideri sotto il punto di vista orientale, sia che la si consideri sotto il punto di vista occidentale. Le dottrine occidentali dimostrano che la salute fisica dipende essenzialmente da una respirazione corretta. I maestri d'Oriente non solo ammettono che i loro fratelli d'Occidente hanno ragione, ma sostengono perfino che oltre al beneficio fisico derivato da una respirazione normale, possono aumentare il potere mentale dell'uomo, la sua felicità, il dominio su di se stesso, chiarezza di vista, moralità e ad un tempo il suo progresso spirituale, quando si è compenetrato nella scienza della respirazione. Molte scuole di filosofia orientale sono state fondate sopra questa scienza, e le razze occidentali, quando abbiano acquisita la sua conoscenza, otterranno in grazia del loro spirito pratico grandi risultati. La teoria dell'Oriente, unita alla pratica dell'Occidente, darà il suo frutto di alta importanza. Questo libro tratterà della scienza yogi sulla respirazione, che comprende tutto ciò che è conosciuto dal fisiologo e dall'igienista dell'Occidente, e per di più tratterà l'aspetto occulto dell'argomento. Non solo indicherà la via verso la salute fisica, d'accordo con ciò che viene chiamato respirare profondo, dagli scienziati occidentali, ma penetrerà nelle fasi meno conosciute della questione, dimostrando come il yogi hindù controlla il suo corpo, aumenta la sua capacità mentale e sviluppa il lato spirituale della sua natura mediante la scienza della respirazione. Il yogi pratica una serie di esercizi per mezzo dei quali ottiene il dominio sul proprio corpo, mentre lo abilitano a dare e inviare, a qualunque organo o parte, una maggiore corrente di forza vitale o prana, fortificando e rinvigorendo in questo modo la parte di organo che desidera. Egli è familiare con tutto ciò che il suo fratello occidentale conosce sugli effetti fisiologici di una respirazione corretta, però sa pure che vi ha qualche cosa di più nell'aria che è semplice ossigeno, idrogeno e azoto, e che la semplice ossigenazione del sangue non è l'unico fenomeno che si produce col respirare. Conosce qualche cosa intorno al prana, che dai suoi fratelli d'occidente è ignorato e si trova in accordo con la natura ed è al corrente della maniera di manipolare questo gran principio di energia. È perfettamente informato dei suoi effetti sul corpo e sopra la mente umana. Sa che con una respirazione ritmica può mettersi in vibrazione armonica con la natura e favorire lo sviluppo dei suoi poteri latenti, e che controllando la sua respirazione non solo può guarire se medesimo e gli altri, ma pure far scomparire il timore, le preoccupazioni e le emozioni inferiori. Insegnar questo è lo scopo di questo lavoro. Cercheremo di dare in pochi capitoli spiegazioni concise ed istruzioni che potrebbero occupare interi volumi. Speriamo di svegliare nelle menti dell'inondo occidentale la nozione del valore della scienza e della respirazione. Capo terzo. Teoria esoterica della respirazione. In questo capitolo verremo esponendo brevemente le teorie del mondo scientifico occidentale intorno alle funzioni degli organi respiratori e dell'ufficio che disimpegna la respirazione nell'economia umana. Nei capitoli seguenti presenteremo le teorie addizionali e di fatti confermati dalle ricerche della scuola orientale. L'orientale accetta le teorie e di fatti presentati dai suoi fratelli occidentali, che da secoli conosce. E vi aggiunge molte altre cose che essi per ora non accettano, le quali però a suo tempo scopriranno e battezzandole con nomi nuovi le presenteranno al mondo come una grande verità. Prima di considerare l'idea occidentale sarà conveniente dare una spiegazione sommaria degli organi della respirazione. Gli organi della respirazione consentono nei polmoni e nei passaggi di aria che conducono ai medesimi. I polmoni sono due e occupano la camera pleurica del torace. Ve ne ha uno per lato nella linea media, essendo separati l'uno dall'altro per mezzo del cuore, i vasi sanguigni maggiori e i grandi tubi conduttori dell'aria. Ogni polmone è libero in tutte le direzioni salvo nella radice, formata principalmente dai bronchi, arterie e vene che mettono in connessione i polmoni con la trachea e il cuore. I polmoni sono spugnosi e porosi e di loro tessuti molto elastici. Sono coperti da un involucro delicato, benché resistente, conosciuto sotto il nome di sacco pleurico. Una parte di esso è strettamente aderente al polmone e l'altra ha la parete interna del petto. Questo sacco di involucro secerne un fluido che permette ai lati interni di scivolare dolcemente l'uno sopra l'altro nell'atto di respirare. I passaggi di aria sono costituiti dall'interno delle narici, della faringe, della laringe, della trachea e dei tubi bronchiali. Quando respiriamo facciamo entrare l'aria per le narici, dove si riscalda, mettendosi in contatto con la membrana mucosa che è abbondantemente provvissa di sangue. E dopo esser passata per la faringe e per la laringe, entra nella trachea. Questa si divide in numerosi tubi, chiamati tubi bronchiali, bronchi, i quali alla loro volta si suddividono e terminano in nuove minute e suddivisioni in tutti i piccoli spazi dell'aria, nei quali si contano milioni nei polmoni. Uno scrittore dimostrò che se le cellule d'aria dei polmoni fossero distese l'uno accanto all'altra, coprirebbero una superficie di 14.000 piedi quadrati. L'aria viene introdotta nei polmoni per mezzo dell'azione del diaframma, muscolo voluminoso e forte, ma nel contempo delicato, che si estende attraverso il tronco, separando la cavità toracica da quella addominale. L'azione del diaframma è così tanto matematica quanto quella del cuore, quantunque questo possa venire convertito in un muscolo semivolontario con lo sforzo della volontà. Quando si dilata, aumenta la capacità del petto e dei polmoni, e l'aria si precipita nel vano iviformatosi. Quando cessa la dilatazione, il petto e i polmoni si contraggono e l'aria a questo modo ne viene espulsa. Adesso, prima di considerare ciò che succede nell'aria e nei polmoni, esaminiamo un momento come ha luogo la circolazione del sangue. Il sangue, come si sa, è spinto dal cuore, attraverso le arterie, ai tubi capillari, giungendo così ciascuna parte del corpo, che vitalizza, alimenta e fortifica. Ritorna di poi, per mezzo dei vasi capillari, per altra via, le vene, al cuore, d'onde viene inviato ai polmoni. Il sangue prende, nel suo viaggio arteriale, un colore brillante e si arricchisce di qualità e proprietà vitali. Poi ritorna per la via venosa, povero, azzurrognolo e punto brillante, carico dei detriti dell'organismo. Parte come una corrente presa dalle montagne e discende come scarica di grondaia, dirigendosi all'auricola destra del cuore. Quando questa auricola si è riempita, si contrae e fa passare la corrente del sangue attraverso un'apertura del ventricolo, dentro al cuore, il quale, a sua volta, lo manda ai polmoni, donde viene distribuito alle cellule d'aria per mezzo di milioni di vasi capillari, come sopra abbiamo detto. Osserviamo adesso le funzioni dei polmoni. La corrente impura del sangue si distribuisce nei milioni di cellule d'aria dedicate dei polmoni. All'inspirare, l'ossigeno dell'aria si pone in contatto col sangue impuro per mezzo dei vasi capillari, le cui pareti sono bastantemente grosse perché il sangue non possa attraversarle, nonché sufficientemente delicate per lasciare penetrare l'ossigeno. Quando l'ossigeno si mette in contatto col sangue, ha luogo una specie di combustione, ed il sangue ritiene l'ossigeno e pone in libertà l'acido carbonico generato dai detriti e dalla materia venosa che lo ha raccolto da tutte le parti dell'organismo. Il sangue così purificato e ossigenato volgesi un'altra volta al cuore, ricco, rosso e brillante, pregno di qualità e proprietà vitali. Al giungere alla auricola sinistra del cuore, è spinto dentro al ventricolo sinistro, donde nuovamente viene inviato e attraverso le arterie in missione per distribuire la vita a tutte le parti dell'organismo. Si calcola che in 24 ore, da 7 a 10.000 litri di sangue circa, attraversano i vasi capillari nei polmoni, passando i corpuscoli in semplice fila ed esponendone i lati all'ossigeno dell'aria. Quando si considerano i minuti dettagli del processo sopradescritto, noi siamo invasi dalla meraviglia e dalla mirazione, di fronte alla sollecitudine e alla intelligenza infinita della natura. Vediamo che se una quantità sufficiente di aria nuova non giunge ai polmoni, la corrente impura di sangue venoso non si purifica ed il corpo non solo resta privato di nutrizione, ma i disperdimenti che avrebbero potuto essere eliminati sono invece devoluti alla circolazione, avvelenano l'organismo e così cagionano la morte. L'aria impura opera nello stesso modo, benché in grado minore. Si vedrà pure che senza ispirare la quantità necessaria di aria, il sangue non può continuare l'opera sua ed il corpo, insufficientemente nutrito, cade infermo oppure possiede soltanto uno stato di salute imperfetta. Il sangue di chi respira in maniera impropria è naturalmente di colore azzurrogno lo scuro, perché gli manca il ricco rosso del sangue arterioso. Questo lo vediamo particolarmente in una complessione povera, mentre una respirazione corretta e per conseguenza una buona circolazione produce una complessione forte, brillante e piena di salute e di vita. Un po' di riflessione ci mostrerà l'importanza vitale di una respirazione corretta. Se il sangue non è completamente purificato dal processo rigeneratore dei polmoni, va alle arterie in uno stato anormale, senza aver eliminato le impurità che prese nel suo viaggio di ritorno. Se queste impurità vanno all'organismo, si manifesteranno sicuramente in qualche forma di infermità, vuoi del sangue o di altro, proveniente dal funzionamento alterato di qualche organo o tessuto insufficientemente nutrito. Quando il sangue è debitamente esposto all'aria, nei polmoni, non solamente vengono distrutte ed eliminate le sue impurità dal gas acido carbonico, ma prende anche una certa quantità di ossigeno che porta a tutte le parti del corpo dove si rende necessario, affinché la natura possa convenientemente compiere l'opera sua. Allorché l'ossigeno entra in contatto col sangue, si unisce alla emoglobina ed è portato ad ogni cellula, tessuto, muscolo ed organo che fortifica e rivitalizza, rimpiazzando le cellule e i tessuti guasti con nuovi materiali, che la natura trasforma per suo uso. Il sangue arterioso ben esposto all'aria contiene all'incirca il 25% di ossigeno libero. Non solamente ogni parte si vitalizia con l'ossigeno, ma pure il lato della digestione dipende materialmente da una certa ossigenazione dell'alimento, e questo può realizzarsi unicamente allorché l'ossigeno entra in contatto con l'alimento e produce una certa forma di combustione. Per conseguenza, è necessario che una provvista sufficiente di ossigeno sia immagazzinata dai polmoni. Questo spiega il fatto che i polmoni deboli e le digestioni povere si incontrano simultaneamente con tanta frequenza. Per darsi completa ragione del significato di questa affermazione, è necessario ricordare che il corpo intero riceve nutrizione dall'alimento assimilato, e che, con un'assimilazione poco ossigenata, quella sarà sempre incompleta. Parimente i polmoni dipendono dalla stessa sorgente d'alimentazione, e se, per causa di una respirazione imperfetta, l'assimilazione si fa difettosa ed i medesimi si indeboliscono, saranno tutta volta meno in condizione di disimpegnare le proprie funzioni ed il corpo a sua volta si indebolirà. Ogni porzione d'alimento o di bibita deve essere ossigenata affinché possa cedere la propria nutrizione e le perdite dell'organismo acquistare le condizioni necessarie per essere eliminate dal sistema. Una quantità insufficiente di ossigeno significa nutrizione imperfetta e salute imperfetta. E per verità, respirare è vivere. La combustione, risultante dal cambio nelle materie guaste, genera calore e bilancia la temperatura del corpo. Le persone che respirano bene hanno minor pericolo di raffreddarsi e generalmente possiedono una grande abbondanza di sangue che permette loro di resistere ai cambiamenti di temperatura. All'infuori degli importanti procedimenti già menzionati, l'atto della respirazione esercita gli organi e i muscoli interni, fatto al quale gli scrittori occidentali sulla materia non danno, per lo più, grande importanza, mentre gli yogi lo apprezzano debitamente. In una respirazione incompleta non tutte le cellule dei polmoni entrano in funzione, così perdesi una grande parte della capacità polmonare, per cui la deficienza del sistema è in proporzione della mancanza d'ossigeno. Gli animali inferiori, nel loro stato nativo, respirano naturalmente ed è indubitabile che l'uomo primitivo fece lo stesso. Il modo normale di vivere adottato dall'uomo incivilito lo ha privato di quella respirazione naturale e la razza ha sofferto le conseguenze di questo traviamento. L'unica salvezza fisica dell'uomo è di rivolgersi e ritornare alla natura. Capo quarto. Teoria esoterica della respirazione. La scienza della respirazione, come molti altri insegnamenti, ha due aspetti, uno esoterico od interiore e l'altro exoterico od esteriore. La sua fase fisiologica può essere denominata come la parte esteriore od exoterica dell'argomento e l'aspetto che ora prenderemo in considerazione come la parte esoterica od interiore. Gli occultisti di tutto il tempo e di tutti i paesi hanno sempre insegnato, generalmente in segreto, ad un numero ristretto di allievi, che nell'aria esiste una sostanza o principio dal quale deriva ogni attività, vitalità e vita. Differivano nei termini e nei nomi che davano a questa forza, come pure nei dettagli delle teorie. Però il principio fondamentale si può trovare in tutti gli insegnamenti e filosofie occulte e per secoli ha formato parte altresì degli insegnamenti degli yogi orientali. Nell'intento di evitare confusioni nate dalle differenti teorie concernenti questo gran principio, le quali stanno unite comunemente a qualche nome dato a questo principio, noi lo disegneremo in questo lavoro col termine prana, parola sanscrita che significa energia assoluta. Molte autorità fra gli occultisti insegnano che il denominato prana degli yogi è il principio universale di energia o forza, che ogni energia o forza deriva da questo principio. O meglio ancora, è una forma particolare di manifestazione del medesimo. Queste teorie non sono necessarie per l'assunto intrapreso con quest'opera e per conseguenza noi ci limiteremo a considerare prana come il principio di energia manifestato in tutte le forme viventi e che lo distinguono da quelle inanimate. Possiamo considerarlo come il principio attivo della vita o, se si vuole, come la forza vitale. Si trova in tutte le forme, dal microbo all'uomo e dal primo elemento della vita vegetale fino alla forma più elevata della vita animale. Prana compenetra tutto. Si trova in tutte le forme animate e, come insegna la filosofia occulta, che la vita è in tutte le cose in ogni atomo. Possiamo inferire dai suoi insegnamenti che prana si trovi in tutte le parti e in tutte le cose e che l'apparente mancanza di vita in alcuni di esse è dovuta soltanto a un minor grado di manifestazione. Prana non deve confondersi con l'ego, particella dello spirito divino di ogni anima, intorno a cui si agglomera materia ed energia. Prana è semplicemente una forma d'energia impiegata dall'ego nella sua manifestazione. Quando l'ego abbandona il corpo, non stando prana ormai più sotto il suo controllo, risponde unicamente agli ordini degli atomi individuali o gruppi di atomi che formano il corpo. E allorché il corpo disintegra e si dissolve nei suoi clementi originari. Ogni atomo prende seco il sufficiente prana per mantenere la sua vitalità e per essere capace di formare nuove combinazioni, tornando il prana non impiegato al gran deposito universale, d'onde proviene. Mentre vi ha il controllo dell'ego, esiste coesione e per sua volontà gli atomi si mantengono uniti. Prana è un nome con cui disegniamo un principio universale, il quale è l'essenza ad ogni movimento. Forza ed energia, elle pur si manifesta già come gravitazione, elettricità, rivoluzione planetaria o in qualche altra forma di vita, dalla più elevata alla più infima. Può essere chiamato l'anima della forza e dell'energia in tutte le sue manifestazioni, o quel principio che operando in un dato modo produce la forma di attività che accompagna la vita. Questo gran principio esiste in tutte le forme di materia e senza dubbio non è materia. Si trova nell'aria, ma non è aria, né alcuno dei suoi elementi chimici. Gli animali lo respirano con l'aria e così pure i vegetali. Gli animali lo respirano con l'aria e così pure i vegetali e se l'aria non lo contenesse, oltre alla quantità d'aria respirata, morirebbero. È assimilato dal sistema congiuntamente all'ossigeno e senza dubbio non è l'ossigeno. Lo scrittore ebraico, autore della Genesi, conosceva la differenza che esiste tra l'aria atmosferica ed il principio misterioso e potente in essa contenuto. Parla infatti di Neschemet Ruach Kachima, che tradotto vuol dire la respirazione dello spirito divisa. In ebraico Neschemet significa la respirazione ordinaria dell'aria atmosferica e Chaim, vita o vite, mentre la parola Ruach vuol dire lo spirito di vita, che secondo gli occultisti è lo stesso principio che noi denominiamo Prana. Prana si trova nell'aria atmosferica, però si trova eziando in tutte le cose e penetra dove l'aria non può giungere. L'ossigeno dell'aria compie una funzione importante nel mantenimento della vita animale ed il carbonio disimpegna un compito simile nella vita vegetale. Ma Prana esercita la sua propria distinta funzione nelle manifestazioni della vita, all'infuori delle funzioni fisiologiche. Continuamente noi inaliamo l'aria carica di Prana, ed altresì costantemente noi ricaviamo questo da quella. Trovandosi il Prana nell'aria al suo stato più libero ed in qualità regolare quando essa è pura, noi lo ricaviamo da questa fonte più facilmente che da qualunque altra. Nella respirazione ordinaria assorbiamo ed estraiamo una quantità normale di Prana, però per la respirazione controllata e regolata, generalmente conosciuta come respirazione yogi, noi ci mettiamo in condizione di estrarne una quantità maggiore, che si concentra nel cervello e nei centri nervosi per essere utilizzata quando sia necessario. Possiamo immagazzinare Prana nello stesso modo che gli accumulatori immagazzinano elettricità. I numerosi poteri attribuiti agli occultisti avanzati sono dovuti in gran parte alla conoscenza di questo fatto e all'uso intelligente di questa energia accumulata. Gli yogi sanno che per mezzo di certe forme di respirazione possono stabilire determinate relazioni col deposito di Prana e disporre del medesimo secondo le loro necessità. Con questo mezzo non solo fortificano tutte le parti del corpo, ma perfino il cervello stesso può riceverne un aumento di energia dalla stessa origine. Le facoltà latenti possono essere sviluppate, come ancora si possono acquistare poteri psichici. Quelli che possiede la facoltà di immagazzinare Prana, sia coscientemente sia inconsciamente, irradia minutamente vitalità e forza che viene sentita da coloro che vengono a contatto con lui, ed una tal persona può comunicare la sua forza alle altre e dar loro un aumento di vitalità e di salute. Questa che viene chiamata cura o di influenza magnetica si produce in questo modo, quantunque molti dei magnetizzatori non sappiano rendersi conto dell'origine del loro potere. Gli scienziati occidentali hanno avuto qualche idea dell'esistenza di questo gran principio di cui è impregnata l'aria, ma vedendo che sfuggiva all'analisi chimica e che non veniva registrato da alcuno degli apparecchi, hanno per lo più disconosciuta la teoria orientale. Non potendo spiegare questo principio, lo hanno negato. Senza dubbio, sembra che esse riconoscano che l'aria di certe località possiede una certa quantità di alcunché ed i medici spediscono i loro malati a questi luoghi con la speranza di vederli recuperare la loro salute. L'ossigeno dell'aria è assimilato dal sangue ed utilizzato dal sistema circolatorio. Il prana dell'aria è assimilato dal sistema nervoso ed utilizzato nel suo lavoro. E così come il sangue ossigenato circola per tutte le parti dell'organismo e degli apparati protettori della sua costruzione e della sua riparazione, così, parimenti, circola prana per tutte le parti del sistema nervoso, aggiungendo forza e vitalità. Se noi presentiamo prana come il principio attivo di ciò che noi chiamiamo vitalità, potremmo formarci un'idea molto più chiara del compito importante che disimpegna nella nostra vita. Nella stessa maniera che l'ossigeno del sangue viene consumato per la necessità del sistema, la provvissa di prana viene esaurita dai nostri pensamenti, dalle nostre volizioni, dalle nostre azioni, eccetera, ed in conseguenza si rende necessaria una fornitura costante. Ogni pensiero, atto, sforzo di volontà e movimento di un muscolo consumano una certa quantità di ciò che noi chiamiamo forza nervosa, la quale in realtà è una forma di prana. Per muovere un muscolo, il cervello invia un impulso sopra i nervi ed il muscolo si contrae cagionando un consumo di prana proporzionato allo sforzo realizzato. Se si tiene in conto che la maggior somma di prana acquistata dall'uomo gli giunge per mezzo dell'aria inalata, è facile apprezzare l'importanza di una respirazione corretta. Capo quinto, il sistema nervoso. Dovesi notare che le teorie scientifiche occidentali relative alla respirazione si limitano all'assorbimento dell'ossigeno e al suo uso attraverso il sistema circolatorio, mentre la teoria yogi prende altresì in considerazione l'assorbimento di prana e le sue manifestazioni nei canali del sistema nervoso. Prima di procedere oltre, può essere conveniente dare un rapido sguardo al sistema nervoso. Il sistema nervoso dell'uomo si divide in due grandi sistemi, e cioè il sistema cerebrospinale ed il sistema simpatico. Il sistema cerebrospinale consta di tutta quella parte del sistema nervoso contenuta nella cavità cranica e nel canale spinale, cioè a dire nel cervello e nel midollo spinale, come pure nei nervi, che sono le ramificazioni di quelli. Questo sistema presiede alle funzioni della vita animale, conosciute come evolizioni, sensazioni, eccetera. Il sistema simpatico include tutta quella parte del sistema nervoso localizzato principalmente nelle cavità toraciche, addominale e pelvica, che si distribuisce agli organi interni. Controlla i processi involontari, quali il crescimento, la nutrizione, eccetera. Il sistema cerebrospinale ha sotto la sua dipendenza la vista, l'udito, il gusto, l'olfatto ed il impatto ed è il motore che impiega l'ego per pensare, manifestare la sua coscienza e mettersi in comunicazione col mondo esteriore. Questo sistema può paragonarsi ad un sistema telefonico, costituendo il cervello l'officina centrale ed il midollo spinale ed i nervi, i cavi e i fili rispettivamente. Il cervello è una massa di tessuto nervoso e consta di tre parti. Il cervello propriamente detto, che occupa la parte anteriore, media e posteriore del cranio. Il cervelletto o piccolo cervello, che riempie la parte inferiore e posteriore del cranio. Ed il midollo allungato, che è il principio ingrandito del midollo spinale ed è collocato di fronte al cervelletto. Il cervello è l'organo di quella parte della mente che si manifesta come azione intellettuale. Il cervelletto regge i movimenti dei muscoli volontari. Il midollo allungato è l'estremo superiore del midollo spinale e da questo e dal cervello si ramificano i nervi cranici che si estendono a varie parti del corpo, agli organi dei sensi speciali della respirazione e ad alcuni del torace e dell'addome. Il midollo spinale riempie il canale della colonna vertebrale ed è una grande massa di sostanza nervosa che si ramifica dentro le vertebre in nervi che si dirigono a tutte le parti del corpo. Il midollo spinale rassomiglia a un grande cavo telefonico ed i nervi ha i fili di uso particolare in connessione con quello. Il sistema nervoso simpatico consiste in una doppia catena di gangli paralleli alla colonna vertebrale e di gangli disseminati nella testa, nel collo, nel petto e nell'addome. Un ganglio è una massa di tessuto nervoso che contiene cellule nervose. Questi gangli stanno in relazione con altri per mezzo di filamenti e col sistema cerebro-spinale per mezzo dei nervi motori sensitivi. Da questi gangli si ramificano numerose fibre e si dirigono agli organi del corpo, ai vasi sanguigni, eccetera. In differenti punti i nervi si incontrano e formano ciò che si conosce sotto il nome di plesso. Il sistema simpatico controlla di fatto i processi involontari, come la circolazione, la respirazione, la digestione, eccetera. Il potere o forza che si trasmette dal cervello a tutte le parti del corpo per mezzo dei nervi è conosciuto dalla scienza occidentale come forza nervosa. Però gli yogi sa che è una manifestazione di prana che possiede caratteri simili a quelli della corrente elettrica. Si vede che senza questa forza nervosa il cuore non può palpitare, né il sangue circolare, né i polmoni respirare, né i vari organi funzionare. Ed infine, senza di essa la macchina del corpo si guasterebbe. Oltre a ciò, il cervello stesso non può pensare senza la presenza di prana. Quando si considerano questi fatti, l'importanza dell'assorbimento di prana si rende evidente per tutti e la scienza di respirare acquista un valore maggiore di quanto le conceda la scienza occidentale. Gli insegnamenti yogi vanno più in là della scienza occidentale, in una particolarità del sistema nervoso. Alludiamo a ciò che quella chiama plesso solare e considera semplicemente come una delle serie di agglomerazioni di nervi simpatici e gangli che si trovano in diverse parti del corpo. La scienza yogi insegna che questo plesso è in realtà una parte molto importante del sistema nervoso e costituisce una specie di cervello che disimpegna una delle missioni più essenziali nell'economia umana. La scienza occidentale, senza dubbio, pare accostarsi passo passo al riconoscimento di questo fatto, conosciuto dagli yogi orientali da molti secoli. E alcuni scrittori occidentali moderni hanno denominato il plesso solare cervello addominale. Il plesso solare è collocato nella regione epigastrica, dietro la bocca dello stomaco, e a ciascun lato della colonna vertebrale. Si compone di materia cerebrale bianca e grigia, rassomigliante a quella degli altri cervelli dell'uomo. Tiene sotto il suo controllo i principali organi interni e disimpegna un compito più importante di quello che generalmente gli si riconosce. Non approfondiremo la teoria degli yogi concernente il plesso solare e ci limiteremo a dire che lo conoscono come il gran deposito centrale di prana. È un fatto conosciuto quello della morte istantanea di uomini prodotto da un forte colpo dato sul plesso solare. I dilottatori professionali si approfittano di questa vulnerabilità per momentaneamente paralizzare i loro avversari, colpendoli in quella regione. Il nome di solare è ben applicato a questo cervello, perché irradia forza ed energia a tutte le parti del corpo, e perfino il cervello superiore dipende da esso, data la sua qualità di deposito di prana. Tardio o tosto, la scienza occidentale riconoscerà la funzione reale del plesso solare e gli concederà un posto molto più prevalente di quello che attualmente occupa nei suoi insegnamenti e nei suoi libri di testo. Capo sesto. Respirazione nasale, respirazione boccale. Una delle prime lezioni della scienza yogi della respirazione è dedicata ad insegnare come si respiri per le narici e come si sradichi la pratica comune della respirazione boccale. L'apparato respiratorio dell'uomo è conosciuto in modo che può respirare tanto per la bocca come per i tubi nasali. Però la questione di vitale importanza è il metodo che si segue, poiché da esso dipenderà la salute e la forza o l'infermità e la debolezza. Non dovrebbe essere necessario dire allo studioso che il metodo normale di respirare è quello di prendere l'aria per mezzo e attraverso delle fosse nasali. Però, oh, quanto è sorprendente l'ignoranza di questo semplice fatto tra i popoli civili? Troviamo persone di ogni condizione sociale che abitualmente respirano per la bocca e lasciano che i loro figli seguano il loro orribile e ripugnante esempio. Molte infermità alle quali va soggetto l'uomo incivilito sono indubbiamente causate dall'abitudine comune di respirare dalla bocca. I bambini ai quali si permette di respirare in questo modo vengono su con una vitalità alterata e con la loro costituzione debole ed in giovane età diventano invalidi per tutta la vita. Tra i selvaggi, le madri si regolano più naturalmente su questo proposito, perché evidentemente sono guidate dall'istinto. Sembra che per intuito riconoscano che le fosse nasali sono i canali propri per condurre l'aria ai polmoni e abituano i loro figli a chiudere le labbra e a respirare per le narici, facendo loro chinare la testa in avanti quando dormono. Le nostre madri incivilite farebbero un gran bene alla razza se cercassero di adottare lo stesso sistema. Molte malattie contagiose si contraggono per cagione della ripugnante abitudine di respirare per la bocca e numerosi casi di raffreddamenti e affezioni catarrali hanno le stesse origini. Vi sono persone che per salvare le apparenze conservano la bocca chiusa durante il giorno, ma persistono a respirare con la bocca durante la notte e in questo modo contraggono malattie. Fondati esperimenti scientifici fatti con soldati e marinai hanno dimostrato che quelli abituati a dormire con la bocca aperta erano più soggetti a contrare malattie contagiose che non quelli abituati a respirare regolarmente dalle narici. Si narra un caso nel quale il vaiuolo prese carattere epidemico a bordo di un bastimento da guerra e gli attacchi verificatisi furono tra i marinai e soldati di marina che respiravano dalla bocca. L'unico apparato protettore o filtro degli organi respiratori è costituito dalle fosse nasali. Quando si respira dalla bocca nulla vi è, da questa ai polmoni, che filtri l'aria fredda per la bocca, trattenendo la polvere o qualsiasi altro corpo estraneo. Inoltre, questa respirazione inadatta lascia passare l'aria fredda per gli organi e per conseguenza può pregiudicarli. L'infiammazione degli organi respiratori proviene frequentemente dall'inalazione d'aria fredda per bocca e l'uomo che respira così durante la notte si risveglia sempre con una sensazione di secchezza al palato e alla gola. Viola le leggi della natura e così raccoglie i germi della malattia. Per di più, persuadiamoci che la bocca non offre protezione agli organi respiratori e che la polvere, l'aria fredda, le impurità ed i germi penetrano per quell'entrata senza ostacolo. D'altra parte, le fosse nasali rivelano evidentemente la protettrice previdenza della natura a questo riguardo. Le fosse nasali sono due canali stretti e tortuosi che contengono numerosi peli destinati a servire di setaccio e a trattenere le impurità dell'aria, che saranno poi espulse con le esalazioni. Le fosse nasali non hanno soltanto questo scopo, ma disimpegnano eziando la mansione importante di riscaldare l'aria. Le larghe e sinuose fosse nasali sono tappezzate da una membrana mucosa e calda, la quale ha per oggetto di riscaldare l'aria inalata, in modo che non possa progiudicare né gli organi delicati della gola né quelli dei polmoni. Nessun animale, eccettuato l'uomo, dorme con la bocca aperta o respira per mezzo di essa. Ed in realtà si crede che l'uomo incivilito sia l'unico che perverte così le funzioni della natura, giacché le razze selvagge e barbare per lo più respirano correttamente. È probabile che gli uomini inciviliti abbiano acquistato quest'abitudine impropria dovuta ad eccessi nel vestire, nel mangiare o a costumi snervanti. Nelle fosse nasali si filtra, depura e raffina l'aria prima di giungere agli organi delicati della gola e ai polmoni, processo necessario affinché le sue impurità non possano pregiudicarli. Le impurità detenute dalle membrane mucose delle fosse nasali si respingono via con l'esalazione e nel caso che le medesime sian si accumulate troppo rapidamente o siano riusciti a penetrare in regioni viete, la natura ci tutela, producendo sternuti che espellono violentemente le materie strane. L'aria quando penetra nei polmoni è così distinta dall'aria esterna come l'acqua distillata è differente dall'acqua della cisterna. La complicata organizzazione purificatrice delle fosse nasali, trattenendo ed impedendo il passo alle particelle impure dell'aria, compie un atto tanto importante come sia quello della bocca nel trattenere le bucce ed i noccioli, per evitare che passino nello stomaco. Così come l'uomo non s'atterrebbe di prendere i suoi alimenti dalle narici, parimenti non dovrebbe occorrergli di respirare con la bocca. Altra conseguenza della respirazione boccale sia che i passaggi nasali, per causa della relativa loro in attività, non si conservano puliti e sgombri e per conseguenza rimangono esposti a contrarre infermità locali. Così come le strade abbandonate si riempono rapidamente di erbe e di sterpi, allo stesso snodo le fosse nasali che non funzionano si riempiono di impurità e di materie varie. Non è probabile che colui che respira abitualmente con le narici sia soggetto a patire le molestie cagionate dall'accumularsi di mucosità e di altre sostanze nelle fosse nasali. Tuttavia, per vantaggio di coloro che più o meno sono abituati a respirare per la bocca e che desiderano acquistare il metodo naturale e razionale, può tuttavia tornare conveniente aggiungere alcune parole concernenti la maniera di conservare i tubi nasali netti e liberi da impurità. Un metodo preferito in Oriente consiste nell'assorbire un po' d'acqua per le narici, la quale si fa passare per la gola e da questa si getta via per la bocca. Gli yogi hindù immergono il viso in un recipiente d'acqua e per mezzo ad una specie di succhiamento assorbono una quantità regolare di essa, ma questo metodo richiede una pratica considerevole, mentre il metodo precedente è ugualmente efficace e di facile esecuzione. Altra pratica buona consiste nel collocarsi davanti ad una finestra aperta e respirare liberamente tenendo cura di chiudere una fossa nasale con l'indice o pollice e di respirare l'aria per la narice che resta aperta, ripetendo varie volte la stessa operazione, alternativamente con l'una e con l'altra fossa nasale. Questa pratica per lo più farà sparire le ostruzioni della narice. Nel caso che la molestia sia cagionata da catarro, è conveniente impiegare un po' di vaselina bianca canforata o d'altra preparazione analoga. Abbiamo trattato con molta ampiezza la questione della respirazione nasale, non solo per causa della grande importanza che ha nei suoi rapporti con la salute, ma perché la medesima è un requisito che deve precedere gli esercizi di respirazione che si daranno più avanti in questo libro, e costituisce uno dei principi basilari della scienza della respirazione yogi. Insistiamo nel richiamare l'attenzione degli studiosi sulla necessità di adottare questo metodo di respirazione se già non si pratica, e consigliamo di non trascurare e non considerare privo di importanza questo aspetto della questione. Capo settimo. Quattro metodi di respirazione. Nell'esame della questione della respirazione, dobbiamo cominciare a considerare il funzionamento meccanico col quale si effettuano i movimenti della respirazione stessa. Il meccanismo della respirazione si manifesta, primo, con i movimenti elastici dei polmoni, secondo, con le attività delle pareti e col fondo della cavità toracica nella quale sono contenuti i polmoni. Il torace è quella porzione del tronco compresa tra il collo e l'addome, la cui cavità, conosciuta come cavità toracica, è principalmente occupata dal cuore e dai polmoni. È limitato dalla colonna vertebrale, dalle coste con le loro cartilagini, dall'esterno e in basso dal diaframma. Comunemente si chiama petto, ed è stato paragonato ad una cassa completamente chiusa di forma conica, la cui piccola estremità è rivolta all'insù. La sua parte posteriore è composta dalla colonna vertebrale, la parte anteriore dallo sterno e i lati dalle coste. Le coste sono 24, 12 ad ogni lato della colonna vertebrale, cui stanno attaccate. Le sette pari superiori conosciute come vere coste, perché stanno legate allo sterno direttamente, il che non è delle cinque pari inferiori, che si chiamano coste false o flottanti, perché non stanno legate come le anteriore. Le due pari superiori stanno aderenti, per mezzo di cartilagini. Alle altre coste, e le restanti, mancando di queste, hanno la loro parte anteriore libera. Nella respirazione le coste si muovono per mezzo di due involucri superficiali, conosciuti come muscoli intercostali. Il diaframma, divisione muscolare al quale abbiamo alluso prima, separa la cassa del petto dalla cavità addominale. Nel lato dell'inalazione, i muscoli dilatano i polmoni, creando così un vuoto dove l'aria si precipita secondo la ben conosciuta legge fisica. Tutto il processo della respirazione dipende dai menzionati muscoli, che per convenienza possiamo chiamare muscoli respiratori. Senza l'aiuto di questi muscoli non si possono dilatare i polmoni, e la scienza di respirare dipende in gran parte dall'uso e dal giusto controllo dei medesimi, e poi da questo proviene la facilità di ottenere il maggior grado di espansione polmonare e di assorbire la maggior quantità dalle proprietà vitali dell'aria. Gli yoghi classificano la respirazione sotto quattro metodi generali, che sono primo, respirazione alta, secondo, respirazione media, terzo, respirazione bassa, quarto, respirazione completa yoghi. Daremo un'idea generale dei tre primi metodi e parleremo più diffusamente del quarto, sul quale principalmente è fondata la scienza yoghi del respirare. Primo, respirazione alta. Questa forma di respirazione è considerata in occidente come respirazione clavicolare. Colui che respira in questo modo, alza le costole, le clavicole e gli omeri, contraendo, nel tempo stesso, l'addome, che spinge il suo contenuto contro il diaframma, il quale a sua volta si innalza. In questo modo di respirare, si impiega la parte superiore del petto e dei polmoni, che è la più piccola, e per conseguenza solo una minima parte d'aria penetra in essi. Oltre a questo, quando il diaframma si alza, non può avere espansione in tale direzione. Lo studio anatomico del petto convincerà qualsiasi studioso che con questo mezzo si consuma un massimo sforzo per ottenere un minimo beneficio. La respirazione alta probabilmente è la peggior forma di respirare che si conosca, ed esige il maggior consumo di energia con la minor somma di profitto. È sciupare energia per ottenere scarsi risultati, ed è questo molto comune in Occidente, particolarmente tra le donne, e perfino cantori, sacerdoti, avvocati e altri che dovrebbero saperlo la praticano per ignoranza. Molte malattie degli organi vocali e della respirazione possono attribuirsi a questo modo barbaro di respirare, e lo sforzo imposto ad organi tanto delicati dà per risultato le voci rauche e sgradite che sentiamo in ogni dove. Molte delle persone che respirano in questa maniera finiscono per adottare l'uso ripugnante di respirare con la bocca, come fu spiegato nel capitolo precedente. Allo studioso che possa avere dei dubbi sopra quello che abbiamo detto intorno a questa maniera di respirare, consigliamo il seguente esperimento. Espellere tutta l'aria contenuta nei polmoni, e stando in piedi con le mani ai fianchi, alzate le spalle e le clavicole, inalare. Rileverà che la quantità d'aria che assorbe è molto minore della normale, poscia, inali dopo aver abbassate le spalle e le clavicole, ed avrà ricevuta una lezione aggiuntiva di respirazione molto più facile a ricordarsi che non delle parole stampate o dette. Secondo, respirazione media. Questo metodo di respirazione è conosciuto dagli studiosi occidentali come respirazione intercostale, e quantunque meno difettosa della respirazione alta, è molto inferiore a quella bassa e a quella yogi completa. Nella respirazione media, il diaframma sale e l'addome si contrae, le coste si alzano un poco ed il petto si dilata parzialmente. Questa respirazione è molto comune tra gli uomini che non hanno studiato l'argomento, ma siccome vi sono due metodi migliori, noi diamo qui appena un cenno di essa per richiamare l'attenzione sulle sue insufficienze. Terzo, respirazione bassa. Questo sistema è di gran lunga migliore di qualunque dei due precedenti, e da alcuni anni molti scrittori occidentali hanno patrocinato la sua bontà, sfruttandolo sotto il nome di respirazione addominale, respirazione profonda, respirazione diaframmatica, eccetera, eccetera. Ed hanno fatto molto bene richiamando l'attenzione del pubblico sopra questo argomento, poiché hanno indotto molte persone ad impiegarlo invece dei metodi inferiori e dannosi già menzionati. Molti sistemi di respirazione sono stati elaborati intorno alla respirazione bassa, e gli studiosi hanno pagato prezzi elevati per apprendere questi nuovi sistemi. Però, come abbiamo detto, il risultato fu molto buono, e dopo tutto, gli studiosi che hanno pagati alti prezzi per apprendere vecchi sistemi rinfrescati, indubbiamente hanno approfittato del valore del loro denaro se sono stati indotti ad abbandonare i vecchi metodi di alta e media respirazione. Quantunque molte autorità occidentali parlino e scrivano di questo metodo, come nella miglior forma di respirare, gli yogi però sanno che questa non è che una parte di un sistema che essi hanno impiegato durante secoli e conoscono come respirazione completa. Si deve ammettere senza dubbio che è necessario essere familiarizzato con i principi della respirazione bassa, prima di poter avere una chiara idea della respirazione completa. Ma prendiamo a considerare il diaframma. Che cos'è? Abbiamo visto che è il gran muscolo divisore fra il petto e di suoi contenuti. Quando è senza movimento, presenta una superficie concava verso l'addome, cioè il diaframma visto dall'addome sembrerebbe come il cielo visto dalla terra, l'interno di una superficie curva. Per conseguenza, è il lato del diaframma che mira verso gli organi del petto e somigliante alla superficie arcata protuberante di una collina. Quando il diaframma funziona, la protuberanza si abbassa e il diaframma fa pressione sopra gli organi addominali e spinge all'infuori l'addome. Nella respirazione bassa si dà maggior impiego ai polmoni che non nei metodi già menzionati e, per conseguenza, si inala maggior quantità d'aria. Questo fatto ha indotto la maggioranza degli scrittori occidentali a parlare e scrivere della respirazione bassa, che essi chiamano respirazione addominale, come nel metodo più perfetto conosciuto dalla scienza. Ma il yogi orientale conosce da molto tempo un metodo migliore e pochi scrittori occidentali hanno giustamente riconosciuto questo fatto. Il punto difettoso di tutti i metodi di respirazione, ad eccezione della respirazione completa yogi, consiste in ciò che con nessuno dei medesimi si riempiono bene i polmoni d'aria e, nel migliore dei casi, solo una parte dello spazio polmonare è occupato da quella, e così di casi della respirazione bassa nella quale si verifica lo stesso inconveniente. La respirazione alta riempie solamente la parte superiore dei polmoni, la respirazione media riempie soltanto la parte media e una porzione della parte superiore, la respirazione bassa riempie soltanto la parte inferiore e la parte media. È cosa evidente che qualunque metodo che riempie interamente lo spazio polmonare sarà di gran valore per l'uomo, perché gli permetterà di assorbire ossigeno in maggior quantità e di magazzinare una maggior somma di prana. La respirazione completa è conosciuta dagli yogi come la miglior respirazione di cui abbia cognizione la scienza. Quarto, respirazione completa yogi. La respirazione completa yogi contiene tutta la bontà dell'alta, media e bassa respirazione, senza le loro particolarità censurabili. Essa mette in azione tutto l'apparato respiratorio, e cioè ogni parte dei polmoni, ogni cellula d'aria ed ogni muscolo respiratorio. Tutto l'organismo respiratorio obbedisce a questo metodo di respirare e col minor consumo di energia si ottiene la maggior somma di beneficio. La capacità del petto raggiunge i suoi limiti normali ed ogni limite della macchina adempia le proprie funzioni e disimpegna il suo lavoro naturale. Una delle caratteristiche più importanti di questo metodo di respirare si è che i muscoli respiratori entrano in gioco completamente, mentre nelle altre forme di respirazione si utilizza solo una parte di questi muscoli. Nella respirazione completa, fra gli altri muscoli, quelli che controllano le coste, lavorano attivamente, il che aumenta lo spazio nel quale i polmoni possono dilatarsi, ed altre sì offrono un punto d'appoggio adeguato agli organi quando è necessario, applicando alla natura in questo movimento il principio della leva. Certi muscoli mantengono le coste inferiori fermamente in posizione, mentre altri le curvano all'infuori, cosicché con questo metodo il diaframma resta sotto controllo perfetto ed è capace di eseguire normalmente le sue funzioni e rendere il massimo di servizio. Nell'azione delle coste menzionate poco più sopra, le coste inferiori sono controllate dal diaframma che le tira leggermente verso il basso, mentre gli altri muscoli le mantengono in posizione e gli intercostali sforzano verso il di fuori, e da questa concatenata azione risulta l'anninto massimo della capacità toracica. Oltre a questo, le coste superiori sono pure innalzate e forzate verso il di fuori dai muscoli intercostali, il che aumenta le capacità della parte superiore del petto al suo maggior grado di estensione. Se furono studiate le caratteristiche speciali dei quattro metodi menzionati di respirazione, si sarà notato che la respirazione completa comprende tutti gli aspetti benefici degli altri tre metodi, oltre ai vantaggi reciproci che derivano dall'azione comune della parte superiore e media del petto, dalla regione diaframmatica e dal ritmo normale così ottenuto. Nel prossimo capitolo tratteremo della pratica della respirazione completa e daremo tutte le istruzioni e gli esercizi necessari per l'acquisto di questo metodo superiore di respirazione. Capo ottavo. Come si acquista la completa respirazione yogi? La completa respirazione yogi è la respirazione fondamentale di tutta la scienza yogi della respirazione, e lo studioso deve completamente familiarizzarsi con la medesima e dominarla totalmente, prima di poter ottenere risultati dalle altre forme di respirazione menzionate e descritte in questo libro. Non deve accontentarsi con l'apprenderla a metà, ma deve seriamente ad operarsi finché giunga ad essere il suo metodo naturale di respirazione. Questo esigerà lavoro, tempo e pazienza, ma senza di ciò non si otterrà mai niente di importante. Non è il cammino piano quello che conduce verso la scienza della respirazione e lo studioso deve prepararsi a praticare e lavorare seriamente se desidera raccogliere qualche frutto. I risultati ottenuti dal completo dominio della scienza di respirare sono grandi e nessuno che lo abbia praticato cercherà più di ritornare ai vecchi metodi, ma dirà invece ai suoi amici che si considera sovrabbondantemente ricompensato per tutto il suo lavoro. Diciamo questo ora affinché si comprenda bene l'importanza e la necessità di conquistare questo metodo fondamentale della respirazione yogi, anziché lasciarlo da banda e perché si faccia immediatamente la prova di alcuni esercizi che si descriveranno in seguito e che potrebbero maggiormente richiamare l'attenzione. Di nuovo ripetiamo, cominciate bene ed i risultati saranno buoni, ma se viene trascurata la base fondamentale tutta la costruzione rovinerà tardi o tosto. Talvolta la migliore maniera di insegnare come si consegue la completa respirazione yogi sarebbe di cominciare con semplici istruzioni sulla respirazione stessa, seguite da osservazioni generali e poscia, dare esercizi per ampliare il petto, i muscoli, i polmoni che sono stati incompletamente sviluppati per l'imperfetto modo di respirare. Prima di andare avanti diremo che questa respirazione completa non ha nulla di forzato o di anormale, ma viceversa non è altro che un seguire i primi ed elementari principi, cioè ritornare alla natura. Tanto il selvaggio adulto quanto il bambino della civiltà respirano a questo modo quando sono sani, ma l'uomo civile adottò metodi antinaturali di vivere, vestire, eccetera, ed ha perduto così questo diritto natio. Facciamo notare al lettore che la respirazione, completa, non consiste necessariamente nel riempire totalmente i polmoni in ogni inalazione. Si può inalare la quantità abituale d'aria usando il metodo di respirazione completa e distribuirla in tutte le parti dei polmoni, ancorché la sua quantità sia maggiore o minore, però dovrebbe praticare una serie di inalazioni complete, varie volte al giorno e quando se ne presenta l'opportunità, col proposito di conservare l'organismo in ordine ed in buone condizioni. Il semplice esercizio seguente permetterà di formarsi un concetto chiaro di ciò che sia la respirazione completa. Primo, in piedi o seduti, col busto in posizione verticale e respirando per le fosse nasali, si inala fermamente riempiendo dapprima la parte inferiore dei polmoni, lo che si ottiene mettendo in azione il diaframma, che nel discendere esercita una lieve pressione sugli organi addominali e spinge la parete frontale dell'addome. Poscia, si riempie la regione media dei polmoni, facendo alzare le coste inferiori, lo sterno ed il petto. Di poi, riempire la parte superiore dei polmoni, estendendo la parte superiore del petto, elevando questo, che comprende le sette paia di coste superiori. Nel movimento finale, la parte superiore dell'addome si contrarrà leggermente e questo movimento darà appoggio ai polmoni ed inoltre faciliterà il riempimento della parte superiore. Alla prima lettura potrà sembrare che questa respirazione consti di tre movimenti distinti, ma certamente non è questa l'idea giusta. L'inalazione è continua e tutta la cavità toracica, dal diaframma fino al punto più elevato del petto, nella regione clavicolare, si dilata con movimento uniforme. Occorre evitare le inalazioni brusche e sforzarsi per ottenere un'azione regolare e continua. La pratica dominerà presto la tendenza a dividere l'inalazione in tre movimenti e darà per risultato una respirazione continua ed uniforme. Basteranno poche prove o di esercizi perché si possa completare l'inalazione in un paio di secondi. Secondo, ritenere la respirazione per alcuni secondi. Terzo, esalare molto ad agio, mantenendo il petto in posizione ferma, facendo rientrare un poco l'addome ed alzandolo lentamente a misura che l'aria abbandona i polmoni. Quando l'aria è stata esalata completamente, rilassare il petto e l'addome. Con un po' di pratica si eseguerà facilmente questa parte dell'esercizio ed il movimento verrà poi eseguito automaticamente. Si noterà che con questo metodo di respirare tutte le parti dell'apparato respiratorio entrano in azione e tutte le parti dei polmoni funzionano, comprese le più recondite cellule d'aria. La cavità del petto si dilata in tutte le direzioni. Si osserverà inoltre che la respirazione completa è in realtà una combinazione delle respirazioni basse, medie ed alte, succedendosi rapidamente nell'ordine indicato, di guisa che formano una respirazione uniforme, continua e completa. Se praticasi l'esercizio davanti ad un grande specchio, collocando leggermente la mano sopra l'addome, in modo che si possano sentire i movimenti, si noterà che questo aiuta molto a comprendere il meccanismo della respirazione completa. Alla fine della innalazione è conveniente alzare di quando in quanto gli omeri, che a loro volta elevano le clavicole e permettono all'aria di passare liberamente al piccolo lobulo superiore del polmone destro, dove comincia talvolta la tubercolosi. Al principio si troveranno difficoltà maggiori o minori nel superare la respirazione completa, però, con un po' di pratica, le difficoltà si allontaneranno e, quando riusciti, non si tornerà mai più, volontariamente, agli antichi metodi. Capo nono. Effetti fisiologici della respirazione completa Difficilmente si potrà parlare troppo dei vantaggi che derivano dalla pratica della respirazione completa. Nessun dubbio che lo studioso che abbia letto con attenzione le pagine precedenti non avrà certamente alcun bisogno che gli si segnalino tali vantaggi. La pratica della respirazione completa renderà qualsiasi uomo o donna immune dalla consunzione e da qualsiasi altra affezione polmonare, e allontanerà perfino le possibilità di prendersi dei raffreddori, delle bronchiti, ecc. La consunzione è principalmente dovuta ad una diminuzione della vitalità che può essere attribuita all'inalazione insufficiente di aria. La diminuzione di vitalità lascia l'organismo senza difesa contro gli attacchi dei germi dell'infermità. Il respirare incompleto permette ad una parte dei polmoni di restare inattiva, e questa presenta così un considerevole terreno preparato ai bacilli, che prontamente la invadono e producono stragi. Un tessuto polmonare buono e sano resisterà ai germi, e l'unica maniera di conservarlo in queste condizioni è di utilizzare normalmente i polmoni. I tisici hanno di solito il petto ristretto. Che significa questo? Semplicemente che essi hanno preso abitudini respiratorie difettose, e per conseguenza il loro petto non ha potuto svilupparsi. L'uomo che pratica la respirazione completa avrà un petto ampio e ben sviluppato, e chi abbia il petto ristretto potrà acquisire le proporzioni normali solamente con adottare questo metodo di respirazione. Costui deve sviluppare la sua capacità toracica se apprezza la propria vita. I raffreddori molte volte si possono evitare quando appunto si è esposti a coglierli, eseguendo una certa quantità di respirazioni complete. Quando si sente freddo, basta respirare con vigore alcuni minuti perché il corpo prenda calore. Molti raffreddori possono guarirsi con la respirazione completa e con l'astinenza parziale dal cibo durante una giornata. La qualità del sangue dipende in gran parte dalla debita sua ossigenazione nei polmoni, e se questa ossigenazione è incompleta, il sangue si impoverisce, si carica ad ogni sorta di impurità, l'organismo soffre per mancanza di nutrizione e si avvelena per causa dei prodotti di rifiuto non stati eliminati. Come tutto il corpo, ogni organo e ogni parte dipendono dal sangue per la loro nutrizione. È perciò evidente che un sangue impuro produrrà un effetto dannoso su tutto l'organismo. Il rimedio è semplice, si pratichi la respirazione completa yogi. Lo stomaco e gli altri organi di nutrizione soffrono molto per la respirazione imperfetta. Non solamente restano malnutriti per il difetto di ossigeno, ma come l'alimento deve assorbire ossigeno dal sangue prima di poter venire digerito ed assimilato, così è facile vedere come la digestione e l'assimilazione soffrono per una respirazione difettosa. Se quando l'assimilazione non è normale, il sistema riceve ogni volta minor nutrizione, l'appetito si perde, il vigore corporale decresce, la forza diminuisce e l'uomo declina e si consuma. Tutto questo proviene dalla respirazione difettosa. Lo stesso sistema nervoso soffre per la respirazione incompleta e pertanto il cervello, il midollo spinale, i centri nervosi e ad un tempo i nervi diventano poveri ed insufficienti strumenti per produrre, immagazzinare e trasmettere le correnti nervose quando non sono sufficientemente nutriti di sangue. Vi ha pure un altro aspetto dell'argomento, ed è che le stesse correnti nervose, o per meglio dire la forza che deriva dalle medesime, diminuisce per difetto di una respirazione corretta. Ma questo appartiene ad un'altra fase della questione, che tratteremo in altri capitoli di questo libro, limitandoci per ora a concentrare l'attenzione del lettore sul fatto che il meccanismo nervoso diventa uno strumento inefficace per trasformare la forza nervosa, essendo questo un risultato indiretto del vizio di una respirazione appropriata. L'effetto degli organi di riproduzione sulla salute generale è troppo conosciuto, perché noi ci vediamo obbligati a trattarlo indisteso. Però ci permettiamo soltanto di avvertire che se gli organi riproduttori rimangono debilitati, l'intero organismo ne risente l'azione per riflesso, e conseguentemente ne patisce. La respirazione completa produce un ritmo che obbedisce ad un piano della natura per conservare questa parte importante dell'organismo in condizione normale, ed in seguito si noterà che le funzioni di riproduzione così vengono rafforzate e vivificate per azione simpatica e riflessa, tonificando tutto il sistema. Con ciò non intendiamo dire che debbansi risvegliare gli istinti sessuali inferiori, lungi da questo. Gli yogi consigliano la contingenza e la castità, e hanno insegnato a dominare le passioni animali. Però controllo o dominio sessuale non vuol già dire debolezza sessuale, e le dottrine degli yogi ci dicono che l'uomo, oppure la donna, il cui organismo generativo è normale e sano, avranno maggior forza di volontà per controllare se stessi. Gli yogi crede che molto del pervertimento di questa parte meravigliosa dell'organismo proviene maggiormente da un difetto nella salute normale, che è piuttosto il risultato di condizioni morbose che in condizioni normali di questi organi. Un esame un po' diligente della questione dimostrerà che gli insegnamenti degli yogi sono giusti. Questo non è il momento opportuno per considerare l'argomento dettagliatamente, e perciò noi ci limiteremo a dire che gli yogi conoscono che l'energia sessuale può essere conservata ed utilizzata dall'uomo nello sviluppo del suo corpo e della sua mente, invece di sciuparla imprudentemente in eccessi, come fanno per ignoranza molte persone. Come postulato speciale daremo in questo libro un esercizio yogi preferito a questo proposito. Ma sia che lo studioso desideri o no adottare le teorie yogi di continenza e di castità, verificherà che la respirazione completa attribuirà molto di più al ripristino della salute di questa da parte dell'organismo che qualunque altro metodo che possa aver sperimentato. Intendassi bene, vogliamo dire salute normale e non già uno sviluppo eccessivo. Il sensuale troverà che normale significa una diminuzione del desiderio piuttosto che un aumento, mentre l'uomo o la donna, indeboliti, risentiranno alleviamento e tonico della depressione di cui fino allora avessero sofferto. Desideriamo non essere mal compresi né mal citati sopra questo argomento. L'ideale dello yogi si è ad avere un corpo forte in ogni sua parte, sotto il controllo di una poderosa volontà, animata da alte aspirazioni. Nella pratica della respirazione completa, il diaframma si contrae durante l'inalazione ed esercita una live pressione sul fegato, sullo stomaco e sugli altri organi, che in combinazione col ritmo dei polmoni effettua come un suave massaggio di questi organi, stimola la loro azione ed il loro funzionamento normale. Ogni inalazione collabora in questo esercizio interno e assiste alla produzione di una circolazione normale negli organi di nutrizione e di eliminazione. Nella respirazione alta e media, gli organi perdono il beneficio risultante da questo massaggio interno. Il mondo occidentale sta prestando molta attenzione alla cultura fisica, in questi momenti, e ciò è assai conveniente. Però, nel suo entusiasmo, non deve dimenticare che non consiste tutto nell'esercizio dei muscoli esterni. Anche gli organi interni ha bisogno di esercizio, ed il piano della natura per questo scopo è la respirazione normale, ed il diaframma è il suo strumento principale. Il suo movimento fa vibrare gli organi importanti della nutrizione e dell'eliminazione ed esalazione, precipita il sangue in essi. Per spremerlo poi, etonifica l'organismo in generale, qualsiasi organo o parte del corpo che non si esercita, si atrofizza gradatamente e cessa di funzionare normalmente. e la mancanza d'esercizio interno prodotto dall'azione diaframmatica porta alla infermità degli organi. La respirazione completa determina invece il movimento proprio del diaframma ed esercita la parte media e superiore del petto. In verità, completa nella sua azione. Sotto il punto di vista della fisiologia occidentale, senza tener conto della scienza e delle filosofie orientali, il sistema yogi della respirazione completa è di importanza vitale per qualsiasi uomo, donna o giovane che vogliano ottenere la salute e conservarla. La sua stessa semplicità impedisce a migliaia di persone di seriamente esaminarla, mentre consumano patrimoni in cerca di salute per mezzo di sistemi complicati e costosi. La salute batte alle loro porte ed essi non se ne accorgono. Veramente, la pietra che i costruttori rifiutano è la pietra angolare del tempio della salute. Capodecimo. Alcuni frammenti delle dottrine yogi. Daremo ora tre forme di respirazione molto usuali tra gli yogi. La prima è quella ben nota sotto il nome di respirazione purificatrice yogi, alla quale particolarmente si attribuisce la grande resistenza polmonare che posseggono gli yogi. Essi terminano abitualmente ogni esercizio di respirazione con questa respirazione purificatrice, e noi, in questo libro, abbiamo seguito lo stesso piano. Daremo altresì l'esercizio vivificatore dei nervi, che durante molti secoli venne trasmesso tra gli yogi. Esercizio che mai è stato perfezionato dai maestri occidentali di cultura fisica, allorquando taluni di essi lo hanno preso a prestito dai maestri di yoga. Termineremo il capitolo con la respirazione vocale, alla quale si deve in gran parte la voce melodiosa, vibrante e simpatica degli yogi orientali. Riteniamo che se questo libro non contenesse nient'altro che questi tre esercizi, sarebbe già senza dubbio di un valore incalcolabile per lo studioso occidentale. Accettatelo come un regalo dei vostri fratelli d'Oriente e ponetelo in pratica. Respirazione purificatrice yogi. Gli yogi hanno una forma perfetta di respirare che usano, allorché sentono la necessità di ventilare e pulire i polmoni. Finiscono molti dei loro esercizi respiratori con questa respirazione, e come abbiamo detto, noi seguiamo la stessa pratica in questo libro. Questa respirazione purificatrice ventila e netta i polmoni, stimola le cellule, tonifica gli organi respiratori e contribuisce a mantenere un buono stato generale di salute, rinfrescando per di più l'intero organismo. Oratori, cantanti, eccetera, troveranno questa respirazione di gran valore per il riposo degli organi respiratori e faticati. Primo, inalare una respirazione completa. Secondo, ritenere l'aria alcuni secondi. Terzo, mettere le labbra in attitudine di fischiare, però senza gonfiare le guance, ed esalare con un vigore considerevole un po' d'aria attraverso l'apertura fermata da esse. Ritenere un momento l'aria, così immagazzinata, e quindi esalarla a piccole porzioni, finché siasi tutta esalata. Devesi ricordare che nell'esalare l'aria si ha da impiegare un vigore considerevole. Si avvertirà che questa respirazione è assai riparatrice quando si è aggravati e stanchi dalla fatica, ed un esperimento convincerà lo studioso della sua efficacia. Siccome questo esercizio si pratica al termine di molti altri di quelli che diamo in quest'opera, così dovrebbe essere perfettamente compreso e praticato, fino a poterlo realizzare con facilità e naturalezza. Respirazione yogi vivificatrice dei nervi. Questo esercizio è molto apprezzato dagli yogi che lo considerano come uno, fra quelli conosciuti dall'uomo, di quelli che più poderosamente stimolano e rinvigoriscono i nervi. Questo esercizio produce un'azione stimolante sovra centri nervosi importanti, i quali alla loro volta influenzano e danno energia al sistema nervoso a tutte le parti del corpo. Primo, in piedi e col corpo eretto. Secondo, inalare una respirazione completa e ritenerla. Terzo, distendere le braccia in avanti alquanto flessuose, cioè con la sola forza necessaria per mantenerle in tale posizione. Quarto, ritirare le mani lentamente verso le spalle, contraendo gradatamente i muscoli e comunicando loro della forza, di modo che, quando i pugni giungono alle spalle, siano così fortemente serrati come per produrre un movimento di trepidazione. Quinto, conservati i muscoli rigidi, rivolgere unitamente i pugni alla posizione anteriore e mantenendo lo stato di tensione, ritraggansi rapidamente ripetendo i movimenti varie volte. Sesto, esalare vigorosamente l'aria per la bocca. Settimo, eseguire la respirazione purificatrice. L'efficacia di questo esercizio dipende principalmente dalla rapidità nel ritirare i pugni, dalla tensione dei muscoli e naturalmente dall'essere completa l'inalazione. È necessario provare questo esercizio per poterlo apprezzare. Esso è un rivigoritore senza uguale. Respirazione vocale yogi Gli yogi impiegano una forma di respirazione per lo sviluppo della voce, ed essi distinguonsi per la loro voce meravigliosa, forte, suave, chiara e di gran potere. Essi hanno praticato questa forma particolare di esercizio respiratorio ed hanno conseguito come risultato di rendere la propria voce suave, magnifica e flessibile, comunicandole l'indescrivibile sua qualità modulata e di gran forza. L'esercizio seguente darà col tempo le proprietà che testè abbiamo menzionate, ossia la voce yogi, allo studioso che lo pratichi con perseveranza. Si comprende naturalmente che questa forma di respirazione deve impiegarsi solamente come un esercizio occasionale e non come una forma regolare di respirare. Primo, inalare una respirazione completa, assai lenta e continuamente per le fosse nasali, facendo durare l'inalazione il maggior tempo possibile. Secondo, ritenere l'inalazione alcuni secondi. Terzo, espellere l'aria vigorosamente in un soffio attraverso la bocca aperta. Quarto, dar riposo ai polmoni per mezzo della respirazione purificatrice. Senza entrare profondamente nella teoria yogi intorno alla produzione del suono nel parlare e nel cantare, diremmo che l'esperienza li è maestro, che il timbro, la qualità e il potere di una voce dipendono non soltanto dagli organi vocali della gola, ma pur anche dai muscoli facciali, eccetera, che hanno molta influenza in questa bisogna. Alcuni uomini dal petto largo non producono che un suono scarso, mentre altri di petto relativamente stretto producono suoni di una forza e qualità sorprendenti. Avvia questo riguardo un esperimento interessante che merita ad essere provato. Collocatevi di fronte ad uno specchio, con le labbra in atteggiamento di zufolare. Zufolate ed osservate la forma della vostra bocca e l'espressione generale del sembiante. Quindi, cantate o parlate come fate abitualmente ed osservate la differenza. Allora, datevi a zufolare per alcuni secondi e senza cambiare la posizione delle vostre labbra e del volto, cantate alcune note ed apprezzerete qual suono vibrante, sonoro, chiaro e simpatico si produce. I sette esercizi seguenti vengono di preferenza impiegati dagli yogi per sviluppare i polmoni, i muscoli, i gangli, le cellule d'aria, eccetera. Sono molto semplici, ma straordinariamente efficaci. La loro semplicità non diminuisce l'interessamento che essi meritano, giacché i medesimi rappresentano il risultato di accurati esperimenti per opera di yogi, nonché l'essenza di numerosi esercizi assai complicati, le cui parti essenziali sono state eliminate. Primo, respirazione ritenuta. È questo un esercizio molto importante, che tende a fortificare e a sviluppare così i muscoli respiratori come i polmoni, e la sua pratica frequente contribuirà altresì ad allargare il petto. Gli yogi hanno verificato che una ritenzione occasionale della respirazione, dopo che i polmoni siano si riempiti con una respirazione completa, è utile assai, non soltanto per gli organi respiratori, bensì anche per quelli di nutrizione, del sistema nervoso, nonché del sangue stesso. Essi hanno constatato che una sospensione occasionale della respirazione aiuta la purificazione dell'aria che è rimasta nei polmoni, proveniente dalle inalazioni anteriori, e concorre altresì ad ossigenare più completamente il sangue. Sanno pure che la respirazione, così ritenuta, raccoglie tutte le dispersioni e che, quando si esala, porta con sé le materie usate dall'organismo e ripulisce i polmoni, ha la stessa guisa che è un purgante lava gli intestini. Gli yogi raccomandano questo esercizio per i vari disordini dello stomaco, del fegato e del sangue, e verificano eziando frequentemente che esso cura il cattivo alito, dovuto molte volte a polmoni scarsamente ventilati. Raccomandiamo agli studiosi di prestare considerevole attenzione a questo esercizio, che grandemente lo merita. Le seguenti istruzioni daranno un'idea chiara del modo di praticarlo. Primo, in piedi col corpo dritto. Secondo, inalare una respirazione completa. Terzo, ritenere l'aria per tanto tempo quanto sia possibile, ma senza violenza. Quarto, esalare vigorosamente dalla bocca aperta. Quinto, eseguire la respirazione purificatrice. Da principio si potrà ritenere la respirazione soltanto per brevi istanti, ma con un po' di pratica si faranno grandi progressi. Si potrà consultare un orologio per apprezzare i risultati che si andranno conseguendo. Secondo, stimolo delle cellule polmonari. Lo scopo di questo esercizio è di stimolare le cellule d'aria dei polmoni, ma i praticanti non devono praticarlo con eccesso né con troppo vigore. Può da principio produrre in alcuni un po' di nausea, lo che si potrà evitare sospendendo l'esercizio e camminando per un momento. Primo, in piedi, col corpo eretto e con le mani ai fianchi. Secondo, inalare molto lentamente e gradatamente. Terzo, mentre si inala, battere dolcemente il petto con la punta delle dita, percorrendolo continuamente in tutta la sua estensione. Quarto, quando i polmoni sono pieni, si ritiene la respirazione e si batte il petto con la palma delle mani. Quinto, praticare la respirazione purificatrice. Questo esercizio stimola e tonifica tutto il corpo ed è una pratica yogi ben nota. Molte delle cellule d'aria dei polmoni perdono la loro attività per cagione di una respirazione incompleta e a poco a poco giungono ad atrofizzarsi. Quelli che per anni abbia praticato una respirazione incompleta non troverà facile mettere in attività immediatamente, per mezzo della respirazione completa, tutte queste cellule d'aria state trascurate. Tuttavia, questo esercizio aiuterà molto a conseguire il risultato desiderato e merita perciò che esso venga studiato e praticato. Terzo, estensione delle costole. Abbiamo spiegato che le costole rimangono fissate per mezzo di cartilagini che ammettono un'espansione considerevole. Nella respirazione normale le costole disimpegnano una funzione importante ed è cosa buona dare ad esse, occasionalmente, un po' di esercizio speciale, nell'intento di mantenere la loro elasticità. La consuetudine che molti occidentali hanno di stare in posizioni non naturali, sia che essi rimangano in piedi o siano seduti, può far perdere alle costole la loro elasticità e questo esercizio contribuirà molto ad evitare e a combattere tale difetto. Primo, in piedi e col corpo dritto. Collocare le mani in ogni lato del corpo, setto e tanto attorno alle costole quanto più è possibile, coi pollici diretti verso la spalla, le palme sui lati del petto e le dita sopra la fronte. Terzo, inalare una respirazione completa. Quarto, ritenere l'aria per un breve tempo. Quinto, quindi si comprimono dolcemente i lati e nello stesso tempo si esala l'aria. Sesto, eseguire la respirazione purificatrice. Questo esercizio deve usarsi con moderazione e con precauzione. Quarto, espansione del petto. Il petto è molto esposto a deprimersi a causa della posizione inclinata del corpo sopra il lavoro, eccetera. Il seguente esercizio è assai buono per ristabilire le condizioni naturali ed ottenere la dilatazione o despansione del petto. Primo, in piedi e col corpo eretto. Secondo, inalare una respirazione completa. Terzo, ritenere l'aria. Quarto, protendere le braccia in avanti, coi pugni chiusi ed al livello delle spalle. Quinto, spostare i pugni vigorosamente all'infuori, di guisa che formino una linea retta con le spalle. Sesto, poscia, ritornare alla quarta posizione e da questa alla quinta e ripetere questo esercizio varie volte. Settimo, esalare vigorosamente l'aria dalla bocca aperta. Ottavo, eseguire la respirazione purificatrice. Si faccia questo esercizio con prudenza evitando qualsiasi esagerazione. Quinto, esercizio camminando. Primo, camminare a passo misurato, con la testa alta, col mento leggermente rientrato e con le spalle basse o cadenti. Secondo, inalare una respirazione completa contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un numero ad ogni passo, regolandosi in modo che la inalazione duri il tempo inverso negli 8 passi. Terzo, esalare lentamente dalle fosse nasali e contando come anteriormente si è detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un numero ad ogni passo. Quarto, riposarsi tra le respirazioni senza sospendere il cammino, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un numero per passo. Quinto, ripetere l'esercizio fino a che si senta un principio di stanchezza, quindi riposarsi un momento e a piacere riprendere l'esercizio. Realizzarlo varie volte in un giorno. Alcuni yogi modificano questo esercizio trattenendo la respirazione mentre contano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ed esalando poi contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si può adottare il modo che si preferisce. Sesto, esercizio del mattino. Primo, in piedi col corpo dritto ed in atteggiamento militare, col capo alto, con gli occhi fissi in avanti, spalle cadenti, ginocchia ferme e braccia ai fianchi. Secondo, elevare lentamente il corpo sulla punta dei piedi, inalando una respirazione completa con lentezza e fermezza. Terzo, ritenere la respirazione alcuni secondi conservando la stessa posizione. Quarto, distendere lentamente alla primitiva posizione esalando ad agio, nello stesso tempo, l'aria per le fosse nasali. Quinto, eseguire la respirazione purificatrice. Sesto, ripetere varie volte l'operazione, usando alternativamente la gamba destra e la sinistra. Settimo, per stimolare la circolazione. Primo, in piedi e col capo dritto. Secondo, fare una respirazione completa e ritenerla. Terzo, inchinarsi leggermente in avanti ed afferrare un bastone con energia e fermezza, sviluppando gradatamente tutta la forza nello stringere il bastone. Quarto, tralasciare di premere il bastone, ritornare alla posizione primitiva ed esalare lentamente l'aria. Quinto, ripetere la manovra varie volte. Sesto, terminare l'esercizio con la respirazione purificatrice. Questo esercizio può praticarsi senza usare il bastone, afferrando invece soltanto un bastone immaginario ed impiegando la volontà per esercitare la pressione. Questo esercizio è una pratica preferita ai yogi, allo scopo di stimolare la circolazione, conducendo il sangue venoso al cuore ed ai polmoni, affinché possano prendere l'ossigeno inalato dall'aria. In caso di circolazione difettosa, non vi è sangue sufficiente nei polmoni per assorbire tutto l'ossigeno inalato, e perciò il sistema non trae tutto il profitto dalla respirazione migliorata. In questi casi, particolarmente, è utile praticare questi esercizi occasionalmente, col regolare esercizio della respirazione completa. Capo dodicesimo. Sette esercizi minori yogi. In questo capitolo daremo sette esercizi minori della respirazione yogi, che senza avere nomi speciali, sono pur tuttavia distinti e indipendenti gli uni dagli altri, ciascuno di essi avendo un suo scopo particolare. Ogni studioso riscontrerà che taluni di questi esercizi si adattano meglio alle necessità speciali del suo caso particolare. Avvenga che, e noi abbiamo denominati questi esercizi, esercizi minori. Essi sono tuttavia molto utili ed efficaci, altrimenti non sarebbero stati nemmeno indicati in questo libro. I medesimi presentano contemporaneamente un corso condensato di cultura fisica e di sviluppo polmonare, e facilmente potrebbero venire ampliati ed elaborati in un piccolo libro sopra questo argomento. Naturalmente i medesimi hanno un valore addizionale, perché la respirazione yogi costituisce una parte di ogni esercizio. Nevi ha ragione per lasciarli da banda, perché li chiamiamo minori, imperciò che alcuni o parecchi di questi esercizi possono appunto essere quelli di cui si abbia bisogno. Se ne faccia l'esperimento ed ognuno decida per se stesso. Esercizio primo. Primo, in piedi, fermo e con le mani ai fianchi. Secondo, inalare una respirazione completa. Terzo, alzare le braccia lentamente, mantenendole rigide, finché le mani tocchino al di sopra della testa. Quarto, ritenere la respirazione alcuni minuti rimanendo con le mani nella posizione anzidetta. Quinto, far discendere le mani lentamente ai fianchi e nello stesso tempo esalare ad agio. Sesto, eseguire la respirazione purificatrice. Esercizio secondo. Primo, in piedi, fermo, con le braccia tese in avanti. Secondo, inalare una respirazione completa e ritenerla. Terzo, girare le braccia orizzontalmente all'indietro fin dove possono arrivare. Ritornare all'iniziale posizione. Ripetere varie volte questi movimenti, ritenendo, frattarito, la respirazione. Quarto, esalare vigorosamente l'aria per la bocca. Quinto, eseguire la respirazione purificatrice. Esercizio terzo. Primo, in piedi, fermo, con le braccia tese in avanti. Secondo, inalare una respirazione completa. Terzo, compiere un movimento circolare con le braccia all'indietro, parecchie volte, e fare poi lo stesso movimento nel senso inverso, ritenendo, in questo mentre, la respirazione. Si può variare questo movimento alternando la rotazione come le ali di una ruota ad un mulino a vento. Quarto, esalare vigorosamente l'aria per la bocca. Quinto, fare la respirazione purificatrice. Esercizio quarto. Primo, coricato, con la bocca in basso, con le mani ai fianchi e le palme appoggiate al suolo. Secondo, inalare una respirazione completa e ritenerla. Terzo, col corpo rigido lo si alzi con la forza delle braccia finché il medesimo si poggi sopra le mani e sopra le dita dei piedi. Quarto, ritornare alla posizione iniziale. Ripetere varie volte questo movimento. Quinto, esalare vigorosamente l'aria per la bocca. Sesto, compiere la respirazione purificatrice. Esercizio quinto. Primo, in piedi, fermo, con la palma delle mani appoggiata alla parete. Secondo, inalare una respirazione completa e ritenerla. Terzo, avvicinare il petto fino alla parete, reggendo il peso del corpo sulle mani. Quarto, ritirare il corpo all'indietro, solamente con la forza muscolare delle braccia, mantenendo il corpo rigido. Quinto, esalare vigorosamente l'aria per la bocca. Sesto, praticare la respirazione purificatrice. Esercizio sesto. Primo, in piedi, fermo, con le braccia alla cintola, cioè con le mani appoggiate sui fianchi e di gomiti all'infuori. Secondo, inalare una respirazione completa e ritenerla. Terzo, mantenere le gambe e le anche rigide e piegare il busto molto in avanti, come per fare un grande inchino e nel tempo stesso esalare lentamente l'aria. Quarto, ritornare alla primitiva posizione e compiere un'altra respirazione completa. Quinto, piegarsi all'indietro, esalando lentamente l'aria. Sesto, riprendere la primitiva posizione, facendo una respirazione completa. Settimo, piegare il tronco sopra un fianco, esalando lentamente l'aria. Si alterni questo movimento inchinandosi a dritta e a sinistra. Ottavo, eseguire la respirazione purificatrice. Esercizio settimo. Primo, in piedi, fermo oppure seduto, col busto dritto ed eretta pure la colonna vertebrale. Secondo, fare una respirazione completa. Però, invece di compierla di un sol fiato, inalare a brevi intermittenze, rapide e frequenti, come se si fiutasse la fragranza di sale aromatici ed ammoniaca, senza cercare di assorbire una quantità eccessiva. Non esalare alcuna di queste piccole inalazioni, fino a tanto che sian si congiunte le une alle altre e abbiano completamente riempito gli spazi polmonari. Terzo, ritenere questa respirazione per alcuni secondi. Quarto, esalare l'aria dalle fosse nasali con un'emissione larga e lenta. Quinto, compiere la respirazione purificatrice. Capo tredicesimo. Vibrazione e respirazione ritmica yogi. Tutto in vibrazione, dal più piccolo atomo fino al maggiore tra i soli. Tutto vibra. Nulla si trova in assoluto riposo nella natura ed un atomo privato di vibrazione distrurrebbe l'universo. Tutta l'opera universale si esplica in una vibrazione incessante. La materia è costantemente manipolata dall'energia e ne risultano forme infinite e varietà senza numero, mentre non vi ha dubbio che né le forme né le varietà sono permanenti. Esse cominciano a cambiare fin dal momento in cui vengono create. Da esse nascono forme innumerevoli, che alla loro volta cambiano pure e danno origine ad altre forme nuove, e così via, in continua successione, all'infinito. Nulla è permanente nel mondo delle forme, e ciò nonostante, la grande realtà è immutabile. Le forme non sono altro che apparenze. Vanno e vengono. Una, la realtà, è eterna ed invariabile. Gli atomi del corpo umano si trovano in costante vibrazione e si spostano e si incontrano nei ricambi incessanti. In pochi mesi si verifica così il cambio completo della materia che compone il corpo, ed è ben difficile che un atomo di quelli che ora formano il nostro corpo si trovi ancora nel medesimo fra qualche mese. Vibrazione, dunque. Costante vibrazione. Cambiamento e costante cambiamento. In ogni vibrazione vi è certamente ritmo. Il ritmo compenetra l'universo. Il movimento dei pianeti attorno al sole. L'alzarsi e l'abbassarsi del mare. Il battito del cuore. Il flusso ed il riflusso delle maree. Tutto obbedisce a leggi ritmiche. I raggi del sole pervengono sino a noi, e la pioggia cade obbedendo alla medesima legge. Ogni accrescimento è soltanto una manifestazione di questa legge. Ogni movimento è una prova della legge del ritmo. I nostri corpi sono altrettanto soggetti alle leggi del ritmo quanto il pianeta nella sua rivoluzione attorno al sole. Grande parte dell'aspetto esoterico della scienza yogi sulla respirazione è fondata sopra questo noto principio della natura. Si è con l'utilizzare intelligentemente il ritmo del corpo che gli yogi può assorbire una grande quantità di prana e produrre con la medesima i risultati che desidera. Più tardi parleremo di questo più acconciamente. Il corpo che possediamo è come un piccolo braccio di mare che penetra nella terra, e quantunque sembri che obbedisca soltanto a leggi proprie, in realtà rimane subordinato al flusso e al riflusso delle maree dell'oceano. Il gran mare della vita avanza e retrocede, si innalza e si abbassa, e noi rispondiamo al suo ritmo e alle sue vibrazioni. In condizioni normali riceviamo la vibrazione ed il ritmo del grande oceano della vita, e rispondiamo al suo influsso. Però, quando l'entrata del braccio di mare rimane ostruita con detriti, noi veniamo impediti dal ricevere gli impulsi dell'oceano madre, e perciò si manifesta in noi la discordanza. Avrete sentito dire, come una nota di violino suonata ripetutamente e con ritmo, alla possibilità di mettere in azione una serie di vibrazioni che col tempo distrurrebbero un ponte. Lo stesso risultato si produce quando un reggimento di soldati attraversa un ponte, ed in tale momento si dà sempre l'ordine di rompere il passo, per evitare che la vibrazione produca una catastrofe distruggendo il ponte ed il reggimento. Queste manifestazioni del movimento ritmico daranno un'idea dell'effetto della respirazione ritmica sul corpo. Il sistema intiero prende le vibrazioni e arriva a mettersi in armonia con la volontà, che produce il movimento ritmico dei polmoni, e mentre perdura un'armonia così completa risponderà facilmente agli ordini della volontà. Avendo il corpo così in accordo, il yogi non incontra difficoltà per aumentare la circolazione in qualche parte del corpo, per un dato ordine della volontà o per dirigere una corrente maggiore della forza nervosa o qualche parte o d'organo per stimolarlo e fortificarlo. E dallo stesso modo, con la respirazione ritmica, egli si mette all'unisono e si rende capace di assorbire una grande quantità di prana che lascia a disposizione della sua volontà. Può impiegarla e la impiega come un veicolo per trasmettere pensieri ad altri e per attrarre verso di sé tutti quelli i cui pensieri sono in armonia con la stessa vibrazione. I fenomeni della telepatia, trasmissione del pensiero, cura mentale, mesmerismo, eccetera, fenomeni conosciuti dagli yogi da secoli, ma che adesso soltanto destano un intenso interessamento nel mondo occidentale, possono rendersi molto più imponenti se la persona che trasmette il pensiero lo fa dopo aver respirato ritmicamente. La respirazione ritmica aumenterà l'efficacia della respirazione mentale, magnetica, eccetera, del 100%. Nella respirazione ritmica, quello che principalmente si deve acquistare è l'idea mentale del ritmo. Per quelli che conoscono qualche cosa di musica, l'idea della misura del tempo è familiare. Hai più il passo ritmico dei soldati. Sinistra, destra, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ne darà loro un'idea. Gli yogi basano il loro tempo ritmico su una unità corrispondente al battito del loro cuore. Il battito del cuore varia nelle diverse persone, però l'unità del battito ad ogni persona è quello che servirà di modello ritmico proprio a questo particolare individuo nella sua respirazione ritmica. Ognuno si osserve il battito normale del cuore, ponendo le dita sul polso, e quindi conti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera, fin tanto che il ritmo giunga a restare ben fisso nella mente. Un po' di pratica fisserà il ritmo in guisa da potersi riprodurre facilmente. Il principiante generalmente inala in sei unità di polso approssimativamente, però con la pratica diventerà capace di aumentare molto questa cifra. La regola yogi per la respirazione ritmica sia che le unità di inalazione ed esalazione devono essere le stesse, mentre quelle di ritenzione e di interrespirazione devono essere la metà del numero impiegato nell'inalazione e nell'esalazione. Il seguente esercizio di respirazione ritmica dovrebbe venire imparato completamente, poiché esso forma la base di altri numerosi esercizi, dei quali si parlerà più oltre. Primo, seduto col busto diritto, in una posizione comoda, in modo che il petto, il collo e la testa stiano in linea retta quanto più sia possibile, con gli ome rivolte all'indietro e con le mani posate comodamente sulle ginocchia. In questa posizione il peso del corpo viene insupportato in gran parte dalle coste e la posizione può mantenersi comodamente. Il yogi ha verificato che non si possono conseguire i migliori effetti della respirazione ritmica quando si sta col petto contratto e con l'addome saliente. Secondo, inalare con lentezza una respirazione completa, contando sei unità di polso. Terzo, ritenere l'inalazione, contando tre unità di polso. Quarto, esalare lentamente dalle narici, contando sei unità di polso. Quinto, contare tre pulsazioni tra le respirazioni. Sesto, ripetere l'esercizio un dato numero di volte, però evitando, in principio, la fatica. Settimo, prima di abbandonare l'esercizio, si pratichi la respirazione purificatrice, che servirà per riparare e pulire i polmoni. Dopo un po' di pratica, si potrà aumentare la durata delle inalazioni e delle esalazioni, fino a tanto che trascorano 15 unità di polso. In questo aumento si deve ricordare che le unità per le ritenzioni e per le interrespirazioni devono essere la metà delle unità per le inalazioni e per le esalazioni. Non vi ha che da esagerare lo sforzo per aumentare la durata della respirazione, però si deve impiegare tanta attenzione quanto sia possibile per acquistare il ritmo, poiché questo è più importante che l'estensione della respirazione. Si facciano prove ed esercizi fino ad acquistare la misura del movimento, e così venga sentito il ritmo della mozione vibratoria attraverso tutto il corpo. Occorrerà un po' di pratica e di perseveranza, ma la soddisfazione che se ne godrà per il progresso ottenuto renderà facile il compito. Il yogi è l'uomo più paziente e perseverante, e le fenomeni della respirazione psichica yogi. Eccettuate le istruzioni sulla respirazione ritmica yogi, la maggior parte degli esercizi descritti finora in questo libro si riferiscono allo sforzo nel piano fisico, il quale, oltre che per la sua propria importanza, dagli yogi viene altresì preso in considerazione per la sua attitudine essenziale e naturale nel dare una base sostanziale per sforzi sul piano psichico e spirituale. Non si deve certamente scartare la fase fisica dell'argomento, né giudicarla di poco valore, ma piuttosto ricordare che è necessario possedere un corpo sano per avere una mente sana, e per di più deve si tener presente che il corpo è il tempio dell'ego, e che questo è la lampada dove arde la luce dello spirito. Tutto è buono a suo luogo e tutte le cose tengono il loro posto. L'uomo completamente sviluppato è quelli che conosce il proprio corpo, la propria mente ed il proprio spirito, e che dà loro il posto corrispondente. Trascurare alcuno di essi è un errore che deve correggersi tardi o tosto, un debito che deve pagarsi con capitale ed interessi ad usura. Tratteremo adesso l'aspetto psichico della scienza yogi, della respirazione, in forma di una serie di esercizi, ciascuno dei quali verrà accompagnato dalla sua spiegazione. Si noterà che ogni esercizio di respirazione ritmica è accompagnato con la raccomandazione di elevare il pensiero verso certi risultati desiderati. Questa attitudine mentale dischiude alla volontà di un cammino libero da ostacoli, sul quale può esercitare la sua forza. Non possiamo in quest'opera approfondire l'assunto del potere della volontà, ma piuttosto dobbiamo presumere che il lettore abbia qualche cognizione sull'argomento. Se così non fosse, troverà che la pratica degli stessi esercizi gli apporranno una conoscenza molto più chiara di qualsiasi compendio di insegnamenti teorici, in perciò che, come dice l'antico proverbio indiano, colui che assaggia un semi di canapa conosce meglio il suo sapore di colui che soltanto veda un elefante carico della medesima. 1. Direzioni generali per la respirazione psichica yogi La base di tutta la respirazione psichica yogi è la respirazione ritmica yogi, sulla quale diamo istruzioni nell'ultimo capitolo. Negli esercizi che seguono, allo scopo di evitare ripetizioni inutili, diremo semplicemente respirare ritmicamente e seguiremo con l'istruzione mediante l'esercizio della forza psichica o potere della volontà, diretto e operando in conformità con le vibrazioni della respirazione ritmica. Dopo un po' di pratica, si noterà che non avvi necessità di contare dalla prima respirazione ritmica, poiché la mente prenderà l'idea del tempo e del ritmo e si potrà respirare ritmicamente a piacere, quasi automaticamente. Questo renderà la mente sbarazzata per la proiezione delle vibrazioni psichiche, sotto la direzione della volontà. Per direttive sull'uso della volontà, vedasi il primo esercizio che segue. Secondo, distribuzione di prana. Coricato, disteso al suolo o sul letto, senza tensione muscolare di sorta, riposando leggermente le mani sul plesso solare, sulla bocca dello stomaco, dove cominciano a separarsi le coste. Respirare ritmicamente. Allorché il ritmo sarà completamente stabilito volere che ogni inalazione introducano a maggior quantità di prana ed energia vitale del deposito universale, la quale sarà presa dal sistema nervoso ed immagazzinata nel plesso solare. Ad ogni inalazione si voglia che il prana o d'energia vitale si distribuisca in tutto il corpo, ad ogni organo e ad ogni parte, ad ogni muscolo, ad ogni cellula e ad ogni atomo, ai nervi, alle arterie e dalle vene, dalla sommità del capo fino alla punta dei piedi, invigorendo, rafforzando e stimolando ogni nervo, rifornendo ogni centro nervoso, inviando energia, forza e vigore a tutto il sistema. Mentre si esercita la volontà per procurare di formarsi un disegno mentale della corrente precipitata di prana, internantesi per i polmoni, poi, afferrata istantaneamente dal plesso solare per essere spinta, con lo sforzo dell'espirazione, a tutte le parti del sistema, fino alla punta delle dita delle mani e dei piedi. Non è necessario di sforzare la volontà, il semplice ordine di ciò che si desidera produrre, nonché il disegno mentale di esso. È tutto quello che occorre. L'ordine tranquillo col disegno mentale. È meglio assai del desiderio violento, col quale si sciupa solo della forza senza utilità. Il menzionato esercizio è di grande utilità, ristora, rinvigorisce molto il sistema nervoso e produce una sensazione di tranquillità in tutto il corpo. Specialmente è benefico nei casi in cui si è stanchi e si sente mancanza d'energia. Terzo, calmando il dolore. Sraiato o seduto, col busto ritto, respirare ritmicamente, fissando il pensiero sul fatto che si sta inalando prana. Poi, all'espirare, si indirizzi il prana alla parte dolorifica, per ristabilire la circolazione e la corrente nervosa. In seguito, si inali del prana di più ancora, con l'intento di espellere la sensazione penosa, e all'esalare si persista nel pensiero che si sta scacciando il dolore. Alternare i detti due propositi mentali. Con un'esalazione si stimola la parte e con la successiva, si espelle il dolore. Si pratichi questo per sette respirazioni, si faccia in seguito la respirazione purificatrice e quindi si prenda un momento di riposo. Si continui l'esercizio fino a che si produca il sollievo, il quale non si farà molto attendere. Si avvertirà che molte sofferenze si calmano prima che finiscano le sette respirazioni. Se si colloca la mano sopra la parte inferma, si possono ottenere più rapidi risultati. In questo caso indirizzare la corrente di prana lungo il braccio fino alla parte inferma. Quarto, per dirigere la circolazione. Sdraiato o seduto, col busto dritto, respirare ritmicamente e con le espirazioni dirigere la circolazione verso la parte che si desidera e che si può essere inferma per cagione di una circolazione imperfetta. Questo è giovevole nei casi di freddo ai piedi e di dolor di capo. Nel primo caso, inviando il sangue verso il basso, riscaldansi i piedi e nel secondo caso sollevasi il cervello da una pressione eccessiva. Nel caso di dolor di capo, si procuri anzitutto calmare il dolore e dopo si invii il sangue verso il basso. Frequentemente si prova una sensazione di calore nelle gambe a misura che la circolazione discende. La circolazione si trova in gran parte sotto il controllo della volontà e la respirazione ritmica ne facilita il compito. Quinto, cura di se stessi. Coricato in una posizione d'abbandono, rilassati i muscoli, respirare ritmicamente e volere inalare una buona dose di prana. Poi, con l'esalazione, si indirizzi il prana alla parte inferma, col proposito di stimolarla. Variare, occasionalmente, l'esalazione col proposito mentale che la condizione di infermità scompaia. In questo esercizio si impieghino le mani, passandole per il corpo dall'alto al basso, dal capo fino alla parte inferma. Nell'usare le mani, tanto per la propria cura che per quella degli altri, si conservi sempre l'immagine mentale che il prana sta fluendo lungo il braccio e per la punta delle dita penetra nel corpo, fino alla parte inferma, guarendola. Naturalmente, in questo libro possiamo dare soltanto indirizzi generali, senza trattare in dettaglio le varie forme di infermità. Però, con un po' di pratica del menzionato esercizio, modificato leggermente per adattarlo alle condizioni del caso occorrente, esso produrrà sorprendenti risultati. Alcuni yogi seguono il metodo di collocare anche le mani sopra la parte inferma e quindi respirano ritmicamente, mantenendo l'immagine mentale che essi stanno realmente lanciando del prana nell'organo o regione inferma, stimolandola e sgombrando le condizioni malate, a quella stessa guisa in cui si provasse un'agitazione in un secchio d'acqua sporca con l'intenzione di spingere questa fuori per riempirlo d'acqua fresca. Questo metodo è molto efficace se l'immagine mentale dell'espulsione viene mantenuta con chiarezza, rappresentando l'inalazione, l'estrazione della malattia e l'espirazione la sua espulsione. Sesto, cura di terzi. In questo libro non possiamo occuparci dettagliatamente della questione del trattamento psichico dell'infermità per mezzo di prana, poiché questo sarebbe fuori del nostro assunto. Però possiamo somministrare istruzioni chiare e semplici, con le quali si potrà divenire capaci d'agire assai bene per alleviare le pene altrui. Il principio essenziale che deve ricordarsi è che mediante la respirazione ritmica ed il controllo del pensiero si può assorbire una quantità considerevole di prana e, nello stesso tempo, trasmetterla nel corpo di un'altra persona, stimolando le parti e gli organi indeboliti, provvedendoli di salute ed espellendo le condizioni morbose. Prima di tutto deve si apprendere a formare con chiarezza l'immagine mentale della condizione desiderata, di modo che si senta l'influsso di prana o la forza scorrente lungo le braccia e per la punta delle dita, fino al corpo del paziente. Respirare ritmicamente alcune volte, finché il ritmo sia si perfettamente costituito, poscia, si collocano le mani sul corpo del paziente, lasciandole poggiare leggermente, sulla parte malata. Quindi, seguendo il processo dell'espulsione descritto nell'esercizio precedente, autoguarigione, si riempie completamente di prana il paziente, finché la condizione penosa sia espulsa. A piccoli intervalli si devono alzare le mani e scuotere le dita come se si buttasse via l'infermità. È utile far questo all'occasione, come altresì lavarsi le mani dopo il trattamento, giacché senza queste precauzioni potrebbe attaccare le tracce della malattia del paziente. Così pure, sarà bene di praticare più volte la respirazione purificatrice. Mentre si opera, si lasci che il prana invada il paziente con una corrente continua. L'operatore è semplicemente la macchina di repulsione, che pone in comunicazione il paziente col magazzino universale di prana, permettendogli di affluire per suo mezzo. Non vi è necessità di operare vigorosamente con le mani, salvo quanto occorre, perché il prana giunga liberamente alle parti malate. La respirazione ritmica deve praticarsi frequentemente durante il trattamento, con lo scopo di mantenere il ritmo normale e permettere il libero passaggio di prana. È meglio posare le mani sulla pelle nuda, ma quando questo non è consigliabile o possibile, si devono porre sugli abiti. Il metodo indicato può variarsi opportunamente con quello di battere suavemente e blandemente con la punta delle dita leggermente separate. Questo è un grande calmante per il paziente. In casi cronici si troverà molto giovamento nel tirare gli ordini mentali per mezzo di parole come «esci, esci, vattene, vattene» a seconda dei casi, poiché le parole aiuteranno ad esercitare la volontà più efficacemente e direttamente. Si modifichino queste istruzioni come sarà conveniente per le necessità ad ogni singolo caso, facendosi di intervenire il giudizio e la facoltà inventiva dell'operatore. Diamo i principi generali e questi possono venire applicati in cento modi diversi. Le precedenti istruzioni, quantunque apparentemente semplici, se saranno diligentemente studiate ed applicate, renderanno capaci coloro che le metteranno in pratica di realizzare tutto ciò che i magnetizzatori di maggior fama possono compiere, benché i loro sistemi siano più o meno imbarazzanti o complicati. Essi adoperano ignorantemente il prana e lo chiamano magnetismo. Se combinassero la respirazione ritmica con il loro trattamento magnetico, duplicherebbero la loro efficacia. Settimo, cura a distanza. Il prana accompagnato dal pensiero dell'emittente può proiettarsi a persone assenti che desiderano riceverlo, effettuandosi a questo modo l'azione curativa. Questo è il segreto della cura a distanza, della quale tanto si è parlato in questi ultimi anni nel mondo occidentale. Il pensiero del magnetizzatore emette e colorisce il prana destinato ad essere inviato e questo attraversa lo spazio come un raggio, penetra e prende posto nell'organismo psichico del paziente. Esso è invisibile e, come le onde Marconi, passa attraverso gli ostacoli che si interpongono e coglie la persona che si trova in armonia per riceverlo. Per curare persone a distanza si deve formare un'immagine mentale delle medesime, in maniera da sentire che si sta in rapporto con esse stesse. Questo è un processo psichico che dipende dal potere di formare immagini mentali, posseduto dal magnetizzatore. Si può avere indizio quando il rapporto sia costituito, poiché il medesimo si manifesta con una sensazione di prossimità. È difficile spiegare questo con maggior chiarezza, ma se ne può acquistare la coscienza con un po' di pratica ed alcuni la conseguono alle prime prove. Allorché il rapporto è costituito, dicasi mentalmente al malato assente. Vi sto inviando una provvista di forza vitale o potere che vi ristorerà e vi guarirà. Poi immaginate il prana come se parta dalla mente ad ogni esalazione della respirazione ritmica, viaggia attraverso lo spazio, istantaneamente, giunga al paziente e lo curi. Non vi ha necessità di fissare date ore per il trattamento, benché si possano segnalare se lo si desidera. Lo stato ricettivo del paziente, a cagione della sua aspettativa, nella speranza della forza psichica emessa, lo pone in condizioni di poter ricevere le vibrazioni trasmesse, in qualunque momento esse vengano inviate dall'operatore. Se si stabiliranno delle ore previamente convenute, dovrà mettersi il paziente in attitudine d'abbandono ed in uno stato recettivo. Queste indicazioni costituiscono il grande principio sul quale si appoggia il trattamento a distanza del mondo occidentale. Con un po' di pratica si possono realizzare queste cose altrettanto bene quanto si pratica dai magnetizzatori più reputati. Capo quindicesimo. Vari fenomeni della respirazione psichica yogi. Primo. Trasmissione del pensiero. I pensieri possono venire trasmessi seguendo il metodo già menzionato, cura a distanza, ed altre persone sentiranno l'effetto del pensiero così trasmesso, dovendo sempre ricordarsi che nessun cattivo pensiero potrà mai recar danno ad un'altra persona di buoni pensieri. I pensieri buoni sono sempre positivi per i cattivi, e i pensieri cattivi sono sempre negativi per i buoni. Ciò nonostante, si può eccitare l'interesse e l'attenzione d'un altro inviandogli onde pensiero, o forme pensiero, in questo modo, caricando, cioè, di prana il messaggio che si desidera trasmettere. Se desideriamo l'amore e la simpatia di altri, e per questi stessi noi sentiamo amore e simpatia, possiamo con efficacia inviare loro pensieri di tal natura, sempre che siano puri i moventi che ci animano. Non vi ha dubbio che già mai si deve tentare di influenzare altri a suo danno o per motivi egoistici ed impuri, poiché tali pensieri rimbalzano con doppiata forza sull'emittente, nocendogli, senza aver toccata la parte innocente. La forza psichica è buona ed è giusta quando si impiega legittimamente, però si devono usare precauzioni contro la magia nera e contro gli usi impropri e perversi della medesima, poiché tentarne la pratica sarebbe come giocare con una dinamo, e la persona che si comportasse in tal guisa riceverebbe sicuramente il suo castigo nel risultato dell'uso stesso. Imperciò che, nessuna persona di moventi impuri può acquistare un alto grado di potere psichico, mentre un cuore ed una mente puri sono uno scudo invulnerabile contro i poteri psichici male avviati. Conserviamoci puri e nulla potrà danneggiarci. Secondo, performare aura. Se doveste stare in compagnia di persone di mentalità grossolana e sentirete l'influenza deprimente dei loro pensieri, respirate ritmicamente alcune volte, perché così genererete una provvista sussidiaria di prana e quindi, per mezzo del metodo dell'immagine mentale, circondatevi di un'aura di pensiero, forma ovoide, la quale vi proteggerà contro i pensieri grossolani e contro le influenze perturbatrici degli altri. Terzo, per invigorire se stessi. Se sentirete che la vostra energia vitale decresce molto e che avete bisogno di rifornirvi rapidamente di una buona provvista di essa, il metodo migliore si è di mettere i vostri piedi ben giunti, l'uno accostato all'altro naturalmente, e serrare le dita di ambo le mani nel modo che vi sembrerà più comodo. Questo è come chiudere un circuito ed impedirà ogni fuga di prana attraverso le estremità. Respirate in seguito ritmicamente alcune volte e l'effetto del rifornimento si farà sentire. Quarto, per rinvigorire gli arti. Se qualche amico si trova scarso di vitalità, potete aiutarlo sedendovi di fronte a lui, coi vostri piedi a contatto coi suoi e con le sue mani nelle vostre. Allora respirate entrambi ritmicamente, formando uno l'immagine mentale di trasmettere del prana al suo organismo e l'altro fissandosi l'immagine mentale di riceverlo. Le persone di vitalità debole o di volontà passiva dovrebbero fare attenzione con chi praticano questo esperimento, poiché il prana ad una persona di cattivi pensieri sarà colorito coi pensieri di questa persona e può portare un'influenza temporanea sopra la persona più debole. Questa, fuori di dubbio, potrebbe liberarsi facilmente di tale influenza, formando il circuito, come si è detto sopra, respirando ritmicamente alcune volte e terminando con la respirazione purificatrice. Quinto, per influenzare l'acqua. L'acqua può essere caricata di prana con la respirazione ritmica, tenendo un vaso d'acqua per il fondo, nella mano sinistra e scuotendo poscia dolcemente le dita giunte della mano dritta sopra l'acqua, come se si stesse per far distaccare e cadere dalla punta delle dita delle gocce nel vaso. Inoltre, si deve mantenere l'immagine mentale che il prana sta passando nell'acqua. Impregnata così l'acqua, essa è una grande stimolante per le persone deboli o di inferme, specialmente se un pensiero di cura accompagna l'immagine mentale della trasmissione di prana. L'avvertenza data nell'ultimo esercizio, èppure applicabile a questo, benché il pericolo esista in grado minore soltanto. Sesto, per acquistare qualità mentali. Non solamente si può controllare il corpo con la mente, sotto la direzione della volontà, ma la mente stessa può altresì venire educata e coltivata con l'esercizio del controllo per mezzo della volontà. Quello che il mondo occidentale conosce come scienza mentale, eccetera, che ha provato all'occidente porzione di quella verità che gli yogi conoscono da secoli. La semplice petizione tranquilla della volontà realizzerà prodigi in questo senso. Però, se l'esercizio mentale andrà accompagnato con la respirazione ritmica, si aumenterà considerevolmente l'effetto. Si potranno conseguire le qualità mentali desiderate se, durante la respirazione ritmica, si manterrà l'immagine mentale, andrà accompagnato con la respirazione ritmica, l'età bramate, quali l'equilibrio, il proprio controllo, l'aumento di potere, eccetera. Si possono acquistare in questo modo. Le qualità non desiderabili possono venire eliminate coltivando le qualità opposte. Alcuni o tutti gli esercizi, trattamenti ed affermazioni della scienza mentale possono usarsi con la respirazione ritmica yogi. Per l'acquisto e lo sviluppo delle qualità mentali desiderabili, è buono l'esercizio generale seguente. Coricati in attitudine passiva o seduti col busto eretto. Dipingete a voi stessi le qualità che desiderate coltivare. Figuratevi come possessori di dette qualità e domandate che la vostra mente le sviluppi. Respirate ritmicamente, conservando con fermezza il quadro o la pittura mentale. Elevatela in voi stessi quanto più vi sarà possibile, sforzandovi di vivere nell'ideale che avete formato nella vostra mente. Constaterete il progresso graduale, erro il vostro ideale. Il ritmo della respirazione aiuta la mente nella formazione di nuove combinazioni e lo studioso che ha seguito il sistema occidentale verificherà che la respirazione ritmica yogi è un'alleata potente nelle sue pratiche della scienza mentale. Settimo, per conseguire qualità fisiche. Le qualità fisiche possono conseguirsi con gli stessi metodi sopra menzionati riguardo alle qualità mentali. Non vogliamo già dire, naturalmente, che uomini bassi possano farsi alti o che membra amputate possano ritornare, né che si possano compiere altri simili miracoli. Tuttavia, l'espressione delle persone può venire cambiata ed il valore e le caratteristiche fisiche generali possono venire migliorate per mezzo del controllo della volontà accompagnata dalla respirazione ritmica. Come un uomo pensa, così vede, così agisce, così cammina, così sta seduto, eccetera. Pensieri migliorati vuol dire vedute ed azioni migliorate. Per sviluppare qualche parte del corpo, dirigete l'attenzione verso di essa e respirate ritmicamente, mantenendo l'immagine mentale che state inviando una maggior quantità di prana o forza nervosa alla parte disegnata. Con ciò, col prana, annientate la sua vitalità e ne favorite lo sviluppo. Questo metodo applicabile, ed è ugualmente buono, per qualsiasi parte del corpo che vogliate sviluppare. Molti atleti occidentali usano una modificazione di questo piano nei loro esercizi. Lo studioso che fin qui ha seguito le nostre istruzioni facilmente comprenderà come deve applicare i principi yogi a questo riguardo. La regola generale di questo esercizio è quella stessa data precedentemente, cioè quella per conseguire qualità mentali. Abbiamo già toccato l'argomento della cura dei dolori fisici nelle pagine precedenti. Ottavo, per controllare le emozioni. Le emozioni non desiderate, come il timore, il tormento, l'ansietà, l'odio, la collera, l'invidia, la melanconia, l'eccitazione, la pena, eccetera, stanno sotto il dominio della volontà, la quale, in questi casi, è maggiormente capace di operare se verrà praticata la respirazione ritmica nel tempo in cui lo studioso sta volendo. L'esercizio che segue è considerato assai efficace dagli studiosi yogi, quantunque il yogi progredito abbia poca necessità di esso, in perciò che esso si è reso indipendente da queste condizioni mentali già da molto tempo, lasciandole da banda, per essersi evoluto spiritualmente. Lo studioso yogi, tuttavia, troverà in questo esercizio un grande aiuto durante il suo sviluppo. Respirate ritemicamente, concentrando l'attenzione sul plesso solare e trasmettetegli l'ordine mentale. Esci fuori! Date l'ordine mentale con fermezza e nel momento in cui incominciate ad esalare e formatevi il quadro mentale che le emozioni sgradevoli sono espulse con l'esalazione nel respirare. Ripetete questo sette volte, terminando con la respirazione purificatrice, ed osservate allora quanto vi sentite meglio. Il mandato o d'ordine deve darsi risolutamente, giacché, altrimenti, non produrrà il suo effetto. Nono. Cambio dell'energia riproduttrice. Gli yogi possiedono una grande conoscenza intorno all'uso e all'abuso del principio riproduttore in ambi i sessi. Alcuni barlumi di questa conoscenza esoterica sono filtrati e sono stati utilizzati tra scrittori occidentali che hanno trattato questa materia, apportando, in questo modo, grande beneficio. In questo piccolo libro non possiamo far altro che toccare superficialmente questo argomento, e limitandoci ad un breve cenno della storia. Daremo un esercizio pratico di respirazione, mediante il quale lo studioso potrà mutare l'energia riproduttrice in vitalità vantaggiosa per il sistema intero, invece di sciuparla o disperderla in trasporti lussuriosi, nell'ambito o fuori dell'ambito matrimoniale. L'energia riproduttrice è l'energia creatrice, che può essere presa dall'organismo e trasmutata in forza e vitalità, servendosi così allo scopo di rigenerazione, invece di quello di generazione. Se i giovani del mondo occidentale comprendessero questi principi fondamentali, si risparmierebbero molti disinganni e molte miserie nel loro avvenire, e sarebbero più forti intellettualmente, moralmente e fisicamente. Questa trasformazione dell'energia rigeneratrice porta grande vitalità a coloro che la praticano. Ripieni di forza vitale, questa si irradierà da essi e si manifesterà sotto quell'aspetto che viene chiamato magnetismo personale. L'energia, così trasmutata, può essere usufruita per altri fini con grande vantaggio. La natura ha condensato una delle sue più poderose manifestazioni di prana nell'energia riproduttrice, la cui virtù consiste appunto, e si esplica, nel proposito di creare. La maggior somma di forza vitale sta concentrata nella più piccola area. L'organismo riproduttore è la più potente batteria accumulatrice nella vita animale, e si può far subire e utilizzare la sua forza come altresì sciuparla nelle funzioni ordinarie di riproduzione, o disperderla in orge lussuriose. La maggioranza dei nostri studiosi conoscono sufficientemente le teorie della rigenerazione, e perciò noi possiamo aggiungere ben poco di più, all'infuori dell'esposizione dei fatti menzionati, senza neppur cercare di provarli. L'esercizio yogi per trasmutare l'energia produttrice è semplice. Esso è combinato con la respirazione ritmica e può facilmente praticarsi. Può eseguirsi in qualsiasi tempo, ma specialmente è raccomandato quando si sente l'istinto con maggior forza, nelle quali occasioni si manifesta la forza riproduttrice e può trasmutarsi con maggior facilità, con propositi di rigenerazione. L'esercizio è come segue. Mantenere fissa la mente nell'idea dell'energia, separata dalle immagini e dai pensieri sensuali ordinari. Se tali pensieri importunano la mente, non vi disanimate, ma piuttosto considerateli come manifestazioni di una forza che cercate di usufruire con l'intento di invigorire il corpo e la mente. Coricati passivamente o seduti, col busto eretto, fissate la mente nell'idea di attrarre l'energia riproduttrice all'insù, verso il plesso solare, dove si accumulerà e si trasformerà come una forza in riserva di energia vitale. Quindi respirate retemicamente, formandovi il quadro mentale che ad ogni inalazione facciate aumentare l'energia riproduttrice. Formulate un ordine della volontà ad ogni inalazione, affinché l'energia, dagli organi riproduttori, ascenda fino al plesso solare. Se si stabilisce perfettamente il ritmo ed il quadro mentale è chiaro, sarete coscienti del passaggio dell'energia all'insù e sentirete il suo effetto stimolante. Se desiderate un aumento di forza mentale, potete far salire questa energia fino al cervello, invece di farla salire al plesso solare, dando l'ordine mentale e tenendo fissa l'immagine mentale della trasmissione al cervello. L'uomo o la donna, che compie un'opera creatrice, mentale o manuale, potranno utilizzare l'energia riproduttrice nel loro lavoro, praticando l'esercizio menzionato, facendo a scendere l'energia con l'inalazione ed espellendola con l'esalazione. In quest'ultima forma di esercizio entreranno in azione soltanto le porzioni richieste nel lavoro e la dose rimanente si accumulerà nel plesso solare. Comprenderete, naturalmente, che non sono i fluidi di riproduzione che vengono portati all'insù ed utilizzati, ma bensì l'energia pranica eterica che li anima, come se fosse lo spirito dell'organismo riproduttore. È d'uso tenere il capo chinato in avanti, ma in posizione comoda e naturale durante l'esercizio della trasmutazione. Decimo, per stimolare il cervello. Gli yogi hanno trovato molto utile il seguente esercizio per stimolare l'azione del cervello col proposito di produrre pensieri e ragionamenti chiari. Ha un potere sorprendente per chiarire le idee e per attornare il sistema nervoso, e quelli che si dedicano a lavori mentali lo troveranno assai utile, poiché non solo li abiliterà a compiere meglio il proprio lavoro, ma Puranzo somministrerà loro un mezzo di rinfrescare e sbarazzare la mente dopo un arduo lavoro intellettuale. Sedetevi in una posizione elevata, mantenendo diritta la colonna vertebrale, con l'occhio fisso in avanti e le mani poggiate sulla parte superiore delle gambe. Respirate ritmicamente, ma invece che per le narici, come negli esercizi ordinari, chiudete col pollice la narice sinistra e inalate con la destra. Quindi togliete il pollice, chiudete la narice destra con un dito ed esalate dalla narice sinistra. Poscia, senza cambiare le dita, esalate per la narice destra, poi inalate della destra ed esalate per la sinistra, e così successivamente, alternando le narici, come più sopra è stato indicato, otturando la narice non usata, col pollice e con l'indice. Questa è una delle forme più antiche di respirazione yogi, molto importante e valida, come pure assai degna di venire praticata. Però è cosa che sommamente fa sorridere gli yogi il sapere a essi che questo metodo viene con frequenza presentato nel mondo occidentale come il segreto completo della respirazione yogi. Per la mente di molti lettori occidentali, la respirazione yogi non suggerisce loro null'altro che il quadro di un indiano, seduto e retto, che sta alternando le narici nell'atto di respirare. Questo soltanto è niente di più. Confidiamo che questo piccolo lavoro aprirà gli occhi del mondo occidentale alle grandi possibilità della respirazione yogi e farà conoscere i numerosi metodi quei quali può essere compiuta. Undicesimo. La grande respirazione psichica yogi. Gli yogi hanno una forma preferita di respirazione psichica, che praticano di tanto in tanto, alla quale si è dato un termine sanscrito, il cui equivalente, in linea generale, è quello sopra menzionato. Lo abbiamo presentato alla fine perché richiede che lo studioso sia pratico nella respirazione ritmica e nella formazione delle immagini mentali, cose che ormai avrà acquisite in grazia degli esercizi precedenti. I principi generali della grande respirazione possono venire riassunti nell'antico detto indiano, benedetto il yogi che può respirare attraverso le proprie ossa. Questo esercizio riempirà di prana il sistema aiutiero e lo studioso potrà col medesimo rinfrescare ogni osso, ogni muscolo, ogni nervo, ogni cellula, ogni tessuto, ogni organo ed ogni porzione, rinvigorendosi ed armonizzandosi per mezzo del prana e mediante il ritmo della respirazione. È un purificatore completo e generale del sistema e quegli che lo pratica diligentemente si sentirà come se gli fosse stato fornito un corpo nuovo, recentemente creato, dalla punta dei capelli fino all'estremità dei piedi. Lasciamo che l'esercizio parli da sé. Primo, sdraiarsi in una posizione perfettamente comoda e senza tensione muscolare. Secondo, respirare ritmicamente fino a tanto che sia perfettamente stabilito il ritmo. Terzo, quindi, inalare ed esalare, formando l'immagine mentale che la respirazione viene assorbita attraverso le ossa delle gambe ed espulsa pure attraverso le medesime. Poi attraverso le ossa delle braccia, indi attraverso la superficie del cranio, in seguito attraverso lo stomaco, poscia attraverso gli organi generativi, inoltre quasi che si stesse viaggiando su e giù, nonché lungo la colonna vertebrale. E finalmente, come se la respirazione si inalasse e si esalasse attraverso ad ogni poro della pelle, riempiendo tutto il corpo di prana e di vita. Quarto, poi, respirando ritmicamente, inviare la corrente di prana ai sette centri vitali per turno, nel modo seguente, ed usando l'immagine mentale, come negli esercizi anteriori. A. Alla fronte. B. Alla parte posteriore del capo. C. Alla base del cervello. D. Al plesso solare. E. alla regione sacra, parte inferiore della spina dorsale. F. Alla regione dell'ombelico. G. Alla regione generativa. Terminare facendo circolare la corrente di prana qua e là, dalla testa ai piedi, varie volte. Quinto, chiudere con la respirazione purificante. Capo sedicesimo. Respirazione spirituale yogi. Gli yogi acquistano, col potere della volontà, accompagnato dalla respirazione ritmica, non soltanto le qualità e proprietà mentali desiderate, ma sviluppano altresì facoltà spirituali, o meglio ancora, ne favoriscono il loro accrescimento nello stesso modo. Le filosofie orientali insegnano che l'uomo possiede molte facoltà, che al presente si trovano in uno stato latente, ma che si svolgeranno a misura che la razza progredirà. Dette filosofie insegnano pure che l'uomo, mediante lo sforzo opportuno della volontà, aiutato da condizioni favorevoli, può contribuire al progresso di tali facoltà spirituali, sviluppandole assai più rapidamente che col solo ed ordinario processo di evoluzione. In altri termini, anche attualmente si possono coltivare e svolgere poteri spirituali di coscienza, che pur non sono proprietà comuni alla razza odierna, fino a tanto che non siano trascorsi lunghi periodi di tempo nel perfezionamento graduale sotto la legge di evoluzione. In tutti gli esercizi diretti a questo fine, la respirazione ritmica tiene un posto importante. Naturalmente, non vi è una proprietà o virtù mistica nella respirazione sola, per se stessa, pur giudicando dai suoi meravigliosi risultati. Tuttavia, il ritmo prodotto con la respirazione yogi è tale che pone tutto l'organismo, compreso il cervello, sotto un dominio perfetto, in perfetta armonia, e con questi mezzi si ottiene la condizione più adatta per lo sviluppo delle facoltà latenti. In quest'opera non possiamo penetrare molto profondamente nella filosofia dell'Oriente, per quanto riflette l'evoluzione spirituale. Imperciò che, per trattare quest'argomento, ci vorrebbero dei volumi, senza contare che l'argomento è troppo astratto per giungere ad interessare la massa dei lettori. E vi sono eziando altre regioni, ben note agli occultisti, perché questa conoscenza non venga per ora largamente divulgata. Stai pur sicuro, amato studioso, che quando il tempo sarà giunto, in cui potrai fare un ulteriore passo, la via si aprirà davanti a te. Quando il cela o chela, studioso o discepolo, è preparato, il guru maestro si presenta. In questo capitolo daremo istruzioni per lo sviluppo di due fasi di coscienza spirituale, e cioè, primo, la coscienza dell'identità dell'anima, e secondo, la coscienza dell'unione dell'anima con la vita universale. I due esercizi che spieghiamo in seguito sono semplici, e consistono in mentali immagini fermamente conservate, accompagnate dalla respirazione ritmica. Lo studioso non deve sperare troppo al principio, deve progredire ad agio ed accontentandosi di crescere come il fiore, dal seme fino alla rosa. Autocoscienza dell'anima L'io reale non è il corpo e neppure la mente dell'uomo. Questi formano una parte della sua personalità, l'io inferiore. L'io reale è l'eco, la cui manifestazione è la individualità. L'io reale è indipendente dal corpo nel quale abita, ed è perfino indipendente dal meccanismo della mente, che utilizza come un strumento. L'io reale è una goccia dell'oceano divino, ed è eterno ed indistruttibile. Non può morire o d'essere anichilito, e qualunque cosa accada del corpo, l'io reale non cessa ad esistere. L'io è l'anima. Ne crediate? Ne crediate che la vostra anima sia qualche cosa di separato da voi stessi, già che voi stessi siete l'anima, ed il corpo, la cui materia cambia ogni giorno, è la parte irreale e transitoria di voi medesimi, che un giorno abbandonerete. Potete sviluppare le facoltà in modo che siate coscienti della realtà dell'anima e della sua indipendenza dal corpo. Il metodo yogi, per tale sviluppo, consiste nella meditazione sopra l'io effettivo o d'anima, accompagnata dalla respirazione ritmica. L'esercizio seguente ne rappresenta la forma più semplice. Esercizio Collocate il corpo in una posizione inclinata e senza tensione muscolare. Respirate ritmicamente e meditate sull'io reale, pensando che siete un'entità indipendente dal corpo, quantunque lo abbiate, e che potete lasciarlo a vostra volontà. Pensate che siete non un corpo, ma uno spirito, e che il vostro corpo è solamente un involucro utile e adatto, ma non una parte dell'io reale. Pensate che siete padroni indipendenti, che adoperate il corpo solamente perché vi conviene. Durante la meditazione, dimenticate interamente il corpo, del quale potrete poi occuparvi dopo aver terminato l'esercizio. Questa è la parte essenziale dei metodi della respirazione meditativa yogi, e perseverandosi nella medesima, vi comunicherà nello stesso tempo una sorprendente percezione della realtà dell'anima e del sentimento della quasi sua indipendenza dal corpo. Con la costanza verrà il senso dell'immortalità, e con questo aumento di coscienza, la persona comincerà a dare indizi di sviluppo spirituale, che sarà notato da essa stessa e dagli altri. Ma tuttavia non deve ambire troppo di vivere nelle regioni superiori o cercare di sprezzare troppo il proprio corpo, imperciò che noi siamo in questo piano per un determinato proposito, e non deve si trascurare l'opportunità ad acquistare l'esperienza necessaria per il nostro funzionamento, né mancare di riguardo al nostro corpo, che è il tempio dello spirito. Coscienza universale Lo spirito dell'uomo, ossia la più elevata manifestazione dell'anima sua, è una goccia nell'oceano dello spirito, apparentemente separata e distinta, ma fuori di dubbio, realmente in contatto con l'oceano medesimo e con tutte le altre gocce del medesimo. A misura che un uomo sviluppa conoscenza spirituale, si renda sempre più e più cosciente della sua relazione con lo spirito universale o mente universale, come viene denominato da Taluni. Egli talvolta sente come se stesse quasi in unione mentale con essa, con la mente universale, e tale altra volta, poi, perde la sensazione del contatto e della relazione. Gli yogi si studiano di ottenere lo stato di coscienza universale per mezzo della meditazione e della respirazione ritmica, e molti hanno conseguito così il grado più elevato di realizzazione spirituale che sia possibile all'uomo di ottenere in questa tappa della sua esistenza. Lo studioso di questo libro non avrà bisogno per ora delle istruzioni più elevate intorno all'adeptato, in ordine a cui avrà molto da fare e da progredire prima che possa raggiungere questo grado. Tuttavia, può tornare cosa conveniente l'iniziarlo nei gradi elementari degli esercizi yogi per lo svolgimento della coscienza universale. Se avrà zelo e perseveranza, verrà a scoprire metodi in grazia dei quali potrà fare dei progressi. Il cammino va sempre aperto davanti a colui che si trova preparato ad avviarsi sul sentiero. L'esercizio seguente sarà molto utile per sviluppare la coscienza universale in quelli che la praticheranno con costanza. Esercizio Adagiate il vostro corpo in una posizione inclinata e senza tensione muscolare. Respirate ritmicamente e meditate sopra la vostra relazione con la mente universale della quale siete soltanto un atomo. Pensate che state in contatto col tutto e in unione mentale con tutto. Considerate tutto come uno e la vostra anima come una parte di questo uno. Sentite che state ricevendo le vibrazioni della gran mente universale e che state partecipando al suo potere alla sua forza e alla sua sapienza. Quindi si possono seguire le due seguenti linee di meditazione. Ah pensate ad ogni inalazione che state attraendo a voi la forza e il potere della mente universale. Quando esalate pensate che state trasmettendo ad altri lo stesso potere che siete pieni d'amore per tutto ciò che ha vita desiderando che tutti partecipino alle stesse benedizioni che voi state ora ricevendo. Lasciate che con la vostra intermediazione circoli il potere universale. B Disponete la vostra mente in uno stato di riverenza e meditate sopra la grandezza della mente universale. Aprite l'anima vostra all'influsso della sapienza divina la quale vi riempirà della sapienza dell'illuminazione e allora lasciate scorrere fuori di poi quanto avete ricevuto nella direzione e a vantaggio dei vostri fratelli e delle vostre sorelle che amate e desiderate aiutare. Questo esercizio lascia in quelli che lo praticano una sensazione completamente nuova di forza potere e sapienza nonché un sentimento d'esaltazione e di benessere spirituale ma si deve praticare in un modo serio e riverente e non soltanto farne le prove con leggerezza o mancanza di serietà. Consigli generali Gli esercizi spiegati in questo capitolo richiedono le condizioni e l'attitudine mentale adeguate. Le persone frivole o d'indole poco seria o che non hanno senso di spiritualità e di riverenza farebbero meglio a passare oltre già che queste persone non otterrebbero alcun risultato e per giunta sarebbe uno scherzare con cose di un ordine troppo elevato lo che è neppure vantaggioso a quelli che vi si abbandonano. Questi esercizi sono destinati ai pochi che possono comprenderli gli altri non si sentiranno invogliati ad sperimentarli. Durante la meditazione lasciate che la mente si trattenga sulle idee date nell'esercizio fino a tanto che giungano ad essere chiare nella mente e gradualmente si manifestino come coscienza reale dentro di voi stessi. La mente gradatamente arriverà ad essere passiva e calma e l'immagine mentale si manifesterà chiaramente. Non dovete dedicarvi a questi esercizi con soverchia frequenza né permettere che lo stato di benessere apportatovi renda sgradite le occupazioni della vita quotidiana ordinaria imperciò che queste pure sono utili e necessarie per voi stessi e già mai voi dovete sfuggire a una lezione per quanto sgradevole la medesima possa riuscirvi. Che la gioia apportatavi dall'aumento di coscienza vi sostenga e vi fortifichi per mezzo degli esperimenti senza cagionarvi malcontenti e disgusti. Tutto è buono ed ogni cosa tiene il suo posto. Molti studiosi che praticheranno questi esercizi col tempo desidereranno saperne di più. Ebbene vivano tranquilli che a tempo debito noi procureremo che essi non debbano fare delle ricerche in vano. Vadano avanti di buon animo e con fiducia tenendo fissa la mira verso l'Oriente donde spunta il Sol nascente. La pace sia con voi e con tutti gli uomini. Om Note 1 Su questa respirazione ritmica il testo può sembrare oscuro ed insufficiente e perciò una maggiore indicazione sul modo di praticarla ed impossessarsene tornerà giovevole e gradita speriamo allo studioso. Per ottenere la respirazione ritmica più facilmente il praticante potrebbe da principio modellarla sul ritmo della propria pulsazione tanto su quella del cuore che su quella dei polsi. A questo effetto egli dovrà cercare di sentire e rilevare bene il battito ritmico del suo cuore e del suo polso quindi osservando la posizione prescritta nel libro alla fine del capo tredicesimo inizierà il suo esercizio di respirazione ritmica con l'inspirare o di inalare. Contando mentalmente 1 2 3 4 5 eccetera in accordo sincronico col battito del polso dopo farà una ritenzione di una durata uguale alla metà della durata dell'inspirazione o d'aspirazione così che se questa è durata per 8 pulsazioni la ritenzione dovrà durare solo per 4 quindi contando ancora mentalmente 1 2 3 4 5 eccetera contemporaneamente esalerà o despirerà procurando di concordare sempre quest'azione sincronicamente con la propria pulsazione battito del cuore o del polso poscia si farà una pausa uguale in durata alla ritenzione cioè la metà dell'esalazione di guisa che la respirazione ritmica come d'altronde anche le altre forme di respirazione risulterà composta di 4 tempi o parti inalazione o d'inspirazione o d'aspirazione che consiste nel tirar dentro il fiato immagazzinando l'aria nei polmoni secondo ritenzione o sospensione che consiste nel trattenere il respiro e con esso l'aria tirata dentro ed immagazzinata nei polmoni terzo esalazione o d'espirazione che consiste nell'emissione o d'espulsione dell'aria tirata dentro con l'aspirazione trattenuta nei polmoni con la ritenzione quarto pausa o interruzione che consiste nell'evitare di subito inalare o d'inspirare come richiederebbe l'abitudine ed il bisogno imperioso dei polmoni di essere tosto o rialimentati ossia di essere riforniti d'aria con un'altra immediata ispirazione essendo essi dopo consumata l'esalazione rimasti relativamente vuoti cioè sprovvisti dell'aria per loro necessaria da principio il praticante nell'atto d'accordarsi con la pulsazione contandone mentalmente i battiti per compiere sincronicamente i quattro tempi o parti della respirazione ritmica quasi senza accorgersene eseguirà queste parti a piccoli colpi e battute corrispondenti ai battiti della pulsazione ma egli dovrà avvertire che questi colpi o scatti siano il meno possibile pronunciati e vengano via via diminuendo fino a scomparire affatto altresì dovrà procurare di fare a meno del sussidio di contare mentalmente per mantenersi in accordo con la pulsazione e così cercare di avviarsi pian piano e con l'esercizio all'acquisto e alla pratica della respirazione ritmica quasi per abitudine in modo da poterla compiere automaticamente conducendola cioè subito all'unisono con la pulsazione anche senza pensarci 2 si potrebbe forse tradurre in italiano approssimativamente per conquistare una posizione 3 tutti i mistici sono concordi in tale principio e non è fuori di luogo riportare qui la massima che si trova nella pagina 8 della luce sul sentiero cresci come il fiore inconsciamente ma ardentemente ansioso di aprire all'aria e al sole l'anima tua 4 non sapete voi che voi siete il tempio di dio e che lo spirito di dio abita in voi San Paolo CFR Blavatsky Introduzione alla teosofia pagina 84 Edizione Fratelli Bocca Torino 1911 NDT Avete ascoltato La respirazione e la salute di Yogi Ramacharaka Prima edizione 1950 Fratelli Bocca Editori Edizione Audiolibro 2020 a cura di David De Angelis Narrato da Vita Wolf Notte degli editori È superfluo per noi sottolineare i meriti di questo argomento o del suo autore Sri Svami Sivanandaji Maharaj Sri Svamiji vive già nei cuori delle persone e del mondo come un salvatore infallibile Il metodo Svamiji presenta temi complessi riguardanti lo yoga in uno stile semplice e inimitabile con convincenti rassicurazioni e in un modo unico e impareggiabile È considerato autorevole soprattutto perché Svamiji non è solo un medico esperto ma anche un vero e proprio yogi Ejivan Mukta La pratica del pranayama è stata vista con timore in alcuni ambienti a causa di certe limitazioni vale a dire l'assoluta necessità della vicinanza ad un guro perfezionato le restrizioni dietetiche e cose simili Sri Svamiji spiega qui in termini chiari le stravaganze di tali timori e ha stabilito dei metodi molto semplici e sicuri Questo libro contiene lezioni adatte a tutti i tipi di sadaka Coloro che seguiranno le istruzioni speciali indicate verso la fine del libro potranno essere sicuri del loro successo e della loro sicurezza Pranayama è un hanga importante nello yoga ashtanga È necessario a tutti in ugual misura nella vita quotidiana per assicurarsi una buona salute e per avere successo e prosperità in ogni ambito della vita Come questo sia possibile è spiegato in queste pagine La scienza del rilassamento è un dono davvero prezioso per i lettori e tutti possono trarne beneficio Ci sentiamo molto incoraggiati dalla calorosa accoglienza che hanno avuto le edizioni precedenti grazie ai nostri cari lettori e ci auguriamo che sempre più sadaka si dedicheranno a questo aspetto importante del sadhana nelle loro pratiche spirituali quotidiane e che possano sentire personalmente la felicità e la gioia che li condurranno alla celestiale vita divina la società della vita divina Introduzione Oggi per spostarsi velocemente il mondo materiale ci mette a disposizione le ferrovie i battelli gli aeroplani e così via ma gli yoghi affermano che secondo la cultura dello yoga il peso del corpo può essere ridotto a tal punto da poter volare nello spazio a qualsiasi distanza in un istante essi sanno preparare un unguento magico che applicato alla pianta dei piedi dona il potere di attraversare qualsiasi distanza sulla terra in un tempo molto breve secondo i principi di Khechari Mudra estendendo e posizionando la lingua sulle aperture nasali posteriori essi sono in grado di volare inoltre tenendo una pillola magica in bocca riescono anche a muoversi nello spazio verso qualunque luogo in un batter d'occhio quando siamo ansiosi di sapere come stanno i nostri cari in una terra lontana o straniera scriviamo una lettera o inviamo un telegramma urgente ma gli yoghi affermano che con la meditazione di Ana essi sono in grado di sapere tutto ciò che accade in qualsiasi parte del mondo con una proiezione della mente o viaggiando mentalmente la distanza richiesta in pochi secondi lo yoghi lahiri il cui samadhi è ancora veranasi è andato a Londra per vedere lo stato di salute della moglie e del suo superiore per collegarci con un amico distante il mondo materiale ci fornisce telefoni e ricevitori wireless ma gli yoghi affermano che tramite i loro poteri dello yoga sono in grado di sentire tutto da qualsiasi distanza anche la voce di Dio e di altri esseri invisibili del firmamento al giorno d'oggi quando un uomo soffre di una malattia ha a disposizione medici farmaci iniezioni e così via ma gli yoghi affermano che con un semplice sguardo con un semplice tocco o recitando un mantra non solo la malattia può essere curata ma si può addirittura dare la vita a un uomo morto questi yoghi con una concentrazione continua e persistente ottengono i vari poteri dello yoga noti come Siddhis coloro che acquisiscono questi Siddhis sono conosciuti come Siddhana il processo attraverso il quale ottengono i Siddhis è chiamato Sadhana Pranayama è uno dei Sadanas più importanti attraverso la pratica dell'asana è possibile controllare il corpo fisico e attraverso il Pranayama è possibile controllare il corpo sottile e astrale o il linga sarira poiché esiste una connessione intima tra il respiro e le correnti nervose il controllo del respiro conduce al controllo delle correnti vitali interiori il Pranayama occupa un posto molto importante nella religione indiana ogni Brahmachari e anche ogni Grehasta deve fare pratica tre volte ogni mattina mezzogiorno e sera nelle sue venerazioni quotidiane durante Sandhya questo precede ogni pratica religiosa degli Hindu prima di mangiare prima di bere prima di decidere di fare qualsiasi cosa si dovrebbe eseguire prima il Pranayama in modo che la natura della determinazione sia chiaramente enunciata e considerata prima della mente il fatto di precedere qualsiasi tentativo della volontà è una garanzia che quel tentativo sarà coronato dal successo e la mente sarà diretta a determinare il risultato desiderato qui potrei fare riferimento all'impresa della mente praticata dagli yogi Hindu sotto il nome di concentrazione su cento cose con il Satavadana vengono poste cento domande a un Satavadani o alla persona concentrata in rapida successione da diverse persone alcune testano la memoria verbale dell'esecutore altre testano la potenza di calcolo mentale e altri provano a testare le sue doti artistiche senza lasciargli mai il tempo di ragionare sulle domande che gli sono state poste l'esecutore inizia ricreando le domande in qualsiasi ordine nel rispetto di tali domande con le risposte questo viene generalmente svolto in tre o più turni e gli dà in ogni turno solo una parte della risposta ad ogni domanda e poi continua da dove ha lasciato nel turno seguente se le domande riguardano la natura dei problemi matematici a cui si richiede una soluzione egli fornirà le risposte insieme ai problemi avendoli risolti mentalmente questa facoltà di concentrazione della mente è spesso mostrata non solo con riferimento all'intelletto ma con riferimento anche ai cinque sensi un numero di campane vengono contrassegnate in modo diverso e i suoni vengono studiati e memorizzati mentalmente con il segno che gli è stato dato un numero di oggetti di forma e colore simile che potrebbero ingannare l'occhio di una persona ordinaria vengono mostrati una volta a Lavadani con il loro contrassegno mentre egli si occupa di altre faccende se una campana suona o uno degli oggetti appare improvvisamente ai suoi occhi immediatamente menzionerà il segno della campana o il numero dell'oggetto mostrato allo stesso modo verrà testata anche l'intensità del suo tocco tale impresa della mente è dovuta all'allenamento che ricevono praticando giornalmente il pranayama il prana può essere definito come la più sottile forza vitale presente in ogni cosa che diventa visibile sul piano fisico sotto forma di movimento e azione e sul piano mentale come pensiero la parola pranayama pertanto significa l'equilibrio delle energie vitali è il controllo dell'energia vitale che freme nei nervi di una persona muove i suoi muscoli e gli permette di sentire il mondo esterno e di elaborare i suoi pensieri interiori questa energia è di una tale natura che può essere chiamata vis viva dell'organismo animale il controllo di questa forza è ciò a cui mirano gli yogi tramite il pranayama colui che arriva a padroneggiare ciò non è solo il conquistatore della sua stessa esistenza sul piano fisico e mentale ma il conquistatore del mondo intero il prana è l'essenza stessa della vita cosmica quel sottile principio che ha permesso l'evoluzione dell'intero universo nella sua forma presente e che lo spinge verso il suo obiettivo finale per lo yogi l'intero universo è il suo corpo la materia che compone il suo corpo è la stessa che ha evoluto l'universo la forza che pulsa attraverso i suoi nervi non è diversa dalla forza che vibra nell'universo per lui la conquista sul corpo pertanto significa la conquista sulle forze della natura secondo la filosofia degli hindu tutta la natura è composta da due sostanze principali una è chiamata a casa o etere e l'altra prana o energia si può dire che corrispondano alla materia e alla forza degli scienziati moderni tutto quello che nell'universo possiede una forma o un'esistenza materiale si è evoluto da questa sostanza sottile onnipresente e penetrante a casa i gas i liquidi i solidi e l'intero universo che comprende il nostro sistema solare e milioni di enormi sistemi simili al nostro e anche qualsiasi tipo di esistenza che può essere usata con la parola creato sono i prodotti di questa sottile invisibile a casa e che alla fine di ogni ciclo ritorna al punto iniziale allo stesso modo tutte le forze della natura note all'uomo come la gravitazione la luce il calore l'elettricità il magnetismo tutto ciò che può essere raggruppato sotto il nome generico di energia creazione fisica correnti nervose sono note come pensiero e forze animali e anche altre forze intellettuali possono essere considerate la manifestazione del prana cosmico la loro esistenza ha inizio dal prana e nel prana infine si placano ogni tipo di forza presente in questo universo fisico o mentale può essere risolta in questa forza originale non ci può essere nulla di nuovo tranne questi due fattori in una delle loro forme la conservazione della materia e la conservazione dell'energia sono le due leggi fondamentali della natura mentre una insegna che la somma totale di a casa che forma l'universo è costante l'altra insegna che la somma totale di energia che fa vibrare l'universo è anch'essa una quantità costante alla fine di ogni ciclo le diverse manifestazioni dell'energia si calmano e diventano potenti così anche la casa diventa indistinguibile ma all'inizio del ciclo successivo le energie ricominciano da capo e agiscono sulla casa in modo da coinvolgere le diverse forme di conseguenza quando la casa cambia e diventa grossolana o sottile cambia anche il prana che diventa grossolano o sottile poiché il corpo umano è solo un microcosmo per uno yogi il suo corpo composto dal sistema nervoso e dagli organi interni di percezione rappresentano per lui la casa microcosmico le correnti nervose e le correnti mentali e il prana cosmico per comprendere i segreti del loro funzionamento e per controllarli significa pertanto ottenere la massima conoscenza e la conquista dell'universo colui che riesce a comprendere questo prana ha compreso l'essenza stessa della vita e dell'attività cosmica colui che ha conquistato e controllato quest'essenza non solo ha soggettato il proprio corpo e la propria mente ma anche tutti i corpi e le menti in questo universo quindi il pranayama o il controllo del prana è il mezzo con cui lo yogi cerca di realizzare nel suo piccolo corpo l'intera vita cosmica e cerca di raggiungere la perfezione ottenendo tutti i poteri dell'universo i vari esercizi e allenamenti che gli svolge servono a questo scopo perché aspettare? aspettare significa ulteriore sofferenza e miseria aumentiamo la velocità impegniamoci al massimo finché non riusciamo a superare l'enorme voragine del tempo eseguendo il sadhana in modo corretto possiamo raggiungere tutti gli obiettivi in una sola volta in questo corpo proprio ora in questo stesso istante perché non ottenere quella conoscenza infinita beatitudine infinita pace infinita e potenza infinita ora? la soluzione del problema è l'insegnamento dello yoga tutta la scienza dello yoga ha questo obiettivo consentire all'uomo di attraversare l'oceano di samsara per aumentare la potenza sviluppare la conoscenza e ottenere l'immortalità e la beatitudine eterna capitolo 1 prana e pranayama il pranayama è una scienza esatta è il quarto anga o arto dello yoga ashtanga la regolazione del respiro o il controllo del prana è l'interruzione dell'inspirazione e dell'espirazione che segue dopo aver assicurato la stabilità della postura o del posto a sedere asana così è definito il pranayama nei Patanjali Yoga Sutra capitolo secondo 49 svasa significa respiro inalatorio e prasvasa è il respiro espiratorio il respiro è la manifestazione esterna del prana la forza vitale il respiro come elettricità è un prana grossolano esercitando il controllo su questa respirazione è possibile controllare il prana sottile interno il controllo del prana significa il controllo della mente la mente non può funzionare senza l'aiuto del prana solo le vibrazioni del prana producono pensieri nella mente è il prana che muove la mente è il prana che mette in movimento la mente è il sukshma prana o il prana fisico che è intimamente connesso con la mente questo respiro rappresenta il volano di un motore proprio come le altre ruote si fermano quando il conducente ferma il volano è possibile controllare facilmente le altre ruote allo stesso modo se si controlla il respiro esterno si potrà facilmente controllare la forza vitale interna il prana il processo tramite cui si controlla il prana con la regolazione del respiro esterno si chiama pranayama proprio come un orefice rimuove le impurità dell'oro riscaldandolo nel forno caldo soffiando con forza nella canna anche uno studente di yoga rimuove le impurità del corpo e gli indria soffiando i polmoni cioè praticando il pranayama lo scopo principale del pranayama è di unire il prana con la pana e di portare il pranapana unito lentamente verso la testa l'effetto o il frutto del pranayama e l'udgata o il risveglio del kundalini dormiente che cos'è il prana? colui che conosce il prana conosce i veda è l'importante dichiarazione delle sruti nel vedanta sutra troverete per lo stesso motivo il respiro è brahman il prana è la somma totale di tutte le energie che si manifestano nell'universo è la somma totale di tutte le forze della natura è la somma totale di tutte le forze e le potenze latenti nascoste nell'uomo e che si trovano ovunque attorno a noi il calore l'elettricità il magnetismo sono tutte manifestazioni del prana tutte le forze i poteri e il prana nascono dalla fontana o fonte comune atman tutte le forze fisiche tutte le forze mentali si uniscono sotto la categoria del prana è una forza che governa ogni piano dell'essere da quello superiore a quello inferiore qualsiasi cosa si muova agisca o abbia vita è un'espressione o manifestazione del prana anche la casa o l'etere è un'espressione del prana il prana è legato alla mente e tramite la mente è legato alla volontà e tramite la volontà è legato all'anima dell'individuo e tramite questo è legato all'essere supremo se si è in grado di controllare le piccole onde del prana che operano nella mente allora il segreto del dominante prana universale vi sarà svelato lo yogi che diventerà un esperto della conoscenza di questo segreto non avrà paura di alcun potere perché avrà una padronanza di tutte le manifestazioni dei poteri nell'universo ciò che è comunemente noto come potere della personalità non è altro che la naturale capacità di una persona di controllare il suo prana alcune persone hanno più successo di altre nella vita sono più influenti e affascinanti tutto è dovuto al potere del loro prana queste persone manipolano ogni giorno naturalmente in modo inconscio la stessa influenza che lo yogi usa consciamente con il comando della sua volontà ci sono altre persone che inconsapevoli del potere del prana lo usano per scopi immorali e sotto nomi falsi il prana si vede anche nella funzione sistolica e diastolica del cuore quando esso pompa il sangue nelle arterie durante l'inspirazione e l'espirazione mentre respiriamo durante la digestione del cibo nell'escrezione di urina e di materia fecale nella produzione di sperma di chilo di chimio di succo gastrico di bile di saliva nella chiusura e apertura delle palpebre quando camminiamo corriamo parliamo pensiamo ragioniamo nei sentimenti e nella volontà il prana è quindi il collegamento tra il corpo astrale e il corpo fisico quando il sottile filo di collegamento del prana è tagliato dal corpo astrale e si separa dal corpo fisico avviene la morte il prana che lavorava nel corpo fisico si ritira nel corpo astrale questo prana rimane in uno stato sottile immobile non manifesto indifferenziato durante il pralaia cosmico quando la vibrazione è organizzata il prana si muove e agisce sulla casa e crea le varie forme il macrocosmo brahmanda e il microcosmo pindanda sono combinazioni del prana energia e della casa materia ciò che muove il motore a vapore di un treno o di un vaporetto ciò che fa volare gli aerei in aria ciò che causa il movimento del respiro nei polmoni ciò che è la vera vita di questo stesso respiro è il prana credo che ora voi abbiate una comprensione molto più completa del termine prana rispetto all'inizio quando avevate una concezione molto vaga controllando il respiro si può controllare in modo molto efficiente tutti i vari movimenti nel corpo e le diverse correnti nervose che scorrono nel corpo si può facilmente e rapidamente controllare e sviluppare corpo mente e anima attraverso il controllo del respiro o del prana è attraverso il pranayama che si può controllare le proprie circostanze e il proprio carattere e armonizzare consciamente la vita individuale con la vita cosmica il respiro diretto dal pensiero sotto il controllo della volontà è una forza vitalizzante e rigenerante che si può utilizzare consciamente per lo sviluppo personale per curare molte malattie incurabili nell'organismo per guarire altre persone e per molti altri scopi utili è alla portata di tutti in qualsiasi momento della propria vita usatelo con giudizio molti yogi di un tempo come Srijnanadeva tra i Lingasvami Ramalingasvami e altri hanno utilizzato questo respiro questa forza il prana in molti modi è il prana che state respirando piuttosto che l'aria atmosferica inalate lentamente e costantemente con una mente concentrata trattenete l'aria finché vi sentite a vostro agio poi espirate lentamente non dovrebbe esserci tensione in nessuno stadio del pranayama realizzate i poteri occulti della vita interiore che sono alla base del respiro diventate uno yogi ed emanate gioia luce e potenza attorno a voi gli yogi pranavadins o hatha ritengono che il prana tattva sia superiore al manastattva il principio della mente essi dicono che il prana è presente anche quando la mente è assente durante il sonno quindi il prana gioca un ruolo più vitale della mente se si leggono le parabole di kaushitake e di jahanandogia quando tutti gli indria la mente e il prana combattono tra loro per garantire la propria superiorità scoprirete che il prana è considerato il più elevato di tutti il prana è il più vecchio poiché inizia a funzionare dal momento stesso in cui il bambino è concepito a differenza degli organi dell'udito eccetera che iniziano a funzionare solo quando si formano gli organi cioè le orecchie eccetera il prana chiamato gesta e sreshta più vecchio e migliore nell'eupanishad è attraverso le vibrazioni del prana psichico che la vita della mente sankalpa o pensiero viene mantenuto e prodotto vedete ascoltate parlate percepite pensate sentite volete sapete eccetera attraverso l'aiuto del prana e pertanto gli srutis dichiarano il prana è brahman la sede del prana la sede del prana è il cuore sebbene l'antakarana sia uno solo esso assume quattro forme vale a dire primo manas secondo buddhi terzo citta e quarto amkara a seconda delle diverse funzioni che svolge allo stesso modo anche se il prana è uno solo assume cinque forme cioè uno prana due apana tre samana quattro udana cinque viana a seconda delle diverse funzioni che svolge questo è chiamato vritti veda il prana principale è chiamato mucchia prana il prana unito all'amkara vive nei nostri cuori tra questi cinque prana e apana sono gli agenti principali la sede del prana è il cuore di apana è l'ano di samana è la zona dell'ombelico di udana è la gola mentre viana è diffuso dappertutto si muove in tutto il corpo i sub prana e le loro funzioni naga kurma krikara devadatta dananjaya sono i cinque sub prana la funzione del prana è la respirazione apana svolge la funzione escretoria samana svolge la digestione udana svolge la deglutizione ingestione del cibo per dormire serve il jiva esso separa il corpo astrale dal corpo fisico nel momento della morte viana gestisce la circolazione sanguigna naga fa erutazioni e singhiozzo kurma svolge la funzione di aprire gli occhi krikara provoca la fame e la sete devadatta sbadiglia dananjaya provoca la decomposizione del corpo dopo la morte quell'uomo non rinascerà mai quando morirà il cui respiro esce dalla testa dopo aver perforato il bra marandra il colore dei prana si dice che il prana sia del colore del sangue rosso gemma o corallo l'alpana che è nel mezzo è del colore dell'indragopa un insetto di colore bianco o rosso il samana ha un colore tra quello del latte puro e del cristallo o di un colore oleoso e lucido cioè di qualcosa tra il prana e la pana l'udana è di colore apandura bianco pallido e il colore di viana assomiglia al colore dell'oricello o di un raggio di luce la lunghezza delle correnti d'aria questo corpo di vaio ha una lunghezza standard di 96 cifre 6 piedi la lunghezza ordinaria della corrente d'aria quando è espirata è di 12 cifre 9 pollici durante il canto la sua lunghezza raggiunge le 16 cifre un piede quando si mangia diventa di 20 cifre 15 pollici durante il sonno è di 30 cifre 22 pollici e mezzo durante la copulazione è di 36 cifre 27 pollici e durante l'attività fisica è molto più di così riducendo la lunghezza naturale delle correnti d'aria degli espiratori a 9 pollici la vita si allunga e aumentando la corrente la durata della vita diminuisce la centratura del prana inalando il prana dall'esterno riempendo lo stomaco con esso centrando il prana con la mente al centro dell'ombelico sulla punta del naso sulle dita dei piedi durante il sandhias alba e tramonto o in ogni momento lo yogi si libera da tutte le malattie e le fatiche centrando questo prana sulla punta del naso egli ottiene controllo sugli elementi dell'aria centrandolo al centro dell'ombelico tutte le malattie sono distrutte centrandolo sulle dita dei piedi il suo corpo diventa luce colui che beve aria attraverso la lingua distrugge le sue fatiche la sete e molte altre malattie colui che beve l'aria con la bocca durante i due sandhias e durante le ultime due ore della notte entro tre mesi il favorevole sarasvati dea del linguaggio sarà presente al suo vac linguaggio quindi diventa eloquente e colto entro sei mesi sarà libero da tutte le malattie inspirando l'aria alla radice della lingua l'uomo saggio così bevendo il nettare gode di ogni prosperità i polmoni non sarò fuori luogo ora se dedicherò una parola sui polmoni e sulla loro funzione gli organi della respirazione sono formati da due polmoni uno su entrambi i lati del torace uno su ciascun lato della linea mediana sono divisi dal cuore dai principali vasi sanguigni e dai bronchi i polmoni hanno una consistenza spugnosa porosa e i loro tessuti sono molto elastici la sostanza dei polmoni contiene innumerevoli alveoli che contengono aria dopo la morte se immersi in una bacinella di acqua galleggiano sono coperti da una delicata membrana sirosa chiamata pleura che contiene un fluido siroso che previene l'attrito dei polmoni durante la respirazione una parete della pleura aderisce ai polmoni l'altra parete è attaccata alla parete interna del torace attraverso questa membrana i polmoni sono fissati alle pareti del torace il polmone destro è formato da tre lobby il polmone sinistro ha invece due lobby ogni polmone è costituito da un apice e da una base la base è rivolta verso il diaframma il setto muscolare la parete divisoria tra la gola e l'addome l'apice è situato sopra vicino alla radice del collo è la base che si infiamma nella polmonite l'apice del polmone che non riceve un adeguato apporto di ossigeno si consuma offre un terreno fertile per i bacilli tubercolari TB praticando il kapalabati bastrica pranayamas ed altri esercizi di respirazione profonda questi apici ricevono un buon apporto di ossigeno e la tubercolosi viene eliminata il pranayama sviluppa i polmoni colui che pratica il pranayama avrà una voce potente dolce e melodiosa gli organi della respirazione includono le cavità nasali la faringe o gola la laringe la trachea il polmone destro e il polmone sinistro e i bronchi e bronchioli quando respiriamo inspiriamo l'aria dal naso che passa attraverso la faringe e la laringe poi attraversa la trachea e quindi nei due bronchi che si suddividono in numerosi piccoli tubi chiamati bronchioli che terminano in minuscole sacche d'aria gli alveoli di cui i polmoni ne contengono milioni se si stendono gli alveoli del polmone su una superficie essi coprirebbero una superficie di 140.000 piedi quadrati l'aria viene ispirata nei polmoni per azione del diaframma quando si espande le dimensioni del torace e dei polmoni aumentano e l'aria esterna si precipita nel vuoto creato il torace e i polmoni si contraggono quando il diaframma si rilassa l'aria viene espulsa dai polmoni è attraverso le corde vocali che si trovano nella laringe che viene prodotto il suono la laringe è la cassa armonica quando le corde vocali sono sottoposte a troppa tensione come nel canto o in un lungo discorso la voce diventa rauca nelle donne queste corde sono più corte per questo hanno una voce dolce e melodiosa i numeri di respiri al minuto sono 16 nella polmonite aumentano a 60 70 80 al minuto nell'asma i bronchi diventano spasmodici e si contraggono creando difficoltà nella respirazione il pranayama rimuove lo spasmo e la costrizione il piccolo tappo piatto membranoso che copre la superficie superiore della laringe si chiama epiglottide esso impedisce al cibo o all'acqua di entrare nelle vie respiratorie agisce come valvola di sicurezza quando una piccola particella di cibo prova ad entrare nelle vie respiratorie si presenta la tosse e la particella viene espulsa i polmoni purificano il sangue il sangue inizia il suo viaggio arterioso rosso vivo e carico di nutrienti ritorna dal circolo venoso povero carico di prodotti di scarto dell'organismo le arterie sono dei vasi che trasportano sangue puro e ossigenato dal cuore verso i vari organi del corpo il lato destro del cuore contiene sangue venoso impuro dal lato destro del cuore il sangue impuro arriva ai polmoni per essere purificato e viene distribuito tra le milioni di minuscole cellule nei polmoni l'aria viene inalata e l'ossigeno entra in contatto con il sangue impuro attraverso le sottili pareti dei vasi sanguigni dei polmoni chiamati capillari polmonari le pareti dei capillari sono molto sottili sono come stoffa di mussola o un setaccio il sangue filtra fuori o trasuda subito l'ossigeno penetra attraverso le fini pareti di questi capillari quando l'ossigeno entra in contatto con il tessuto avviene una forma di combustione il sangue si carica di ossigeno e rilascia l'anidride carbonica un gas che si genera dai prodotti di rifiuto e dai materiali tossici che è stato raccolto dal sangue da tutte le parti dell'organismo il sangue purificato viene trasportato dalle quattro vene polmonari all'auricola sinistra e quindi al ventricolo sinistro dal ventricolo il sangue viene pompato nella orta dalla orta passa nelle varie arterie del corpo è stimato che in un giorno 35.000 pinte di sangue attraversano i capillari dei polmoni per essere purificati dalle arterie il sangue purificato passa nei capillari sottili dai capillari esce la linfa del sangue bagna e nutre i tessuti del corpo la respirazione dei tessuti avviene nei tessuti i tessuti prelevano l'ossigeno e rilasciano il diossido di carbonio le impurità vengono portate dalle vene al lato destro del cuore chi è il creatore di questa delicata struttura? sentite la mano invisibile di dio dietro a questi organi la struttura del corpo rivela indubbiamente l'oniscenza del signore l'antaryamin o l'abitante dei nostri cuori supervisione il funzionamento della fabbrica interna come drashta senza la sua presenza il cuore non può pompare il sangue nelle arterie i polmoni non possono completare il processo di purificazione del sangue pregate donate il vostro silenzioso omaggio a lui ricordatevi di lui in ogni momento sentite la sua presenza in tutte le cellule del corpo ida e pingala ci sono due correnti nervose situate ai due lati della colonna vertebrale quella a sinistra si chiama ida e quella a destra è nota come pingala sono le nadis con esitazione alcuni li considerano come le corde simpatiche di destra e sinistra ma sono dei tubi sottili che trasportano il prana la luna si muove in ida e il sole in pingala ida è rinfrescante pingala riscalda ida scorre attraverso la narice sinistra e pingala attraverso la narice destra il respiro scorre attraverso la narice destra per un'ora e poi attraverso la narice sinistra per un'altra ora l'uomo è sempre occupato in attività mondane quando il respiro scorre attraverso ida e pingala quando su shumna agisce egli diventa morto per il mondo ed entra in samadhi uno yogi fa del suo meglio per far scorrere il prana nella nadi su shumna conosciuta anche come la nadi brahman centrale sul lato sinistro di su shumna è situata ida e sul lato destro è situata pingala la luna è della natura di tamas e il sole di rajas la parte velenosa è del sole e il nettare è della luna ida e pingala indicano il tempo su shumna è la consumatrice del tempo su shumna su shumna è la più importante tra tutte le nadi è la sostenitrice di tutto l'universo e la via della salvezza situata nella parte posteriore dell'ano è attaccata alla colonna vertebrale e si estende al bramarandra della testa ed è invisibile e sottile il vero lavoro di uno yogi inizia quando su shumna inizia a funzionare su shumna scorre lungo il centro della corda spinale o colonna vertebrale sopra gli organi genitali e sotto all'ombelico si trova il kanda che ha la forma di un uovo d'uccello da qui emergono tutte le nadi 72.000 di queste 72 sono comuni e generalmente note tra queste le principali sono 10 e trasportano i prana ida pingola su shumna gandari hastijva pusa yusasvini alambusa kuhu e sankhini sono considerate le 10 nadi più importanti gli yogi dovrebbero avere una buona conoscenza delle nadi e dei chakra si dice che ida pingola su shumna trasportino il prana e che abbiano la luna il sole e agni come i loro devatas quando il prana entra in su shumna ci si siede per meditare si avrà una profonda dhyana se l'energia avvolta kundalini passa attraverso l'anadi su shumna e passa da chakra a chakra lo yogi sperimenta diversi tipi di esperienze poteri e ananda kundalini kundalini è il potere del serpente o il sakti dormiente che ha tre avvolgimenti e mezzo con la faccia rivolta verso il basso nel chakra muladhara alla base della spina dorsale nessun samadhi è possibile senza che venga risvegliato la pratica di kumbhaka nel pranayama produce calore e quindi kundalini si risveglia e passa verso l'alto lungo la nadi su shumna il praticante di yoga sperimenta varie visioni poi il kundalini passa lungo i sei chakra ed eventualmente si unisce con lord shiva seduto sul sahasrara o loto dai mille petali sulla sommità del capo ora segui nirvikalpa samadhi e lo yogi ottiene la liberazione e tutti gli ashvaryas divini si dovrebbe praticare il controllo del respiro con la concentrazione della mente il kundalini risvegliato che sale verso il chakra mani pura potrebbe ricadere di nuovo verso muladhara dovrà essere risollevato di nuovo con fatica si dovrebbero eliminare completamente tutti i desideri ed essere piene di vairagia prima di provare a risvegliare kundalini kundalini è come un filo ed è risplendente quando viene svegliato sibila come un serpente picchiato da un bastone ed entra nel buco di sushumna quando viaggia da chakra a chakra strato dopo strato la mente si apre e lo yogi acquisisce vari siddhis poteri psichici i shat chakra i chakra sono centri di energia spirituale si trovano nel corpo astrale ma hanno anche centri corrispondenti con il corpo fisico sono difficilmente visibili con la vista solo un chiaroveggente è in grado di vederli con i suoi occhi astrali essi corrispondono a determinati plessi del corpo fisico ci sono sei chakra importanti muladhara che contiene quattro petali sull'ano svadishthana sei petali sugli organi genitani manipura dieci petali sull'ombelico anata dodici petali sul cuore visuda sedici petali sulla gola e ajna due petali nello spazio tra le due sopracciglia il settimo chakra è conosciuto come sahasrara che contiene mille petali è situato sopra la testa il plesso sacrale corrisponde al chakra muladhara il plesso prostatico a svadishthana il plesso solare a manipura il plesso cardiaco al chakra anata il plesso laringeo a visuda e il plesso cavernoso al chakra ajna nadis le nadis sono tubi astrali composti da materia astrale che trasportano le correnti praniche possono essere visti solo dagli occhi astrali non sono dei nervi ce ne sono 72.000 ida pingala e sushumna sono le più importanti sushumna è la più importante di tutte la purificazione delle nadi si dice che il pranayama sia l'unione tra il prana e la pana è di tre tipi espirazione inspirazione e trattenimento sono associati con le lettere dell'alfabeto sanscrito per la corretta performance del pranayama si dice che solo pranava sia pranayama seduta in pramadasana posizione del loto la persona dovrebbe meditare sulla punta del naso devi gaiatri una ragazza di carnagione rossa circondata da innumerevoli raggi a forma di luna e sopra adamsa cigno con una mano e mezza lei è il simbolo visibile della lettera A la lettera U ha come simbolo visibile Savitri una giovane donna bianca con in mano un disco che cavalca un'aquila Garuda la lettera M ha come simbolo visibile Sarasvati una donna anziana nera che cavalca un toro con in mano un tridente si dovrebbe meditare la singola lettera la luce suprema il pranava OM è l'origine o la fonte di queste lettere A U e M inspirando l'aria attraverso Ida narice sinistra per lo spazio di 16 matras egli dovrebbe meditare sulla lettera A durante quel periodo trattenendo l'aria ispirata per lo spazio di 64 matras egli dovrebbe meditare sulla lettera U durante quel periodo poi egli dovrebbe espirare l'aria ispirata per lo spazio di 32 matras meditando sulla lettera M durante quel periodo egli dovrebbe praticare ripetutamente seguendo sempre questo ordine avendo raggiunto una postura salda e avendo mantenuto un perfetto autocontrollo lo yogi dovrebbe per eliminare le impurità del Sushumna sedersi in Padmasana e inalando l'aria attraverso la narice sinistra dovrebbe mantenerla il più a lungo possibile e poi espirare attraverso la narice destra poi dovrebbe di nuovo ispirare l'aria attraverso la narice destra e dopo averla trattenuta dovrebbe ispirarla attraverso la narice sinistra egli dovrebbe ispirare l'aria nella stessa narice da cui aveva precedentemente ispirato l'aria prima di trattenerla per coloro che seguiranno queste regole attraverso la narice destra e sinistra le nadi dovrebbero purificarsi entro tre mesi egli dovrebbe praticare la cessazione del respiro all'alba a mezzogiorno al tramonto e a mezzanotte lentamente 80 volte al giorno per 4 settimane nella fase iniziale produrrà sudore nella fase centrale compariranno dei tremori al corpo e nella fase finale la lievitazione in aria questi risultati derivano dalla repressione del respiro mentre è seduto nella posizione del padma quando il sudore compare con la fatica si dovrebbe strofinare bene il corpo in questo modo il corpo diventa sodo e leggero nella prima fase degli esercizi alimentarsi con latte e burro chiarificato sarà ottimo attenendosi a questa regola la persona diventa risoluta nella sua pratica e non sente età apa sensazione di bruciore nel corpo come i leoni gli elefanti e le tigri vengono gradualmente domati anche il respiro quando gestito rigidamente viene tenuto sotto controllo praticando il pranayama si avrà la purificazione delle nadi l'illuminarsi del fuoco gastrico la capacità di sentire distintivamente suoni spirituali e una buona salute quando i centri nervosi sono purificati attraverso la pratica regolare del pranayama l'aria si fa strada facilmente attraverso la bocca del sushumna che si trova nel centro con la contrazione dei muscoli del collo e della concentrazione di quello sottostante cioè apana il prana entra nel sushumna che si trova nel centro dalla nadia a ovest nadisushumna si trova tra ida e pingala il prana che si alterna ordinariamente tra ida e pingala è trattenuto dal lungo kumbhaka poi insieme all'anima il suo supervisore entrerà nel sushumna la nadia centrale in uno dei tre luoghi dove produce lo spazio per l'entrata attraverso il trattenimento del respiro e nell'ombelico nel nadia sarasvati a ovest dopo questo ingresso lo yogi diventa morto per il mondo essendo in uno stato chiamato samadhi inspirando la pana e spingendo giù il prana dalla gola lo yogi si libera della vecchiaia e diventa un giovane di 16 anni praticando il pranayama le malattie croniche che resistono ai medici allopatici omeopatici aiurvedici e unani saranno sradicate quando le nadi sono purificate alcuni segni esterni appaiono sul corpo dello yogi ci sarà una leggerezza del corpo una carnagione luminosa un aumento del fuoco gastrico efficienza del corpo e anche l'assenza di irrequitezza nel corpo questi sono tutti segni di purificazione i shat karma i sei processi purificatori solo coloro che hanno una costituzione flaccida e apatica dovrebbero prima praticare questi sei kriyas per prepararsi alla pratica del pranayama con successo questi sei kriyas sono 1 dauti 2 basti 3 neti 4 tra taca 5 nauli e 6 capalabati dauti prendete un pezzo di mussola pulita larga 4 dita e lunga 15 piedi immergetela in acqua tiepida i bordi del panno devono essere ben cuciti ai lati e nessun pezzo di filo dovrebbe penzolare ora ingoiatelo lentamente e poi tiratelo fuori il primo giorno ingoiate un piede e in seguito aumentate un po' ogni giorno la lunghezza da ingoiare questo si chiama vasta dauti all'inizio potreste avere dei leggeri conati di vomito spariranno il terzo giorno questa pratica cura le malattie dello stomaco come la gastrite gulma dispepsia erutazioni febbre lombagine asma pila pliha malattie della milsa lebra malattie della pelle e disordini della bile e catarro non è necessario praticarlo giornalmente è sufficiente una volta alla settimana o ogni due settimane lavate il panno con sapone e tenetelo sempre pulito bevete una tazza di latte dopo aver terminato questa pratica sentirete una sensazione di asciutto all'interno basti questo può essere praticato con o senza un tubo di bambù ma è consigliabile avere il tubo di bambù sedetevi in una vasca d'acqua che copra l'ombelico assumete la posizione di utkatasana appoggiando il corpo sulla parte anteriore dei piedi e i talloni che premono sul fondo schiena prendete un piccolo tubo di bambù lungo sei dita e inserite quattro dita della sua lunghezza nell'ano dopo aver lubrificato il tubo con vasellina sapone o olio di ricino poi contraete l'ano aspirate l'acqua lentamente nell'intestino agitare bene l'acqua nell'intestino e poi espellerla verso l'esterno è conosciuto come gialabasti cura plia disordini urinari gulma mialgie l'idropesia disordini della digestione malattie della milza e dell'intestino malattie che derivano dai gas intestinali la bile e il catarro questo cria dovrebbe essere svolto al mattino a stomaco vuoto bevete una tazza di latte o assumete del cibo quando avrete terminato il cria questo cria può anche essere praticato mentre siete in un fiume c'è un altro modo di praticare il basti senza l'aiuto dell'acqua è chiamato stulabasti sedetevi in paschimottanasana o sul pavimento e agitate lentamente la zona addominale e intestinale con un movimento verso il basso contrarre i muscoli dello sfintere questo rimuoverà la costipazione e tutti i disordini addominali questo non è così efficace come il giallabasti neti prendete un filo sottile lungo 12 dita mezzo cubito senza nodi inseritelo nelle narici e passandolo all'interno estraetelo dalla bocca potete anche passare il filo in una narice ed estrarlo dall'altra narice il filo è incollato e quindi reso rigido per passarlo più facilmente questo cria purifica il cranio e produce una vista chiara e acuta in tal modo si cura la rinite e il raffreddore trattaca fissare fissate fermamente un piccolo oggetto qualsiasi senza sbattere gli occhi e con una mente concentrata fino a quando iniziano a scendere le lacrime con questa pratica verranno rimosse tutte le malattie degli occhi svanisce anche l'instabilità della mente si raggiunge il san bravi siddi si sviluppa la forza di volontà è indotta la chiara ovveggenza nauli questa è una contorsione addominale con l'aiuto dei muscoli del retto e dell'addome piegate la testa in giù isolate il muscolo del retto e ruotarlo da destra a sinistra e da sinistra a destra questo rimuove la costipazione aumenta il fuoco digestivo e distrugge i disordini intestinali capa labati fate reciaca e puraca rapidamente come il soffietto di un fabbro questo distrugge tutti i disordini provocati dal catarro istruzioni dettagliate vengono date separatamente capitolo 2 la stanza della meditazione trovate una stanza separata per la meditazione da tenere chiusa a chiave non permettete a nessuno di entrare in questa stanza mantenetela sacra se non potete permettervi di avere una stanza speciale per scopi contemplativi e per praticare il pranayama trovate un posto in un angolo di una stanza tranquilla preparato per questo scopo schermatelo situate nella stanza la foto del vostro guru o ishtadevata davanti alla vostra asana eseguite puja quotidianamente davanti alla foto fisicamente e mentalmente prima di iniziare la meditazione e il pranayama bruciate dell'incenso nella stanza o bruciate argabati bastoncini di incenso tenete anche dei libri sacri come ramayana srimat bhagavata ghita ghita upanishads yoga vasita eccetera per il vostro studio quotidiano stendete una coperta piegata in quattro parti e sopra un pezzo di panno bianco questo servirà allo scopo degli asana oppure stendete un'asana di erba kusa sopra stendete una pelle di cervo o tigre sedetevi su questa asana per praticare il pranayama e la meditazione potete avere una piattaforma rialzata in cemento sopra potete stendervi il vostro asana piccoli insetti formiche eccetera non vi infastidiranno quando vi sedete sull'asana mantenete la testa il collo e il busto in una linea retta in questo modo il midollo spinale che si trova nella colonna vertebrale sarà più libero i 5 essenziali sono necessarie 5 cose per praticare il pranayama primo un bel luogo secondo un'ora adatta terzo una luce moderata ed essenziale e del cibo nutriente quarto pazienza e una pratica persistente con zelo onestà e pace interiore e infine la purificazione delle nadi nadisuddi quando le nadis sono purificate l'aspirante entra nella prima fase della pratica dello yoga aramba un praticante di pranayama ha un buon appetito una buona digestione allegria coraggio forza vigore un alto standard di vitalità e un bell'aspetto lo yogi dovrebbe assumere il cibo in un momento in cui la nadisuria o pingala sta lavorando cioè quando il respiro scorre attraverso la narice destra perché pingala sta riscaldando e digerendo il cibo velocemente il pranayama non dovrebbe essere praticato subito dopo i pasti e nemmeno quando si ha molta fame gradualmente si dovrebbe essere in grado di trattenere il respiro per tre gatikas un'ora e mezza alla volta con questo lo yogi ottiene molti poteri psichici quando qualcuno vuole sbloccare il respiro per un lungo periodo dovrebbe rimanere a fianco di uno yogi guru che conosce accuratamente la pratica del pranayama il respiro può essere sospeso con una pratica graduata da uno a tre minuti senza l'aiuto di nessuno una sospensione di tre minuti sarà sufficiente per purificare le nadi e a stabilizzare la mente per ottenere una buona salute il luogo trovate un luogo solitario bellissimo e piacevole dove non sarete disturbati sulla riva di un fiume di un lago o al mare o sulla cima di una collina dove c'è una bella sorgente e un boschetto e dove sono facilmente reperibili degli alimenti e del latte costruite un piccolo cotir o rifugio abbiate un compound nell'angolo del recinto scavate una sorgente è impossibile ottenere il posto ideale che possa soddisfarvi sotto tutti i punti di vista le sponde del narmada jamuna ganga kaveri godavari krishna sono molto adatte per costruire kurtis o rifugi dovete selezionare un posto dove ci sono anche altri praticanti di yoga nelle vicinanze potreste consultarli nei momenti più difficili avrete fede negli yogi kriya quando vedrete altre persone devote a tali pratiche yoga vi applicherete in modo diligente alle vostre pratiche sentendo l'impulso di eccellere nasik rishikesh jansi prayag uttarkasi brindavan aioda varanasi eccetera sono degli ottimi luoghi potete trovare un posto lontano dalle località affollate se costruite un cutire in un luogo affollato persone curiose vi importuneranno non avrete alcuna vibrazione spirituale là se costruite il vostro cottage in una fitta foresta sarete senza protezione ladri e animali selvatici vi daranno fastidio sorgerà la domanda sulla difficoltà di trovare cibo in sveta svatara upanishad si dice in un luogo pianeggiante privo di ciottoli fuoco e ghiaia piacevole agli occhi e riparato in una grotta protetto dal vento lascia che una persona applichi la sua mente a dio coloro che praticheranno nelle proprie case possono convertire una stanza in una foresta qualsiasi stanza solitaria farà al vostro caso il tempo la pratica del pranayama dovrebbe iniziare in vasanta ritu primavera o in sarad ritu autunno perché in queste stagioni il successo è ottenuto senza difficoltà o problemi il vasanta è il periodo tra marzo e aprile il sarad l'autunno dura da settembre a ottobre in estate non praticate il pranayama nel pomeriggio o alla sera potete praticarlo nelle ore più fresche del mattino la di cari la persona qualificata colui che possiede una mente calma che ha dominato i suoi indriyas che ha fede nelle parole del guru e del sastras colui che è un'astica cioè che crede in dio e che mangia beve e dorme con moderazione e colui che ha un ardente desiderio di liberarsi dalla ruota delle nascite e delle morti è una di cari una persona qualificata per la pratica dello yoga tale uomo potrà facilmente avere successo in questa pratica il pranayama dovrebbe essere praticato con cura perseveranza e fede coloro che sono dipendenti dai piaceri sessuali o coloro che sono arroganti disonesti bugiardi diplomatici astuti e sleali coloro che non rispettano status e sannyasins e i loro guru o precettori spirituali e provano piacere in questioni egoistiche o sono di natura molto loquace coloro che non credono coloro che frequentano persone mondane coloro che sono crudeli duri e avidi e praticano inutilmente molta viavahara attività mondane non potranno mai avere successo nel pranayama o in qualsiasi altra pratica di yoga ci sono tre tipi di adhikaris cioè uno buono uttama due centrale madhiyama e tre inferiore adhama secondo i samskara intelligenza grado di vairagia viveka e mumuskutua e la capacità per sadhana dovete avvicinarvi a un guru che conosce lo yoga satra e che abbia padronanza su di esso sedervi ai suoi piedi di loto servitelo eliminate i vostri dubbi attraverso delle domande sensate e ragionevoli ricevete istruzioni e mettetele in pratica con entusiasmo zelo attenzione serietà e fede secondo i metodi insegnati dall'insegnante un praticante di pranayama dovrebbe sempre parlare in modo gentile e dolce deve essere gentile con tutti deve essere onesto deve dire sempre la verità deve sviluppare vairagia pazienza sradda fede bhakti devozione karuna pietà eccetera deve osservare l'obbligo del celibato un capofamiglia dovrebbe essere molto moderato nelle questioni sessuali durante la pratica la disciplina dietetica un esperto di yoga dovrebbe abbandonare certi alimenti nocivi alla pratica dello yoga dovrebbe rinunciare al sale alla mostarda alle cose aspre piccanti pungenti e amare alla safetita all'adorazione del fuoco alle donne a camminare troppo a fare il bagno all'alba al deperimento del corpo con diete eccetera nelle prime fasi di pratica latte e burro chiarificato sono ordinati anche alimenti costituiti da grano legumi verdi e riso rosso sembrano favorire il processo quindi egli sarà in grado di trattenere il respiro per il tempo che desidera così trattenendo il respiro per il tempo desiderato egli raggiungerà il kevala kumbhaka cessazione del respiro senza ispirazione ed espirazione quando una persona raggiunge il kevala kumbhaka può fare a meno dell'espirazione e dell'inspirazione per lui non c'è niente di irraggiungibile nei tre mondi all'inizio della sua pratica uscirà del sudore come una rana si muove saltando anche lo yogi seduto nel padmasana si muove sulla terra con ulteriore pratica sarà in grado di lievitare da terra mentre sarà seduto nella posizione del loto egli leviterà poi nascerà in lui il potere di compiere gesta straordinarie qualsiasi dolore piccolo o grande non influirà sullo yogi quindi le escrezioni e il sonno diminuiranno lacrime muco negli occhi il flusso salivare sudore e cattivo odore in bocca non emergeranno in lui con un ulteriore esercizio potrà acquisire una grande forza con cui otterrà buciara siddi che gli permetterà di portare sotto il suo controllo tutte le creature che calpestano questa terra tigri sarabas elefanti tori selvaggi e leoni potrebbero anche morire con un soffio emanato dai palmi di questo yogi diventerà bellissimo come il dio dell'amore stesso con la conservazione dello sperma un buon odore pervaderà il corpo dello yogi la dieta dello yoga l'istinto o la voce interiore vi guideranno nella selezione degli alimenti per la vostra dieta siete voi stessi il miglior giudice per creare un menù sattvic dello yoga che si adatti al vostro temperamento e alla vostra costituzione ulteriori informazioni sono date nell'appendice mitahara assumete alimenti sattvic salutari a stomaco mezzo pieno riempite un quarto con acqua pura e lasciate il quarto rimanente libero per la liberazione dei gas e per propiziare il signore la purezza nel cibo con la purezza del cibo segue la purificazione della natura interiore con la purezza della natura interiore la memoria diventa salda e rafforzando la memoria segue l'allentamento di tutti i legami e il saggio raggiunge così la liberazione non dovete praticare il pranayama subito dopo i pasti anche quando avete molta fame non dovete praticare andate in bagno e svuotate l'intestino prima di iniziare il pranayama un praticante di pranayama dovrebbe osservare il samyama controllo nel mangiare nel bere coloro che seguono una dieta in modo rigoroso e regolare ne traggono un immenso beneficio nel corso della pratica raggiungono rapidamente il successo le persone che soffrono di costipazione cronica e che hanno l'abitudine di defecare nel pomeriggio possono praticare il pranayama presto al mattino senza rispondere alle chiamate della natura dovrebbero trovare il modo migliore per ottenere un'evacuazione dell'intestino al mattino presto il cibo gioca un ruolo molto importante nello yoga sadhana un aspirante dovrebbe essere molto molto attento nella selezione degli alimenti della sua dieta più avanti quando il pranayama siddi è stato raggiunto le restrizioni dietetiche più drastiche possono essere rimosse charu è un misto di riso bianco bollito burro chiarificato zucchero e latte questa è una salutare combinazione per i praticanti di brahma charins e pranayama dieta del latte il latte dovrebbe essere riscaldato ma non bollito riscaldarlo significa che il latte deve essere immediatamente rimosso dal fuoco appena raggiunge il punto di bollitura bollirlo troppo significa distruggere le vitamine e lo rende piuttosto inutile come alimento nella dieta il latte è un alimento perfetto da solo perché contiene vari nutrienti in proporzioni ben bilanciate lascia pochissimo residuo nell'intestino è un alimento ideale per gli studenti di yoga durante la pratica del pranayama dieta della frutta una dieta di frutta esercita un'influenza benefica e limitiva sulla costituzione ed è una dieta molto vantaggiosa per gli yogi è una forma di dieta naturale i frutti sono ottimi produttori di energia banane uva arance dolci mele melograni mango chikus sapota ed atteri sono frutti salutari i limoni contengono proprietà antiscorbutiche e agiscono come sostanze rivitalizzanti nel sangue il succo d'arancia contiene la vitamina c il chikus migliora la purezza del sangue mango e latte sono una sana combinazione si potrebbe vivere con solo latte e mango il succo di melograno è rinfrescante e nutriente le banane sono molto nutrienti e sostanziose la frutta aiuta la concentrazione mentale alimenti consentiti orzo grano burro chiarificato latte e mandorle promuovono la longevità e aumentano la potenza e la forza l'orzo è un buon alimento nella dieta di uno yogi e sadaka è anche rinfrescante sri sva minarayan l'autore di ex satka anubai che indossa un kaupin di juta vive di solo pane prodotto con orzo egli consiglia pane di orzo ai suoi discepoli si dice che l'imperatore akbar viveva di solo orzo potete assumere grano riso orzo latte pane latte di mucca burro chiarificato zucchero burro caramelle miele zenzero essiccato sont legumi verdi mungdal verdure di pancia sciaca peipudalai patate uvetta datteri kichdi leggero di dal verde il kichdi è un piatto leggero e può essere assunto tranquillamente le porzioni dovrebbero essere ridotte per aumentare il kumbaka all'inizio della pratica è meglio non ridurre troppo il cibo dovrete usare buon senso durante tutta la sadana si può aumentare turchi il pancia sciaca appartiene alla famiglia degli spinaci è una verdura eccellente le fresche foglie espesse e succulente vengono bollite e condite o fritte con burro chiarificato sono cinque cioè seendil chakravarti ponnangani cirukerai e valoi quando il pingala o il surianadi scorre nella narice destra dovrete assumere il cibo surianadi produce calore esso digerisce bene il cibo potete assumere il jackfruit il cetriolo la melanzana stelo di piantaggine l'auki parval e il bindi ocra alimenti proibiti piatti troppo conditi corre piccante ciutni carne pesce peperoncino piccante alimenti aspri tamarindo tutti i tipi di olio assafetida sale aglio cipolla ukrad kidal fagiolo indiano nero tutti gli alimenti amari alimenti secchi zucchero nero aceto cagliata acida cibo raffermo cibi acidi astringenti cibi pungenti cibi arrostiti verdure pesanti frutta troppo matura o cruda zucche eccetera devono essere evitati la carne può rendere l'uomo uno scienziato ma raramente un filosofo uno yogi o un tat vajnani aglio e cipolla sono peggio della carne tutti gli alimenti contengono una piccola quantità di sale quindi anche se non aggiungete sale separatamente il sistema riceverà la quantità necessaria di sale da altri alimenti rinunciare al sale non creerà una carenza di sodio cloridrico e di spepsia come dicono follemente i medici allopatici il sale esalta la passione rinunciare al sale non causa alcun effetto negativo mahatma gandhi e svami yogananda hanno rinunciato al sale per oltre 13 anni rinunciare al sale aiuta a controllare la lingua e quindi anche la mente e a sviluppare la forza di volontà godrete di buona salute sedersi davanti al fuoco frequentare le donne e gente mondana iatra fare lunghe passeggiate trasportare carichi pesanti bagni freddi al mattino presto parole dure mentire azioni disoneste rubare uccidere animali imsa di tutti i tipi di pensiero parole e fatti odio ostilità verso il prossimo litigare combattere orgoglio falsità intrighi calunniare accusare disonestà discorsi diversi da quelli di Atman e mosca crudeltà verso gli animali e l'uomo diete troppo rigide o mangiare una sola volta al giorno eccetera non sono consentiti al praticante di pranayama un kotir per sadhana lo studente di pranayama dovrebbe preparare una stanza accogliente o un kotir con un'apertura molto piccola e senza fessure dovrebbe essere ben ricoperta di sterco di vacca o cemento bianco deve assolutamente essere priva di insetti zanzare e pidocchi deve essere ben spazzata tutti i giorni con una scopa dovrebbe essere profumata con una buona fragranza e si dovrebbe bruciare una resina profumata sedendosi nella sua sede né troppo in alto né troppo in basso su un'asana realizzato con un panno pelle di cervo ed erba cuscia posti uno sopra l'altro un uomo saggio dovrebbe assumere la posizione del loto e mantenere il corpo eretto e le mani piegate in segno di rispetto dovrebbe salutare la sua divinità tutoria e sri ganesha ripetendo on sri ganesha na maha poi dovrebbe iniziare a praticare il pranayama mantra il tempo impiegato per fare un giro del palmo della mano né in modo troppo lento né troppo velocemente schioccando una volta le dita è chiamato matra ogni unità di tempo è chiamata matra a volte un batter di ciglia viene considerato come il periodo di un matra il tempo necessario di una normale respirazione è considerato un matra il tempo occupato a pronunciare la monosillaba om è considerato come un matra questo è molto utile molti praticanti di pranayama adottano questa unità di tempo nella loro pratica padmasana posizione è anche conosciuto con il nome di kamalasana kamala significa loto quando viene dimostrato che l'asana presenta in un certo senso l'aspetto di un loto da qui il nome padmasana tra le quattro pose descritte per japa e diana padmasana viene per primo è la migliore asana per la contemplazione rishis come granda sa and ilia parlano molto bene di questa importante asana questo è molto gradito ai padroni di casa anche le donne possono sedersi in questa asana padmasana è adatto anche per le persone magre e i giovani tecnica sedetevi a terra allungando le gambe in avanti poi posizionate il piede destro sulla coscia sinistra e il piede sinistro sulla coscia destra mettete le mani sulle articolazioni delle ginocchia potete collegare due dita d'anello e tenere le mani in questa posizione sopra la caviglia sinistra per molte persone questo è molto comodo oppure potete posizionare la mano sinistra sopra il ginocchio sinistro e la mano destra sopra il ginocchio destro con il palmo rivolto verso l'alto e il dito indice che tocca la porzione centrale del pollice chin mudra Siddhasana la posizione perfetta dopo il padmasana come importanza c'è Siddhasana alcuni elogiano questa asana considerandola addirittura superiore al padmasana per lo scopo del dhyana contemplazione se si ottiene la padronanza su questa asana si acquisiscono molti siddhis inoltre era praticato da molti siddhas yogi esperti di un tempo da qui il nome Siddhasana anche le persone obese con grandi cosce possono praticare quotidianamente le asana infatti per molte persone questo è migliore in confronto al padmasana giovani brahmacharins che tentano di adattarsi alla castità dovrebbero praticare questa asana non è adatto alle donne tecnica posizionate il tallone sinistro vicino all'ano o guda all'apertura finale del canale alimentare o tubo digerente tenete il tallone destro alla radice dell'organo generativo i piedi o le gambe dovrebbero essere così ben sistemate che le articolazioni delle caviglie dovrebbero toccarsi l'un l'altra le mani possono essere posizionate come nel padmasana svastikasana posizione della prosperità svastika significa sedersi comodamente con il corpo eretto allungate le gambe in avanti piegate la gamba sinistra e posizionate il piede vicino al muscolo della coscia destra in modo simile piegate la gamba destra e spingete il piede nello spazio tra coscia e i muscoli del polpaccio ora vi ritroverete i piedi tra le cosce e i polpacci delle gambe questa posizione è molto comoda per la meditazione tenete le mani come indicato nel padmasana samasana posizione simmetrica posizionate il tallone sinistro dove inizia la coscia destra e il tallone destro dove inizia la coscia sinistra sedetevi a vostro agio non piegatevi né a sinistra né a destra questo si chiama samasana i tre bandas ci sono quattro vedas fuori di divisione cioè surya ujjayi sitali e basti attraverso questi quattro modi quando kumbhaka è vicino o sta per essere eseguito lo yogi senza peccato dovrebbe praticare i tre bandas il primo si chiama mulabanda il secondo si chiama udhyana e il terzo si chiama jalandara la loro natura sarà così descritta apana che ha una tendenza verso il basso viene forzata verso l'alto contraendo e spingendo l'ano verso l'alto questo processo è chiamato mulabanda quando apana è sollevata e raggiunge la sfera di agni fuoco allora la fiamma di agni cresce essendo soffiata da vaio agni e apana raggiungono e si mescolano con il prana in uno stato di calore attraverso questo agni che è molto ardente nel corpo sale la fiammata del fuoco che risveglia il kundalini dormiente poi il kundalini emette un suono sibilante diventa eretto come un serpente colpito da un bastone ed entra nel buco di bramanadi su shumna quindi gli yogi dovrebbero praticare quotidianamente mulabanda udhyana dovrebbe essere eseguito alla fine del kumbhaka e all'inizio dell'inspirazione siccome il prana udhyate sale nel suo shumna in questo banda è chiamato udhyana dagli yogi sedendosi nella posizione del vaira e tenendo saldamente le due dita dei piedi con le due mani vicino alle due caviglie egli dovrebbe gradualmente sostenere la capacità del tana filo o nadi la nadi sarasvati che si trova sul lato occidentale di udhara la parte superiore dell'addome sopra l'ombelico poi del collo quando il prana raggiunge la sani giunzione dell'ombelico rimuove lentamente le malattie dell'ombelico pertanto questo dovrebbe essere praticato in modo perfetto udhyana può essere eseguito anche stando in piedi quando lo praticate in piedi posizionate le mani sulle ginocchia o appena sopra le ginocchia tenete le gambe leggermente divaricate il banda chiamato jalandhara dovrebbe essere praticato alla fine del puraka jalandhara assume la forma di una contrazione al collo ed è di impedimento al passaggio verso l'alto divayu se il collo è contratto quando si piega la testa verso il basso in modo che il mento tocchi il petto il prana attraversa il brahmanadi sedendosi come indicato prima si dovrebbe accrescere sarasvati e controllare il prana il primo giorno kumbhaka dovrebbe essere eseguito quattro volte il secondo giorno dieci volte e poi cinque volte separatamente il terzo giorno venti volte saranno sufficienti e in seguito kumbhaka dovrebbe essere eseguito con i banda con un aumento di due volte al giorno aramba avasta pranava dovrebbe essere cantato con tre mantra intonazioni prolungate questo serve a distruggere i peccati precedenti il mantra pranava distrugge tutti gli ostacoli e tutti i peccati praticando questo egli raggiunge il aramba avasta inizio della prima fase il corpo dello yogi inizia a sudare quando suda egli dovrebbe strofinarlo bene con le mani si verifica anche un tremito del corpo a volte salta come una rana gata avasta poi segue il gata avasta il secondo stato che si acquisisce praticando costantemente la soppressione del respiro quando avviene un'unione perfetta tra prana e apana manas e buddhi oggi vatman e paratman senza opposizione questo viene chiamato gata avasta ora egli può praticare per circa solo un quarto del periodo prescritto per la pratica precedente di giorno e di sera lasciarlo praticare solo per un yama tre ore lasciarlo praticare il kevala kumbhaka una volta al giorno allontanando completamente gli organi dagli oggetti dei sensi durante la cessazione del respiro è chiamato pratyara qualunque cosa egli veda con i suoi occhi lasciate che lo consideri come atman qualunque cosa egli senta con le orecchie lasciate che lo consideri come atman qualunque cosa annusi con il naso lasciate che lo consideri come atman qualunque cosa assaggi con la lingua lasciate che lo consideri come atman qualunque cosa lo yogi tocchi con la sua pelle lasciate che lo consideri come atman Quindi lo yogi ottiene vari poteri meravigliosi, come la chiaroveggenza, la chiarudienza, l'abilità di trasportare se stesso per lunghe distanze in un momento, un formidabile uso della parola, la capacità di trasformarsi in qualsiasi forma desiderata, la capacità di diventare invisibile e il prodigio di saper trasformare il ferro in oro. Lo yogi che pratica lo yoga con attenzione ottiene il potere della levitazione. Poi, se il saggio yogi pensa che questi poteri siano grandi ostacoli nel conseguire gli obiettivi dello yoga, non dovrebbe mai trarre piacere da essi o farne ricorso. Lo yogi non dovrebbe esercitare questi poteri davanti a nessuna persona. Egli dovrebbe vivere nel mondo come un uomo ordinario per tenere i suoi poteri nascosti. I suoi seguaci senza dubbio potrebbero chiedergli di mostrare loro i suoi poteri per la gratificazione del loro desiderio. Colui che è attivamente occupato nei propri doveri, imposti dal mondo, si dimentica di praticare lo yoga. Quindi dovrebbe praticare giorno e notte nient'altro che yoga senza dimenticare le parole del suo auguro. Colui che è costantemente impegnato nelle pratiche dello yoga passa allo stato del gata. Non si ottiene nulla da una compagnia inutile e da persone con una mentalità mondana. Pertanto, con grande impegno, evitare le compagnie malvagie e praticare lo yoga. Il luogo dell'espirazione si trova entro 12 angolas, pollici, dalla punta del naso. Questo deve essere accertato attraverso un pezzo di canna o cotone. Il luogo dell'inspirazione si estende dalla testa fino alla pianta dei piedi. Questo deve essere accertato attraverso una sensazione simile al tocco di una formica. Il luogo di kumbhaka è costituito dai punti esterni ed interni dell'espirazione e dell'ispirazione messi insieme, perché le funzioni del respiro sono in grado di essere trattenuti in entrambi questi punti. Questo deve essere accertato attraverso l'assenza dei due indicatori riportati qui sopra, in connessione con l'espirazione e l'inalazione. La specificazione dei tre tipi di regolazione del respiro, da tutti e tre, tempo, spazio e numero, è solo opzionale. Non devono essere compresi per essere praticati collettivamente, perché in molti smritis incontriamo passaggi dove l'unica specificazione menzionata in riferimento alla regolazione del respiro è quella del tempo. Il quarto è trattenere il prana dirigendolo verso un oggetto esterno o interno. Vaya Bhyantara, Vishayakshepi, Chaturtha, Yoga Sutras, 11.50. Il terzo tipo di pranayama descritto nel Sutra 50 del Yoga Sutra è praticato solo fino a quando il primo uggdata è segnato. Questo quarto pranayama va oltre, riguarda la fissazione del prana nei vari loto, padma o chakra, procedendo lentamente e lentamente, passo dopo passo, fase dopo fase, fino all'ultimo loto nella testa, dove avviene il samadhi perfetto. Questo è interno, esternamente prende in considerazione la lunghezza del respiro secondo il tatva prevalente. Il prana può essere descritto sia all'interno sia all'esterno. Con una graduale padronanza sui tre tipi di pranayama preliminari entra in gioco il quarto tipo. Nel terzo tipo di pranayama la sfera non è presa in considerazione. Il blocco del respiro avviene con un singolo sforzo ed è poi misurato dallo spazio, tempo e numero e quindi diventa dirga, luogo, e sukshma, sottile. Nella quarta varietà, tuttavia, le sfere dell'espirazione e dell'ispirazione sono accertate. I diversi stati sono controllati a poco a poco. La quarta varietà non viene praticata tutta in una volta da un unico sforzo come il terzo. D'altro canto, raggiunge diversi stati di perfezione mentre viene eseguito. Dopo aver padroneggiato una fase, si prosegue a praticare la fase successiva. Poi si prosegue in successione. La terza non è preceduta da misurazioni ed è determinata da un singolo sforzo. La quarta fase è comunque preceduta dalla conoscenza delle misurazioni ed è determinata da un grande sforzo. Questa è l'unica differenza. Le condizioni di tempo, spazio e numero sono applicabili anche a questo tipo di pranayama. Ad ogni fase del progresso si sviluppano particolari i poteri occulti. Paricciaia vasta. Quindi, con una pratica costante, si raggiunge il paricciaia vasta, il terzo stato. Vayu, o respiro, attraverso un'ardua pratica, buca il kundalini, insieme ad agni, attraverso il pensiero, ed entra nel sushumna, ininterrottamente. Quando il citta di una persona entra nel sushumna con il prana, raggiunge la sede in alto nella testa con il prana. Quando lo yogi, attraverso la pratica dello yoga, acquisisce potere d'azione, kriya shakti, e perfora i sei chakra e raggiunge la sicura condizione di paricciaia, lo yogi vede perfettamente i triplici effetti del karma. Poi lasciate che lo yogi distrugga le moltitudini di karma tramite il pranava. Lasciate che consegua kaya vyua, un processo mistico di organizzazione dei vari skandhas nel corpo e di prendere i vari corpi, al fine di esaurire tutti i suoi karma precedenti, senza la necessità di rinascere. In quel momento, lasciate che lo yogi pratichi i cinque dharanas, o forme di concentramento, con cui ottiene il comando sui cinque elementi, e la paura di lesioni da uno di essi, è rimossa. Nishpatya Vasta Questa è la quarta fase del pranayama. Attraverso una pratica graduata, lo yogi raggiunge il nishpatya vasta, fase della consumazione. Lo yogi, avendo distrutto tutti i semi del karma, beve il nettare dell'immortalità. Egli non sente né fame né sete, né sonno né estasi. Egli diventa assolutamente indipendente. Può spostarsi ovunque nel mondo. Non è mai rinato. È libero da ogni malattia, decadimento e vecchiaia. Gode della beatitudine di Samadhi. Non ha più bisogno di alcuna pratica di yoga. Quando l'abile è tranquillo yogi, può bere il pranavayu, mettendo la lingua alla radice del palato. Quando conosce le leggi di azione del prana e della pana, ha diritto alla liberazione. Uno studente di yoga sperimenterà automaticamente tutti questi avasta uno per uno, mentre avanza nella sua pratica sistematica e regolare. Uno studente impaziente non può sperimentare nessuno di questi avasta con la pratica occasionale. Si dovrebbe aver cura di osservare il mitara e il bramaccharya. Capitolo 3. Prima parte. Che cos'è il pranayama? Tasmin satis vassa pranasvasayor gativiceda pranayama, regolazione del respiro o controllo del prana, è l'interruzione dell'ispirazione e dell'espirazione, che segue dopo aver assicurato la stabilità della postura o della sede. Questa è la definizione di pranayama nei sutra dello yoga di Patanjali. Svasa significa respiro inspiratorio. Prasvasa significa respiro espiratorio. Si può iniziare a praticare il pranayama dopo aver ottenuto la stabilità nel proprio asana, sede. Se si riesce a rimanere seduti per tre ore di seguito in un'asana, si ha acquisito la padronanza sull'asana. Se si è in grado di rimanere seduti anche da mezz'ora a un'ora, si può iniziare a praticare il pranayama. Difficilmente sarà possibile fare progressi spirituali senza la pratica del pranayama. Prana è vyashti, quando l'individuo è preoccupato. La somma totale dell'energia cosmica o del prana cosmico è il ranagarba, noto come l'uovo d'oro galleggiante. Il ranagarba è il prana di samashti. Un fiammifero è vyashti, singolo. L'intera scatola di fiammiferi è samashti. Un singolo albero di mango è vyashti. L'intero frutteto di alberi di mango è samashti. L'energia nel corpo è prana. Controllando il movimento dei polmoni o degli organi respiratori, possiamo controllare il prana che vibra dentro. Con il controllo del prana, la mente può essere facilmente controllata, perché la mente è legata al prana, come l'uccello al cordino. Proprio come un uccello legato al palo da un cordino, dopo aver volato qua e là, trova il suo luogo di riposo nel palo, così anche questa mente uccello, dopo aver corso qua e là, in vari oggetti sensuali, trova il suo luogo di riposo durante il sonno profondo nel prana. Il pranayama secondo i gita. Gita capitolo 4 29 Altri offrono il prana, respiro uscente, in apana, respiro un'entrata, e apana in prana, bloccando il passaggio di prana e apana, assorbito nel pranayama. Il pranayama è un prezioso yajna, sacrificio. Alcuni praticano il tipo di pranayama chiamato puraka, riempire. Alcuni praticano il tipo di pranayama chiamato rechaka, svuotare. Alcuni sono occupati nella pratica del pranayama chiamato kumbhaka, ostacolando il passaggio dell'aria verso l'esterno, attraverso le narici e la bocca, e ostacolando il passaggio dell'aria verso l'interno, nella direzione opposta. Il pranayama secondo Sri Sankaracharya. Il pranayama è il controllo di tutte le forze vitali, realizzando nient'altro che Brahman in tutte le cose, come la mente, eccetera. La negazione dell'universo è il respiro in uscita. Il pensiero «Io sono Brahman» da sé è chiamato il respiro in entrata. La permanenza di questo pensiero in seguito è il respiro trattenuto. Questo è il pranayama dei saggi, mentre la pressione del naso è solo per gli inconsapevoli. Aparokshanobuti 118-120. Il pranayama secondo yogi Busunda. Burunda dice a Sri Vasishta. Nel frescoloto del cuore all'interno di questo visibile palazzo di carne, composto dai cinque elementi, ci sono due vayus, vale a dire prana e apana combinato in esso. Per coloro che camminano senza intoppi e senza il minimo sforzo, il percorso di questi due vayus diventerà il sole e la luna stessi nel cuore, a casa, e vagherà nella casa e tuttavia verrà animato e porterà il loro carnoso tabernacolo. Questi vayus andranno su e giù negli stati più alti e più bassi. Sono della stessa natura durante la veglia, nel sogno e nel sonno senza sogni, e permeano dappertutto. Mi sto spostando nella direzione di questi due vayus e ho reso i nulli tutti i miei vasana nello stato di veglia, illuminato su coloro che sono nello stato di sonno senza sogni. Dividete mille volte un filamento di gambo di loto e troverete i vayus ancora più sottili di questi fili. Quindi, per me, risulta difficile trattare la natura di questi vayus e le loro vibrazioni. Di queste, il prana vibra incessantemente in questo corpo, con un movimento verso l'alto, sia esternamente che internamente, mentre la pana, avendo la stessa tendenza fluttuante, vibra sia esternamente che internamente al corpo, avendo un movimento verso il basso. Sarà utile se il prana espirato nella misura di 16 cifre viene inalato nella stessa misura. Solitamente vengono inalate solo 12 cifre. Coloro che hanno raggiunto questa esperienza, vale a dire l'equiparazione del prana in espirazione ed inalazione, godranno di una beatitudine infinita. Ora, ascoltate le caratteristiche del prana. L'inalazione della lunghezza di 12 cifre del prana che è stato ispirato è chiamato, l'interno, puraka, inalazione. Questo è anche chiamato interno, puraka, quando apanavayu rientra nel corpo dall'esterno senza fatica. Quando apanavayu cessa di manifestarsi e il prana viene assorbito dal cuore, allora il tempo occupato in tale stato è interno kumbha. Gli yogi sono in grado di sperimentarli tutti. Quando il prana nella saka del cuore si manifesta esternamente, all'interno del cuore, in diversi aspetti, senza sofferenza per la mente, allora è chiamato l'esterno, rechaka, espirazione. Quando il prana esterno fluttuante entra nel naso e si ferma lì sulla sua punta, allora è chiamato puraka esterno. Ma quando passa dalla punta del naso scende di 12 cifre, quindi si chiama anche puraka esterno. Quando il prana viene bloccato senza e con apana dentro, allora si chiama kumbhaka esterno. Quando la apanavayu splendente prende all'interno una curva verso l'alto, allora è modellato il rechaka esterno. Tutte queste pratiche portano al moshka, pertanto dovrebbero sempre essere meditate. Coloro che hanno compreso e praticato bene tutti i kumbhaka esterni ed interni e gli altri non rinasceranno mai. Tutti gli otto corsi che ho dato in precedenza sono in grado di creare la moshka, dovrebbero essere praticate entrambe giorno e notte. Coloro che sono connessi a queste pratiche regolarmente e che controllano le loro menti in modo che non si perdano in altre direzioni, con il passare del tempo raggiungeranno il nirvana. Questi praticanti non avranno mai sete per i piaceri materiali, saranno sempre nella loro pratica uniforme, sia camminando che stando in piedi, quando si svegliano, sognano o dormono. Il prana, dopo essere volato fuori, verrà di nuovo assorbito nel cuore essendo tornato indietro di dodici cifre. Allo stesso modo anche apana sarà assorbito dal cuore, essendo uscito dal cuore ed essendo tornato indietro di dodici cifre. Apana, essendo la luna, rinfrescherà tutto il corpo in questo passaggio. Ma il prana, essendo il sole, genererà calore nel sistema e cucinerà o digerirà tutto in esso. Sorgeranno dolori in chi ha raggiunto questo stato supremo dove i kalas, raggi, di apana, la luna, sono inondati dal prana, il sole? La rinascita sorgerà in colui che ha raggiunto quella potente sede dove i kalas del prana, il sole, sono divorati da apana, la luna? Questi bloccheranno immediatamente le sette rinascite di coloro che raggiungono questo stato neutrale dove trovano apanavaio consumata dal prana e viceversa. Io elogio quel cidatma che si trova in quello stato intermedio dove il prana e la pana sono assorbiti l'uno nell'altro. Medito incessantemente su quel cidatma che si trova nella scana, direttamente davanti, alla fine del mio naso, dove prana e apana si estinguono entrambi. È attraverso questo sentiero del controllo del prana che ho raggiunto il tatva supremo e immacolato, privo di dolori. Il controllo del respiro Il primo passo importante è di padroneggiare l'asana della postura o di controllare il corpo. Il prossimo esercizio è il pranayama. Una postura corretta è un requisito indispensabile per il successo nella pratica del pranayama. Una postura semplice e comoda è asana. Questa postura è la migliore, perché continua a essere confortevole anche per un lungo periodo di tempo. Torace, collo e testa devono essere in una linea verticale. Non dovete piegare il corpo in avanti o lateralmente, cioè né a destra né a sinistra. Non dovete sedervi storti. Non dovete permettere al corpo di collassare. Non dovete piegare il corpo in avanti o indietro. Con un esercizio regolare, la padronanza sulla posa verrà da sé. Le persone grasse avranno difficoltà a praticare il padma asana o la posizione del loto. Possono sedersi sul sukha asana, posizione comoda, ossì da asana, posizione perfetta. Non è necessario aspettare di praticare il pranayama solo perché non avete piena padronanza degli asana. Potete affiancare la pratica degli asana alla pratica del pranayama. Con il passare del tempo acquisirete la perfezione in entrambi. Il pranayama può anche essere praticato sedendosi eretti su una sedia. Nel Bhagavad Gita, la canzone immortale di Lord Krishna, troverete una bellissima descrizione della sede e della posa. In un luogo pure segreto, da solo, situato in un posto fisso tutto suo, né troppo alto né troppo basso, con un panno, pelle di antilope nera ed erba accusa uno sopra l'altro, concentrando la mente, con il pensiero e le funzioni dei sensi controllati, fisso sul suo posto, egli dovrebbe praticare lo yoga per la purificazione del sé, tenendo il corpo, testa e collo eretti, saldi, fissando costantemente la punta del naso senza guardare in giro. Capitolo VI, 10, 11 e 12. Pranayama è il controllo del prana e delle forze vitali del corpo. È la regolazione del respiro. Questo è il passo più importante. Lo scopo del pranayama è di controllare il prana. Il pranayama inizia con la regolazione del respiro per avere il controllo sulle correnti vitali o forze vitali interiori. In altre parole, il pranayama è il controllo perfetto delle correnti vitali attraverso il controllo del respiro. Il respiro è la manifestazione esteriore del prana grossolano. Una corretta abitudine respiratoria deve essere stabilita nella pratica regolare del pranayama. Nelle persone ordinari di questo mondo, la respirazione è irregolare. Se si riesce a controllare il prana, è possibile controllare completamente tutte le forze dell'universo, mentali e fisiche. Lo yogi può anche controllare l'onnipresente potere manifestante da cui tutte le energie hanno origine, sia che riguardino il magnetismo, l'elettricità, la gravitazione, la coesione, le correnti nervose, le forze vitali o le vibrazioni del pensiero, e quindi le forze totali dell'universo, fisiche e mentali. Se si riesce a controllare il respiro o il prana, anche la mente è controllata. Colui che ha controllato la sua mente ha anche controllato il suo respiro. Se uno è sospeso, anche l'altro è sospeso. Se la mente e il prana sono entrambi controllati, si ottiene la liberazione dal ciclo delle rinascite e delle morti, e si ottiene l'immortalità. Esiste una connessione intima tra mente, prana e seme. Se si controlla l'energia seminale, si controllano anche la mente e il prana. Colui che ha controllato le sue energie seminali ha controllato anche il suo prana e la sua mente. Colui che pratica il pranayama avrà un buon appetito, allegria, un bell'aspetto, molta forza, coraggio, entusiasmo, un alto livello di salute, vigore e vitalità, e una buona concentrazione della mente. Il pranayama è abbastanza adatto anche agli occidentali. Uno yogi misura la sua durata della vita non dal numero degli anni, ma dal numero dei suoi respiri. Si può accogliere una certa quantità di energia o prana dall'aria atmosferica con ogni respiro. La capacità vitale è mostrata dalla quantità massima di aria che un uomo riesce a inalare dopo la più profonda espirazione possibile. Un uomo effettua 15 respiri in un minuto. Un numero totale di respiri arriva a 21.600 volte al giorno. Varietà di pranayama Il pranayama è considerato lungo o sottile a seconda delle sue tre componenti, l'esterno, l'interno e lo stabile. I processi di mantenimento sono modificati dalle regole dello spazio, tempo e numero. Quando il respiro è espirato è rechaka, il primo tipo di pranayama. Quando il respiro è inspirato è il secondo tipo, chiamato puraka. Quando è sospeso è il terzo tipo, chiamato kumbhaka. Kumbhaka è la ritenzione del respiro. Kumbhaka allunga la vita, aumenta la forza spirituale interiore, il vigore e la vitalità. Se trattenete il respiro per un minuto, questo minuto è aggiunto alla durata della vostra vita. Gli yogi, portando il respiro verso il brahma randra, nella parte superiore della testa, e trattenendolo là, sconfiggono il signore della morte, yama, e sconfiggono la morte. Changdev è vissuto per 1400 anni attraverso la pratica del kumbhaka. Ognuno di questi movimenti nel pranayama, cioè rechaka, puraka e kumbhaka, è regolato da spazio, tempo e numero. Per spazio si intende l'interno o l'esterno del corpo, e la particolare lunghezza e larghezza, e anche quando il prana è trattenuto in una zona particolare del corpo. Durante l'espirazione, la distanza a cui viene espulso il respiro verso l'esterno varia nei diversi individui. La distanza varia anche durante l'inspirazione. La lunghezza del respiro varia in base al pervasivo tatva. La lunghezza del respiro è rispettivamente di 12, 16, 4, 8, 0 dita a seconda dei tatva. Privi, apas, tejas, vayu o akasa. Terra, acqua, fuoco, aria o etere. Questo è di nuovo esterno durante l'espirazione e interno durante l'inspirazione. Il tempo è la durata del tempo di ognuno di questi, che è generalmente contato da matra, che corrisponde a un secondo. Matra significa una misura. Per tempo si intende anche quanto a lungo il prana dovrebbe rimanere in un particolare centro o parte. Il numero si riferisce al numero di volte che il pranayama viene eseguito. Lo studente di yoga dovrebbe lentamente portare il numero di pranayama a 80 in una seduta. Dovrebbe eseguire quattro volte al mattino, al pomeriggio, alla sera e a mezzanotte, o alle 9 del mattino. E dovrebbe completare in tutto 320 pranayama. L'effetto o il frutto del pranayama è ugdata, o risveglio del kundalini dormiente. L'obiettivo principale del pranayama è di unire il prana con la pana e portare lentamente il pranayama unito verso la testa. Kundalini è la fonte di tutti i poteri occulti. Il pranayama è lungo o corto a seconda del periodo di tempo per cui è praticato. Proprio come l'acqua, che gettata su una padella calda si avvizzisce mentre si prosciuga, anche l'aria, muovendosi dentro e fuori, cessa la sua azione a causa di un forte sforzo di restrizione, kumbhaka, e rimane all'interno. Vachaspati descrive Misurato da 36 matra è il primo tentativo, udgata, che è lieve. Due volte questo è il secondo, che è medio. Tre volte questo è il terzo, che è l'intenso. Questo è il pranayama misurato dai numeri. Tre tipi di pranayama. Ci sono tre tipi di pranayama, cioè adama, madyama e uttama, inferiore, medio e superiore. Il pranayama adama è formato da 12 matra, madyama è formato da 24 matra e uttama occupa un tempo di 32 matra. Questo è per il puraka. Il rapporto tra puraka, kumbhaka e rechaka è 1, 4, 2. Puraka è l'inalazione, kumbhaka è la ritenzione, rechaka è l'espirazione. Se inalate per un periodo di 12 matra, dovete eseguire kumbhaka per un periodo di 48 matra. Quindi il tempo per rechaka sarà di 24 matra. Questo è per il pranayama adama. La stessa regola si applica alle altre due varietà. Primo, praticate per un mese il pranayama adama. Poi praticate madyama per tre mesi. Poi passate alla varietà uttama. Salutate il vostro guru Esri Ganesha appena vi sedete nell'asana. Il momento per la Biasa è al mattino presto alle 4, alle 10, al pomeriggio alle 16 e alla sera alle 22 o a mezzanotte. Mentre avanzate nella pratica, dovrete eseguire 320 pranayama ogni giorno. Il pranayama sagarba è il pranayama che viene eseguito con il giapa mentale di qualsiasi mantra, gaiatri o om. È 100 volte più potente del pranayama agarba, che è semplice ed è eseguito senza alcun giapa. Il pranayama siddi dipende dall'intensità dell'impegno del praticante. Uno studente appassionato ed entusiasta con parama, utzaha, sahasa e dirata, zelo, allegria e tenacia, può influenzare siddi, perfezione, entro sei mesi. Mentre un praticante spensierato con tandri e alasia, apatia e pigrizia, non avrà alcun miglioramento anche dopo 8 o 10 anni. Perseverate. Insistete con pazienza, fede, confidenza, aspettativa, interesse e attenzione. Siete destinati ad avere successo. Nel desperando, non disperate mai. Il Vedantic Kumbhaka. Il pranayama si dovrebbe praticare senza distrazioni e con una mente calma. Sia l'ispirazione che l'inspirazione dovrebbero essere bloccate. Il praticante dovrebbe dipendere solo da Brahman. Questo è il più alto obiettivo della vita. Cedere tutti gli oggetti esterni è detto Rechaka. Capire a fondo la sapienza spirituale di Sastras è detto Puraka e tenere per sé tali conoscenze è detto Kumbhaka. Egli è quindi una persona emancipata che pratica il suo citta. Non ci sono dubbi a riguardo. Attraverso il Kumbhaka la mente dovrebbe sempre essere acquietata. E attraverso il Kumbhaka solamente dovrebbe essere riempita dall'interno. È solo attraverso il Kumbhaka che il Kumbhaka dovrebbe essere fermamente padroneggiato. All'interno di esso c'è Parama Siva. Dapprima, nel suo Bramagranti, presto si produce un buco o un passaggio. Poi avendo bucato il Bramagranti, esso bucavisnugranti. Poi bucarudagranti. Poi lo yoghi ottiene la sua liberazione attraverso le cerimonie religiose, eseguite in varie nascite, attraverso la grazia dei guru e dei devata e attraverso la pratica dello yoga. Il pranayama per nadi suddi. Il vaio non può entrare nelle nadi se queste sono piene di impurità. Pertanto, per prima cosa, esse devono essere purificate. E poi il pranayama può essere praticato. Le nadi sono purificate attraverso due processi, cioè samanu e nirmanu. Il samanu è eseguito da un processo mentale con i bija mantra. Il nirmanu è eseguito con la purificazione fisica o gli shatkarma. Sedetevi in Padmasana. Meditate sul bijascara di Vayu, Yam, che è del colore del fumo. Inalate attraverso la narice destra. Ripetete il bijascara 16 volte. Questo è puraka. Trattenete il respiro fino a quando ripetete le bija 64 volte. Questo è kumbhaka. Poi espirate attraverso la narice destra molto, molto lentamente, fino a quando ripetete il bijascara 32 volte. 2. L'ombelico è la sede dell'Agnitatva. Meditate su questo Agnitatva. Poi, inspirate attraverso la narice destra, ripetendo 16 volte l'Agni bija Ram. Trattenete il respiro fino a quando contate il bija 64 volte. Poi, espirate lentamente attraverso la narice sinistra, fino a quando ripetete mentalmente il bija 32 volte. 3. Fissate lo sguardo sulla punta del naso. Inspirate attraverso la narice sinistra, ripetendo il bija Tam 16 volte. Trattenete il respiro fino a quando ripetete il bija Tam 64 volte. Ora immaginate che il nettare che scorre dalla luna attraversi tutti i vasi sanguigni del corpo, purificandoli. Poi, espirate lentamente attraverso la narice destra, fino a quando ripetete il privi bija Lam 32 volte. Le nadis sono ben purificate dalla pratica dei suddetti tre tipi di pranayama, sedendovi fermamente nella vostra postura usuale. Il mantra durante il pranayama. Il mantra per la ripetizione durante la pratica del pranayama si trova nell'isvaraghita. Quando l'aspirante, trattenendo il suo respiro, ripete il gaiatri tre volte, anche insieme a via Ritis all'inizio, i sira alla fine e il pranva, uno su entrambi i lati di esso, questo è ciò che viene chiamato la regolazione del respiro. Lo yogi Yajnavalkya, d'altro canto, dichiara, il respiro verso l'alto e il respiro verso il basso, essendo stati trattenuti, la regolazione del respiro deve essere praticata tramite il pranava, tenendo debitamente conto dell'unità di misura del mantra. Questa ripetizione del pranva da solo è necessaria al Paramahamsa Sannyasins. È stato dichiarato nel Smitris che la contemplazione ordinaria deve essere praticata attraverso l'inalazione e altri stadi della regolazione del respiro nell'ombelico, nel cuore e sulla fronte, con riferimento alle forme di Brahma, Vishnu e Shiva rispettivamente. Tuttavia, per il Paramahamsa è stato dichiarato che l'unico oggetto di contemplazione è Brahman. L'ascetico autocontrollato è contemplare il supremo Brahma tramite il pranva, dichiara il Sruti. Esercizio numero 1. Sedetevi in Padmasana. Chiudete gli occhi. Concentratevi su Trikuti, lo spazio tra le due sopracciglia. Chiudete la narice destra con il pollice destro. Inalate lentamente attraverso la narice sinistra, fino a quando vi sentite a vostro agio. Poi, espirate molto molto lentamente attraverso la stessa narice. Eseguitelo 12 volte. Questo è una fase. Poi, inalate attraverso la narice destra, chiudendo la narice sinistra con l'anulare e il mignolo destro, ed espirate molto lentamente attraverso la stessa narice. Eseguirlo 12 volte. Questa è una fase. Non emanate alcun suono durante l'inspirazione e l'espirazione. Ripetete il vostro ishta mantra durante la pratica. Nella seconda settimana di pratica, eseguite due fasi. Nella terza settimana, tre fasi. Riposate per due minuti quando una fase è terminata. Se fate qualche respiro normale quando una fase è terminata, vi sentirete sufficientemente riposati e sarete pronti per la fase successiva. Non c'è kumbhaka in questo esercizio. Potete aumentare il numero di fasi a seconda della vostra forza e capacità. Esercizio numero 2. Inalate attraverso entrambe le narici lentamente e gentilmente. Non trattenete il respiro. Poi, espirate lentamente. Eseguitelo 12 volte. Questo formerà una fase. Potete eseguire due o tre fasi a seconda della vostra capacità, forza e tempo a vostra disposizione. Esercizio numero 3. Sedetevi nel vostro asana. Chiudete la narice destra con il pollice destro. Poi, inalate lentamente attraverso la narice sinistra. Chiudete la narice sinistra con l'anulare e il mignolo destro e aprite la narice destra rimuovendo il pollice destro. Espirate molto lentamente attraverso la narice destra. Poi, fate passare l'aria attraverso la narice destra fino a quando vi sentirete a vostro agio ed espirate attraverso la narice sinistra rimuovendo l'anulare e il mignolo. Non c'è kumbhaka in questo pranayama. Ripetere il processo 12 volte. Questo formerà una fase. Esercizio numero 4. Meditate che la singola lettera, la luce suprema, pranva o om, sia l'origine o la fonte delle tre lettere A, U e M. Inspirate l'aria attraverso ida o narice sinistra per uno spazio di 16 matra, secondi. Meditate sulla lettera A durante questo periodo. Trattenete l'aria per lo spazio di 64 matra. Meditate sulla lettera U durante questo periodo. Espirate attraverso la narice destra per lo spazio di 32 matra e meditate sulla lettera M durante questo periodo. Praticate questo ripetutamente nel seguente ordine. Iniziate con due o tre volte e aumentate gradualmente il numero fino a 20 o 30 volte a seconda della vostra capacità e forza. Per iniziare, mantenete il rapporto a 1-4-2. Aumentate gradualmente il rapporto a 16-64-32. Esercizio di respirazione profonda. Ogni respiro profondo consiste in un'ispirazione molto completa attraverso il naso e anche in un'espirazione profonda e costante attraverso il naso. Inspirate lentamente il più possibile. Espirate lentamente il più possibile. Durante l'ispirazione osservate le seguenti regole. 1. State in piedi. Mettete le mani sui fianchi. I gomiti saranno rivolti verso l'esterno e non forzati all'indietro. Sentitevi a vostro agio. 2. Allungate e raddrizzate il torace. Premete verso il basso le ossa del bacino con le mani. Da questo atto si formerà un vuoto dove l'aria si precipiterà di sua spontanea volontà. 3. Tenete le narici ben aperte. Non usate il naso come una pompa di aspirazione. Dovrebbe fungere da passaggio passivo, sia per l'aria inalata che espirata. Non emettete alcun suono quando ispirate ed espirate. Ricordatevi che una respirazione corretta è silenziosa. 4. Allungate tutta la parte superiore del tronco. 5. Non inarcate la parte superiore del torace in modo angusto. Tenete gli addominali naturalmente rilassati. 6. Non piegate la testa all'indietro. Non curvate l'addome verso l'interno. Non forzate le spalle all'indietro. Sollevate le spalle. Durante l'espirazione, osservate attentamente le seguenti regole. 1. Lasciate affondare gradualmente le costole e l'intera parte superiore del tronco. 2. Portate le costole inferiori e l'addome verso l'alto lentamente. 3. Non piegate troppo in avanti il corpo. Dovete evitare di curvare il torace. Mantenete la testa, il collo e il tronco in una linea retta. Contraete il torace. Non respirate l'aria attraverso la bocca. Espirate molto, molto lentamente senza produrre rumori. 4. L'espirazione avviene semplicemente rilassando i muscoli ispiratori. Il torace cade giù da sé, per il proprio peso, ed espelle l'aria attraverso il naso. 5. All'inizio, non trattenete il respiro dopo l'inalazione. Quando il processo di inalazione è terminato, iniziate subito l'espirazione. Quando avrete progredito sufficientemente nella vostra pratica, potete lentamente trattenere il respiro da 5 secondi a un minuto, a seconda della vostra capacità. 6. Quando una fase di tre respirazioni profonde sarà terminata, potete riposarvi un po'. Pausa respiratoria, facendo alcuni respiri normali. Poi iniziate la seconda fase. Durante la pausa, state fermi in una posizione comoda con le mani sui fianchi. Il numero di fasi può essere gestito a seconda delle capacità del praticante. Eseguite due o tre fasi e aumentate una fase ogni settimana. La respirazione profonda è solo una varietà del pranayama. Kapalabhati. Kapala è una parola in lingua sanscrita, significa cranio. Bati significa risplendere. Il termine kapalabhati significa un esercizio che fa risplendere il cranio. Questo kriya pulisce il cranio. Quindi questo è considerato come uno degli shatkarmas, sei processi di pulizia nell'ata yoga. Sedetevi in padmasana. Tenete le mani sulle ginocchia. Chiudete gli occhi. Eseguite puraka e rechaka rapidamente. Questo dovrebbe essere praticato vigorosamente. Si avrà un'abbondante sudorazione. Questa è una buona forma di esercizio. Coloro che sono esperti in kapalabhati possono eseguire bastrica molto facilmente. Non c'è kumbhaka in questo pranayama. Rechaka gioca un ruolo importante. Puraka è dolce, lento e lungo. Dirga. Ma il rechaka dovrebbe essere eseguito velocemente ed energicamente, contraendo i muscoli addominali con una spinta all'indietro. Quando eseguite il puraka, rilasciate i muscoli addominali. Alcune persone incurvano naturalmente la colonna vertebrale e piegano anche la testa. Questo non è consigliabile. La testa e il tronco devono rimanere eretti. Espulsioni improvvise di respiro si susseguono come in bastrica. Per iniziare potete eseguire un'espulsione al secondo. Gradualmente potete eseguire due espulsioni al secondo. All'inizio eseguite una fase al mattino con solo dieci espulsioni. Nella seconda settimana eseguite una fase alla sera. Nella terza settimana eseguite due fasi al mattino e due fasi alla sera. Quindi ogni settimana, gradualmente e con cautela, aumentate dieci espulsioni per ogni fase, fino a raggiungere 120 espulsioni per ogni fase. Questo pulisce il sistema respiratorio e i passaggi nasali, rimuove gli spasmi nei bronchi. Di conseguenza l'asma si attenuerà e con il passare del tempo si potrà anche guarire. Gli apici dei polmoni riceveranno un'ossigenazione appropriata. Pertanto non diventeranno un nido favorevole, terreno di riproduzione, per i bacilli tubercolari. La consunzione guarisce con questa pratica. I polmoni si svilupperanno in modo considerevole. L'anidride carbonica viene eliminata su larga scala. Le impurità del sangue verranno eliminate. I tessuti e le cellule assorbiranno una grande quantità di ossigeno. Il praticante manterrà una buona salute. Il cuore funzionerà in modo appropriato. Il sistema circolatorio e respiratorio saranno tonificati in misura considerevole. Il kumbhaka esterno, baia. Inspirate l'aria attraverso la narice sinistra e contate 3 ohm. Mandate fuori l'aria dalla narice destra immediatamente senza trattenere il respiro e contate 6 ohm. Bloccate l'aria all'esterno e contate fino a 12 ohm. Poi, inspirate attraverso la narice destra. Ispirate attraverso la narice sinistra e bloccate l'aria all'esterno come prima, usando le stesse unità di ohm per l'inspirazione, l'espirazione e il trattenimento. Da eseguire 6 volte al mattino e 6 volte alla sera. Aumentate gradualmente il numero di fasi e il tempo di kumbhaka. Non sforzatevi o affaticatevi. La respirazione è facile e confortevole. Sukha purvaka. Sedetevi in padmasana o siddhasana, nella vostra stanza delle meditazioni, davanti alle immagini del vostro ishtadevata, divinità guida. Chiudete la narice destra con il pollice destro. Ispirate l'aria molto, molto lentamente attraverso la narice sinistra. Poi, chiudete anche la narice sinistra con il mignolo e l'anulare della mano destra. Trattenete l'aria il più possibile finché vi sentite a vostro agio. Poi, espirate molto, molto lentamente attraverso la narice, dopo aver rimosso il pollice. Ora, metà del processo è completato. Poi, inspirate l'aria attraverso la narice destra. Trattenete l'aria come prima e poi espirate molto, molto lentamente attraverso la narice sinistra. Tutti questi sei processi formano un pranayama. Eseguiteli 20 volte al mattino e 20 volte alla sera. Aumentate gradualmente il numero. Il vostro bava, attitudine mentale, dovrà essere che tutte le daivi sampat, qualità divine, cioè pietà, amore, perdono, santi, gioia, eccetera, stanno entrando nel vostro sistema insieme all'aria ispirata. E tutte le asuri sampat, qualità diaboliche, come la lussuria, la rabbia, l'avidità, eccetera, vengono espulse insieme all'aria ispirata. Ripetete om o gaiatri mentalmente durante il puraka, kumbaka e rechaka. I sadaka più diligenti possono eseguire 320 kumbakas quotidianamente in quattro sedute ad un ritmo di 80 in ogni seduta. Questo pranayama rimuove tutte le malattie, purifica le nadi, stabilizza la mente donando una migliore concentrazione, migliora la digestione, aumenta il fuoco digestivo e l'appetito, aiuta a mantenere bramacharya e risveglia il kundalini dormiente nel chakra muladhara. La purificazione delle nadi si insedierà rapidamente, riuscirete anche a levitare, sollevarsi da terra. Il pranayama per il risveglio di kundalini. Quando praticate il seguente esercizio, concentratevi sul chakra muladhara alla base della colonna vertebrale, che ha una forma triangolare ed è la sede del kundalini sakti. Chiudete la narice destra con il pollice destro. Inspirate attraverso la narice sinistra e contate tre om lentamente. Immaginate di inspirare il prana con l'aria atmosferica. Poi chiudete la narice sinistra con il mignolo e l'anulare della mano destra. Trattenete il respiro per dodici om. Mandate la corrente giù lungo la colonna vertebrale nel loto triangolare, il chakra muladhara. Immaginate che la corrente nervosa colpisca il loto e risvegli il kundalini. Poi espirate lentamente attraverso la narice destra contando sei om. Ripetere il processo con la narice destra come già indicato sopra, usando le stesse unità ed avendo la stessa sensazione e immaginazione. Questo pranayama risveglierà il kundalini velocemente. Eseguitelo tre volte al mattino è tre volte alla sera. Aumentate il numero e il tempo gradualmente e con cautela, a seconda della vostra forza e capacità. In questo pranayama concentrarsi sul chakra muladhara è la cosa più importante. Il kundalini si risveglierà velocemente se il grado di concentrazione è intenso e se il pranayama è praticato regolarmente. Il pranayama durante la meditazione Se meditate e vi concentrate, il pranayama viene da sé. Il respiro diventa sempre più lento. Praticheremo questo pranayama quotidianamente in modo inconscio. Quando leggete un libro sensazionale o quando risolvete un problema di matematica, la vostra mente è completamente immersa nell'argomento. Se osservate attentamente il vostro respiro in queste occasioni, scoprirete che il respiro è diventato molto molto lento. Quando vedete una storia tragica recitata a teatro o in un film, quando sentite una notizia molto triste o qualche lita novella, quando versate lacrime di gioia o di dolore, o scoppiate a ridere, il respiro rallenta. Il pranayama verrà da sé. Per gli studenti di yoga che praticano il sheshasana, il pranayama viene da sé. È ovvio da questi esempi che quando la mente è profondamente concentrata su un argomento qualsiasi, la respirazione rallenta o si ferma. Il pranayama viene eseguito in modo automatico. La mente e il prana sono intimamente connessi. Se in queste occasioni volgete la vostra attenzione verso il respiro, riprenderà il suo stato normale. Il pranayama viene da sé a coloro che sono profondamente assorti ad eseguire japa, dhyana o brahmavichara. Richiesta di Atman. Il prana, la mente e il virya, energia seminale, sono sotto un sambanda, connessione. Se riuscite a controllare la mente, il prana e il virya si controllano da sé. Se riuscite a controllare il prana, la mente e il virya si controllano da sé. Se riuscite a controllare il virya rimanendo come una kanda brahmachari senza emissione di nemmeno una singola goccia di seme per 12 anni, la mente e il pranayama si controllano da sé. Proprio come c'è connessione tra vento e fuoco, luce, c'è anche una connessione tra prana e mente. Il vento soffia sul fuoco, il prana soffia sulla mente. Se non c'è vento, il fuoco o la luce si interrompono. Gli yogi Atta si avvicinano al brahman controllando il prana. Gli yogi Raja si avvicinano al brahman controllando la mente. In questo pranayama non serve chiudere le narici, dovete semplicemente chiudere gli occhi se lo praticate in una posizione da seduti. Dimenticatevi del corpo e concentratevi. Se lo praticate mentre camminate, dovete solo sentire minuziosamente il movimento dell'aria inalata ed espirata. Il pranayama mentre si cammina. Camminate a testa alta, le spalle all'indietro e con il torace esteso. Inalate lentamente attraverso entrambe le narici contando mentalmente tre volte OM, un numero per ogni passo. Poi trattenete il respiro e contate fino a 12 OM. Quindi espirate lentamente attraverso entrambe le narici e contate 6 OM. Prendete una pausa respiratoria o riposatevi dopo un pranayama contando 12 OM. Se trovate difficoltà nel contare gli OM ad ogni passo, contate gli OM senza preoccuparvi dei passi. Anche il kapalabati può essere fatto mentre si cammina. Coloro che sono molto occupati possono praticare il pranayama qui sopra durante le passeggiate del mattino e della sera. È come prendere due piccioni con una fava. Troverete molto piacevole praticare il pranayama mentre camminate all'aperto, quando soffia una piacevole brezza leggera. Vi sentirete presto rinvigoriti e stimolati in misura considerevole. Esercitatevi, sentite e rendetevi conto dell'influenza marcata e benefica di questo tipo di pranayama. Coloro che camminano velocemente e ripetono mentalmente o con la voce OM praticheranno il pranayama in modo naturale e senza fatica. Il pranayama nel shavasana. Sdraiatevi sulla schiena, mettetevi a vostro agio, sopra una coperta. Tenete le mani sul pavimento lungo i fianchi e tenete le gambe dritte. I talloni devono essere uniti, ma le dita dei piedi possono rimanere leggermente distaccate. Rilassate tutti i muscoli e i nervi. Coloro che sono molto deboli possono praticare il pranayama in questa posizione sia sul pavimento sia su un letto. Inspirate lentamente senza fare alcun rumore attraverso entrambe le narici. Trattenete il respiro il più possibile finché vi sentite a vostro agio. Poi espirate lentamente attraverso entrambe le narici. Ripetete il processo 12 volte al mattino e 12 volte alla sera. Cantate mentalmente OM durante la pratica. Se lo desiderate, potete praticare anche la postura facile e confortevole. Questo è un esercizio che comprende asana, pranayama, meditazione e riposo. Non dona riposo solo al corpo, ma anche alla mente. Dona sollievo, comfort e pace interiore. Questo è molto adatto per persone anziane. La respirazione ritmica La respirazione negli uomini e nelle donne è molto irregolare. Nell'espirazione il prana esce di 16 cifre e nell'ispirazione solo di 12 cifre, perdendo quindi 4 cifre. Ma se inalate per 16 cifre come nell'espirazione, allora si avrà una respirazione ritmica. Così il potere del Kundalini sarà risvegliato. Con la pratica della respirazione ritmica godrete di un vero e buon riposo. Potrete controllare il centro respiratorio che è situato nel bulbo dell'encefalo e anche altri nervi, perché il centro della respirazione ha una sorta di controllo sugli altri nervi. Colui che ha i nervi calmi ha anche una mente calma. Se le unità dell'espirazione e dell'ispirazione sono uguali, avrete una respirazione ritmica. Se inalate fino a quando contate 6 ohm, esalate anche fino a quando contate 6 ohm. Questo è respirare dentro e fuori in maniera misurata. Questo armonizzerà l'intero sistema. Questo armonizzerà il corpo fisico, la mente, in dirias, e darà sollievo ai nervi stanchi. Proverete una sensazione di riposo e calma completi. Tutte le emozioni burrascose si placheranno e gli impulsi impetuosi si calmeranno. C'è un'altra varietà di modificazione del ritmo respiratorio. Inalate lentamente, attraverso entrambe le narici, per 4 ohm. Trattenete il respiro per 8 ohm, con bacca interno. Espirate lentamente attraverso entrambe le narici, per 4 ohm, e trattenete il respiro all'esterno, con bacca esterno, per 8 ohm. Ripetete questo processo un certo numero di volte, a seconda della vostra forza e capacità. Potete gradualmente aumentare la durata dell'inspirazione e dell'espirazione dopo una pratica di 8 ohm, e il periodo tra un respiro e l'altro di 16 ohm. Ma non provate mai ad aumentare la durata fino a quando non siete sicuri che avete la potenza e la forza di farlo. Dovete provare gioia e piacere. Non dovete provare alcuna tensione eccessiva. Prestare molta attenzione al mantenimento del ritmo. Ricordatevi che il ritmo è più importante della durata del respiro. Pazienza e perseveranza sono necessari. Surya Beda. Sedetevi in Padmasana o Siddhasana. Chiudete gli occhi. Tenete la narice sinistra chiusa con l'anulare e il mignolo destro. Inspirate lentamente attraverso la narice destra senza emettere alcun suono finché vi sentite a vostro agio. Poi chiudete la narice destra con il pollice destro e trattenete il respiro premendo con forza il mento contro il petto. Già l'andara banda. Trattenete il respiro fino a quando il sudore trassuda dalla punta delle unghie e dalle radici dei capelli, follicoli piliferi. Questo punto non può essere raggiunto immediatamente. Dovete aumentare il periodo di Kumbhaka gradualmente. Questo è il limite dell'ambito della pratica del Surya Beda Kumbhaka. Poi espirate molto lentamente senza emettere alcun suono attraverso la narice sinistra chiudendo la narice destra con il pollice. Ripetere mentalmente OM, Kumbhava e intento durante l'inspirazione, il trattenimento e l'espirazione. Espirate dopo aver purificato il cranio forzando il respiro verso l'alto. Questo pranayama dovrebbe essere eseguito ripetutamente perché purifica il cervello e distrugge i vermi intestinali e le malattie causate da un eccesso di gas intestinali, vaio. Questo rimuove i quattro tipi di mali causati da vaio, equata vata o i reumatismi. Cura la rinite, le cefalee e vari tipi di nevralgie. I vermi che si trovano nei seni frontali saranno rimossi. Distrugge il decadimento e la morte. Risveglia il Kundalini Sakti e aumenta il fuoco corporeo. Ujjayi. Sedetevi in Padmasana o Siddhasana. Chiudete la bocca. Inspirate lentamente attraverso entrambe le narici, in modo omogeneo e uniforme, fino a quando il respiro riempie lo spazio compreso tra la gola e il cuore. Trattenete il respiro il più a lungo possibile fino a quando vi sentite a vostro agio e poi espirate lentamente attraverso la narice sinistra, chiudendo la narice destra con il pollice destro. Espandete il torace quando inspirate. Durante l'inspirazione si produce un suono particolare dovuto alla parziale chiusura della glottide. Il suono prodotto durante l'inspirazione dovrebbe avere un tono leggero e uniforme. Dovrebbe anche essere continuo. Questo kumbhaka può essere praticato anche quando si cammina o si sta in piedi. Invece di espirare attraverso la narice sinistra, potete espirare lentamente attraverso entrambe le narici. Questo rimuove il calore nella testa. Il praticante diventa molto bello. Il fuoco gastrico aumenta. Rimuove tutti i mali che sorgono nel corpo e il datus e cura già l'odara, idropisia della pancia o ascite. Rimuove il catarro in gola, l'asma, la consunzione e vengono curati tutti i tipi di malattie polmonari. Tutte le malattie che sorgono a causa di una scarsa ispirazione di ossigeno e le malattie del cuore vengono curate. Tutte le opere sono realizzate da Ujjayi Pranayama. Il praticante non è mai attaccato da malattie come il catarro, nervi, dispepsia, dissenteria, ingrossamento della milsa, consunzione, tosse o febbre. Eseguite Ujjayi per distruggere il decadimento e la morte. Sitkari Piegate la lingua in modo che la punta possa toccare la parte superiore del palato ed inspirate l'aria attraverso la bocca emettendo un suono sibilante. O sì, 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 sì. Poi trattenete il fiato il più a lungo possibile senza sentire la sensazione di soffocamento e infine espirate lentamente. Potete tenere le due arcate dentarie in contatto e poi inalate l'aria attraverso la bocca come prima. Questa pratica migliora la bellezza del praticante e il vigore del suo corpo. Rimuove la fame, la sete, l'indolenza e il sonno. La sua forza sarà proprio come quella di un'indra. Egli diventa il signore degli yogi, in grado di fare e disfare le cose. Diventa un monarca indipendente. Diventa invincibile. Nessun infortunio lo influenzerà. Quando avete sete, praticate questo. La sete si attenuerà immediatamente. Sitali Sporgete la lingua leggermente fuori dalle labbra. Piegate la lingua come un tubo. Inspirate l'aria attraverso la bocca con un suono sibilante, sì. Trattenete il respiro il più a lungo possibile con comfort. Poi, espirate lentamente attraverso le narici. Praticate questo quotidianamente e ripetutamente al mattino, dalle 15 alle 30 volte. Potete eseguirlo sia su Padmasana, Siddhasana, Varjasana o anche quando siete in piedi o camminate. Questo pranayama purifica il sangue. Spegne la sete e riduce il senso di fame. Rinfresca il sistema. Distrugge gulma, dispepsia cronica. Plia, l'infiammazione causata da varie malattie croniche, febbre, consunzione, indigestione, disturbi biliari, muco, gli effetti nocivi del veleno, morsi di serpente, eccetera. Quando vi trovate in una giungla o in qualsiasi altro posto dove non c'è acqua, se avete sete, praticate questo pranayama. Proverete subito sollievo dalla sete. Colui che pratica questo pranayama regolarmente non subirà nessuna conseguenza dovuta a morsi di serpente o scorpione. Sitalikumbhaka è l'imitazione della respirazione di un serpente. Il praticante ottiene il potere di gettare la sua pelle e di resistere alla privazione di aria, acqua e cibo. Diventa resistente contro ogni sorta di infiammazione e febbre. Bastrika In sanscrito, bastrika significa soffietto. Una rapida successione di espulsioni forzate è una caratteristica del bastrika. Proprio come un fabbro soffia rapidamente nel suo soffietto, anche voi dovreste muovere il vostro respiro rapidamente. Sedetevi in padmasana. Tenete il corpo, il collo e la testa eretti. Chiudete la bocca. Poi, inspirate e espirate velocemente dieci volte, come i soffietti di un fabbro. Dilatate e contraete costantemente. Quando praticate questo pranayama, si produce un suono sibilante. Il praticante dovrebbe iniziare con rapide espulsioni del respiro che si susseguono in rapida successione. Quando il numero di espulsioni richiesto, diciamo circa dieci per un turno, è finito, l'espulsione finale è seguita da un' ispirazione molto profonda. Il respiro viene trattenuto finché ci si sente a proprio agio. Quindi, l'espirazione molto profonda viene eseguita molto lentamente. La fine di questa profonda ispirazione completa un turno di bastrika. Riposatevi un po' quando un turno è terminato, facendo alcuni respiri normali. Questo vi darà sollievo e vi renderà pronti per iniziare il secondo turno. Eseguite tre turni quotidianamente al mattino. Potete anche fare altri tre turni alla sera. Le persone molto occupate che hanno difficoltà a eseguire tre turni di bastrika possono fare almeno un turno. Anche questo li manterrà abbastanza in forma. Bastrika è un esercizio potente. Una combinazione di kapalabati e ujjayi forma il bastrika. Per iniziare, praticate kapalabati e ujjayi. In questo modo risulterà molto facile praticare bastrika. Alcuni prolungano la pratica fino a quando non si stancano. Avrete una sudorazione abbondante. Se avete delle vertigini, smettete subito la pratica e fate alcuni respiri normali. Continuate la pratica dopo che le vertigini sono sparite. Bastrika può essere eseguito sia al mattino sia alla sera in inverno. In estate fatelo solo al mattino durante le ore più fresche. Bastrika lieva l'infiammazione alla gola, aumenta il fuoco gastrico, distrugge il catarro, rimuove le malattie del naso e del torace, esradica l'asma, la consunzione, eccetera. Dona un buon appetito. Rompe i tre grantis, o nodi, cioè Brahma granti, Vishnu granti e Rudra granti. Distrugge il catarro, che è il catenaccio o l'ostacolo alla porta della bocca di Brahmanadi, su Shumna. Consenti di conoscere il Kundalini. Rimuove tutte le malattie che sorgono da un eccesso di gas intestinali, dalla rabbia e dal catarro. Dona calore al corpo. Se vi trovate in una regione fredda e non avete indumenti caldi a sufficienza per proteggervi dal freddo, praticate questo pranayama e il vostro corpo si riscalderà velocemente. Purifica le nadi in modo considerevole. È il più benefico tra tutti i kumbhaka. Bastrika kumbhaka dovrebbe essere praticato in modo particolare, perché consente al prana di demolire i tre granti e sonodi che sono fermamente situati nel Shumna. Risveglia velocemente il Kundalini. Il praticante non soffrirà mai di alcuna malattia. Sarà sempre sano. Il numero di ispirazioni o turni è determinato dalla forza e dalla capacità del praticante. Non bisogna superare i propri limiti. Alcuni studenti eseguono sei turni. Alcuni arrivano a otto turni. Potete praticare il Bastrika nella seguente maniera. C'è una piccola variazione alla fine. Dopo aver inspirato ed espirato velocemente per 20 volte, inspirate attraverso la narice destra. Trattenete il respiro fino a quando vi sentite a vostro agio e poi espirate attraverso la narice sinistra. Poi inspirate attraverso la narice sinistra. Trattenete il respiro come prima e poi espirate attraverso la narice destra. Ripetete mentalmente OM con BHAVA e intento durante la pratica. Ci sono alcune varietà di Bastrika in cui solo una narice è utilizzata per scopi respiratori e in un'altra varietà le narici alternate sono usate per l'inspirazione e l'espirazione. Coloro che desiderano eseguire il Bastrika per un lungo periodo in maniera intensa dovrebbero vivere il Kichdi e fare un clistere o eseguire il Bastia al mattino prima di iniziare la pratica. Bramari. Sedetevi in Padmasana o Siddhasana. Inspirate rapidamente attraverso entrambe le narici emettendo il suono di Bramara, l'ape, ed espirate rapidamente attraverso entrambe le narici emettendo un ronzio. Potete continuare il processo fino a quando il corpo è immerso nel sudore. Alla fine inalate attraverso entrambe le narici, trattenete il respiro fino a quando vi sentite a vostro agio e poi espirate lentamente attraverso entrambe le narici. La gioia che il praticante sente nell'eseguire il Kumbhaka è illimitata e indescrivibile. All'inizio il calore del corpo aumenta mentre la circolazione del sangue si velocizza. Alla fine il calore del corpo diminuisce con la sudorazione. Ottenendo grandi risultati con questo Bramari Kumbhaka, lo yogi avrà successo anche nel Samadhi. Murcha. Sedetevi nel vostro asana e inspirate. Trattenete il respiro. Fate già l'andara banda premendo il mento contro il torace. Trattenete il respiro fino a quando vi sentite svenire e poi espirate lentamente. Questo è Murcha Kumbhaka, perché rende la mente incosciente e dona felicità. Ma questo non è adatto a tutti. Plavini. La pratica di questo Pranayama richiede abilità da parte dello studente. Colui che pratica questo Plavini può fare già la stamba, solidificazione dell'acqua, e galleggiare sull'acqua per tutto il tempo che vuole. Il signor S, uno studente di yoga, è in grado di galleggiare sull'acqua per 12 ore di seguito. Colui che pratica questo Plavini Kumbhaka può vivere in aria rinunciando al cibo per alcuni giorni. Lo studente beve lentamente aria come se fosse acqua e la manda nello stomaco. Lo stomaco si gonfia un po'. Se si picchietta lo stomaco quando è pieno di aria, si sente un peculiare suono timpanico, aria. Una pratica graduale è necessaria. È anche necessario l'aiuto di una persona esperta in questo Pranayama. Lo studente può espellere l'aria dallo stomaco con una graduale eruttazione. Kevala Kumbhaka. Ci sono due tipi di Kumbhaka, cioè Saita e Kevala. Ciò che è accoppiato con l'ispirazione e l'espirazione è chiamato Saita. Ciò che è privo di questi è chiamato Kevala, solo. Quando si acquisisce padronanza nel Saita, si può tentare questo Kevala. Quando nelle corse della pratica il Kumbhaka sussiste in molti posti, senza espirazione e inspirazione, ed è incondizionato dal luogo, tempo e numero, allora il Kumbhaka è chiamato assoluto e puro. Kevala Kumbhaka. La quarta forma della regolazione del respiro. Poteri come quello di vagare nello spazio senza essere visti, seguono questa ultima forma di Pranayama. Nel Vasishtha Samhita si dice, quando dopo aver rinunciato all'ispirazione e all'espirazione si trattiene il respiro con facilità, è Kumbhaka assoluto, Kevala. In questo Pranayama il respiro si interrompe improvvisamente senza Puraka e Rechaka. Lo studente può trattenere il respiro quanto desidera attraverso questo Kumbhaka. Egli raggiunge lo stato di Raja Yoga. Attraverso il Kevala Kumbhaka emerge la conoscenza del Kundalini. Il Kundalini è stimolato e il Sushumna è libero da ogni tipo di ostacolo. Egli ottiene la perfezione nell'ata yoga. Potete praticare questo Kumbhaka tre volte al giorno. Colui che conosce il Pranayama e il Kevala è un vero yogi. Cosa non può realizzare nei tre mondi che ha acquisito successo in questo Kevala Kumbhaka? Gloria, gloria alle anime così elevate. Questo Kumbhaka cura tutte le malattie e promuove la longevità. Pranic Healing Coloro che praticano il Pranayama possono trasmettere il loro Prana alla cura delle malattie morbose. Possono anche ricaricare se stessi con il Prana in pochissimo tempo praticando il Kumbhaka. Non pensate mai che il Prana possa esaurirsi distribuendola ad altri. Più date, più ritornerà a voi dalla fonte cosmica. Irania Garba Questa è la legge della natura. Non diventate avari. Se c'è un paziente reumatico, lavate delicatamente le sue gambe con le vostre mani. Quando lavate, massaggio, fate Kumbhaka e immaginate che il Prana scorra dalle vostre mani sulle gambe del vostro paziente. Connettetevi con Irania Garba o con il Prana cosmico e immaginate che l'energia cosmica scorra tra le vostre mani sulle gambe del paziente. Il paziente sentirà subito calore, sollievo e forza. Potete curare il mal di testa, le coliche intestinali o qualsiasi altra malattia solo con il messaggio e il vostro tocco magnetico. Quando massaggiate il fegato, la milza, lo stomaco o qualsiasi altra parte o organo del corpo, potete parlare con le cellule e dare loro degli ordini. Oh cellule, adempite in modo corretto alle vostre funzioni. Vi comando di farlo. Esse obbediranno ai vostri ordini. Anche loro hanno un'intelligenza subconscia. Ripetete OM quando passate il vostro Prana ad altri. Provate alcuni casi. Acquisirete competenza. Potete anche curare morsi di scorpione. Lavate delicatamente la gamba e portate il veleno verso il basso. Praticando regolarmente il Pranayama, avrete una straordinaria potenza di concentrazione, una forte volontà e un corpo perfettamente sano e forte. Dovrete dirigere il potere del Prana consciamente verso le parti del corpo malsane. Supponiamo che abbiate un fegato pigro. Sedetevi in Padmasana. Chiudete gli occhi. Inspirate dolcemente e contate tre OM. Poi, trattenete il respiro e contate sei OM. Dirigete il Prana verso la regione del fegato. Concentrate la vostra mente in quel punto. Fissate l'attenzione su quell'area. Immaginate che il Prana compenetri tutti i tessuti e le cellule dei lobi del fegato, dedicandosi al suo lavoro curativo, rigenerante e costruttivo. Fede, immaginazione, attenzione e interesse giocano un ruolo molto importante nel curare le malattie, dirigendo il Prana verso l'area malata. Poi, lentamente, espirate. Durante l'espirazione, immaginate che tutte le morbose impurità del fegato vengono espulse. Ripetete il processo 12 volte al mattino e 12 volte alla sera. La pigrezia del fegato svanirà in pochi giorni. Questo è un trattamento senza farmaci. Questa è la cura della natura. Potete dirigere il Prana verso qualsiasi parte del corpo durante il Pranayama e curare qualsiasi tipo di malattia, sia acuta sia cronica. Provate una volta o due a curare voi stessi. Le vostre convinzioni si rafforzeranno. Perché piangete come la signora che piange per il burro chiarificato quando ha il burro in mano? Quando avete un rimedio o agente Prana, economico, potente, facilmente disponibile al vostro comando in qualsiasi momento? Usatelo con giudizio. Quando avanzate nella concentrazione e nella pratica, potete curare molte malattie con un semplice tocco. Nelle fasi avanzate, molte malattie possono essere curate con la semplice volontà. La guarigione a distanza. Questo è anche noto come trattamento assente. Potete trasmettere il vostro Prana attraverso lo spazio al vostro amico che vive a distanza. Egli dovrà avere un atteggiamento mentale ricettivo. Dovete sentirvi un rapport, in diretta relazione e compassionevoli, con la persona che volete guarire con il metodo Distant Healing. Potete fissare le ore di appuntamento attraverso la corrispondenza. Potete scrivergli Preparati alle ore 16. Mantieni un atteggiamento mentale ricettivo. Sdraiatevi su una poltrona. Chiudi gli occhi. Trasmetterò il mio Prana. Dite mentalmente al paziente Sto trasmettendo un afflusso di Prana, forza vitale. Eseguite il Kumbhaka quando inviate il Prana. Praticate anche la respirazione ritmica. Immaginate che il Prana ora lasci la vostra mente quando espirate. Passa attraverso lo spazio ed entra nel sistema del paziente. Il Prana viaggia invisibile come le onde wireless, radio, e lampeggia come un fulmine attraverso lo spazio. Il Prana, che è colorato dai pensieri del guaritore, viene proiettato all'esterno. Potete ricaricarvi con il Prana praticando il Kumbhaka. Ciò richiede una pratica lunga, costante e regolare. Il rilassamento. La pratica di rilassare i muscoli del corpo porterà pace al corpo e anche alla mente. La tensione dei muscoli sarà alleviata. Le persone che conoscono la scienza del rilassamento non sprecano energia. Riescono a meditare bene. Fate qualche respiro profondo e poi sdraiatevi sulla schiena come in Savasana. Rilassate tutti i muscoli del corpo dalla testa ai piedi. Rotolate su un lato e poi rilassatevi il più a fondo possibile. Non forzate i muscoli. Rotolate dall'altra parte e rilassatevi. Questo viene fatto in modo naturale da tutti durante il sonno. Ci sono vari esercizi di rilassamento per muscoli specifici di una determinata parte del corpo. Potete rilassare la testa, le spalle, le braccia, gli avambracci, il polso, eccetera. Gli yoghi conoscono a fondo la scienza del rilassamento. Quando praticate questi vari esercizi di rilassamento è necessario avere un'immagine mentale di calma e forza. Il rilassamento della mente L'equilibrio mentale e la calma possono essere determinati dall'eradicazione della preoccupazione e della rabbia. La paura sta alla base della preoccupazione e della rabbia. Nulla è guadagnato dalla preoccupazione e dalla rabbia, ma al contrario, molta energia viene sprecata da questi due tipi di emozioni inferiori. Se un uomo si preoccupa molto ed è irritabile, è davvero un uomo molto debole. Siate attenti e riflessivi. Tutte le preoccupazioni inutili possono essere evitate. Il rilassamento dei muscoli reagisce sulla mente e porta il riposo alla mente. Il rilassamento della mente porta anche il riposo al corpo. Corpo e mente sono intimamente connessi. Il corpo è uno stampo preparato dalla mente per il suo piacere. Sedetevi per 15 minuti in una posizione rilassata e comoda. Chiudete gli occhi. Isolate la mente dagli oggetti esterni. Calmate la mente. Mettete a tacere i pensieri assillanti. Pensate che il corpo sia un guscio di noce di cocco e voi siete completamente diversi dal corpo. Pensate che il corpo sia uno strumento nelle vostre mani. Identificatevi con lo spirito onnipresente, o Atman. Immaginate che il mondo intero e il vostro corpo fluttuano come un pezzo di paglia in questo vasto oceano di spirito. Sentite di essere in contatto con l'essere supremo. Sentite che la vita di tutto il mondo pulsa, vibra e palpita attraverso di voi. Sentite che l'oceano della vita vi culla dolcemente sul suo vasto seno. Poi, aprite gli occhi. Sentite un'immensa pace mentale, vigore mentale e forza mentale. Esercitatevi e sentite questo. Importanza e benefici del pranayama L'illusorio samsaric vasana, che è sorto attraverso la pratica di molte vite, non perisce mai se non attraverso la pratica dello yoga per lungo tempo. Non è possibile da parte di una persona a controllare la mente rialzandosi ripetutamente, tranne che attraverso i mezzi approvati. Mukti Kopanishad Come potrebbe Jnana, capace di dare moksha, sorgere certamente senza yoga? E anche lo yoga diventa impotente nel proteggere moksha quando è privo di Jnana. Quindi, l'aspirante dopo l'emancipazione dovrebbe praticare fermamente sia yoga che Jnana. Yoga Tatva Upanishad Tata Schiate Prakasavaranam Da lì, il manto della luce viene distrutto. Yoga Sutras Secondo, 52 Tamas e Rajas formano il manto o il velo. Questo velo è rimosso dalla pratica del pranayama. Dopo che il velo è stato rimosso, si realizza la vera natura dell'anima. La citta è di per sé costituita dalle particelle sattvic, ma è avvolta da Rajas e Tamas. Proprio come il fuoco è avvolto dal fumo. Non c'è azione purificatoria più grande del pranayama. Il pranayama dona purezza e la luce della conoscenza brilla. Il karma dello yogi, che copre la conoscenza discriminatoria, viene distrutto mentre pratica il pranayama. Con il magico panorama del desiderio, l'assenza, che è luminosa per natura, è ricoperta e la jiva, o l'anima individuale, è rivolta verso il vizio. Questo karma dello yogi, che ricopre la luce e lo lega a nascite ripetute, si attenua con la pratica del pranayama, in ogni momento, ed è eventualmente distrutto. Secondo Vachaspati, le afflizioni e i peccati formano un manto. Manu dice Lasciate che i difetti siano bruciati dal pranayama. Vishnu Purana parla del pranayama come un accessorio per lo yoga. Colui che vuole praticare l'aria conosciuta come prana, si dice che si è assicurato il pranayama. Dharanasu Chayoghyata Manasa La mente diventa pronta alla concentrazione. Yoga Sutras, secondo, 53. Sarete in grado di concentrare la mente nel modo giusto dopo che questo velo dalla luce è stato rimosso. La mente sarà completamente ferma come la fiamma in un luogo senza vento, quando l'energia disturbante sarà rimossa. La parola pranayama è talvolta usata collettivamente per l'inspirazione, il trattenimento e l'espirazione del respiro e a volte per ognuno di questi separatamente. Quando il pranavayu si sposta nella casa tatva, il respiro si attenuerà. In questo momento sarà facile fermare il respiro. La velocità della mente verrà lentamente attenuata dal pranayama. Indurrà il vairaja. Se siete in grado di sospendere un pollice o una cifra di respiro all'interno, otterrete i poteri per predire il futuro. Se siete in grado di sospendere due pollici all'interno, otterrete il potere di leggere nel pensiero. Per la sospensione del respiro di tre pollici, la levitazione. Per quattro pollici, la chiarudienza, la psicometria, eccetera. Per cinque pollici, potrete muovervi nel mondo senza essere visti da nessuno. Per sei pollici, il potere di Kaya Siddi. Per sette pollici, potrete entrare nel corpo di un'altra persona. Parakaia Pravesa. Per otto pollici, il potere di rimanere sempre giovani. Per nove pollici, il potere di far lavorare Devas come il vostro servitore. Per dieci pollici, Anima, Mahima e altri Siddi. E per undici pollici, raggiungerete l'unità con Paramatman. Quando attraverso molta pratica, lo yogi può eseguire per tre ore interi il Kumbhaka, saprà bilanciarsi sul pollice. Egli raggiunge indubbiamente tutti i tipi di Siddis. Proprio come il fuoco distrugge il carburante, così anche il Pranayama distrugge il fardello dei nostri peccati. Pratyara rende calma la mente. Darana stabilizza la mente. Dhyana fa dimenticare il corpo e il mondo. Samadhi porta beatitudine infinita, conoscenza, pace e liberazione. Durante lo yogic samadhi, la fiamma dello yogagni, fuoco dello yoga, estendendosi dall'ombelico alla testa, scioglie la mhrita nel Brahmahandra. Lo yogi beve questo con gioia ed estasi. Può rimanere senza cibo e bevande per mesi, solo bevendo questo nettare dello yoga. Il corpo diventa snello, forte e sano. Il grasso in eccesso si riduce. C'è lucentezza sul viso. Gli occhi brillano come diamanti. Il praticante diventa bellissimo. La voce diventa dolce e melodiosa. I suoni interiori di Anahata sono distintamente sentiti. Lo studente è libero da ogni sorta di malattia. Egli si stabilisce in Bramacharya. Il seme diventa fermo e controllato. Il Jataragni, fuoco gastrico, è aumentato. Lo studente diventa talmente perfetto in Bramacharya che la sua mente non sarà scossa anche se una fata cerca di abbracciarlo. Ha un grande appetito. Le nadi sono purificate. Il vixhepa è rimosso e la mente è concentrata. Rayas e Tamas sono distrutti. La mente è pronta per Darana e Diana. Le escrezioni diventano scarse. La pratica costante stimola la luce spirituale interiore. La felicità e la pace della mente. Lo rende un urvareto yogi. Solo gli studenti avanzati otterranno tutti gli altri seed dimensionati sopra. La mente di un uomo può essere fatta per trascendere l'esperienza ordinaria ed esistere su un piano più alto di quella della ragione, nota come stato di concentrazione superconscia, e oltrepassare il limite di concentrazione. Egli si trova faccia a faccia con fatti che la coscienza ordinaria non può comprendere. Questo dovrebbe essere ottenuto con una corretta formazione e manipolazione delle forze sottili del corpo, in modo da indurle a dare, per così dire, una spinta verso l'alto alla mente nelle regioni più alte. Quando la mente è così sollevata nello stato di percezione superconscia, inizia ad agire da lì, esperimenta fatti superiori e conoscenze più elevate. Questo è l'ultimo obiettivo dello yoga, che può essere raggiunto con la pratica del pranayama. Il controllo del prana vibratorio significa per uno yogi l'accensione del fuoco della conoscenza suprema, la realizzazione del sé. Capitolo 3 Seconda parte Istruzioni speciali 1. Presto al mattino rispondete alle chiamate della natura e sedetevi per la pratica. Praticate il pranayama in una stanza asciutta e ben ventilata. Il pranayama richiede una profonda concentrazione e attenzione. È sempre meglio praticare in una posizione seduta e stabile. Non tenete nessuno al vostro fianco per evitare la distrazione della mente. 2. Prima di sedervi per praticare il pranayama, pulite accuratamente le narici. Potete anche assumere una piccola quantità di succo di frutta o una tazzina di latte o caffè prima della pratica. Quando avete terminato la pratica, assumete una tazza di latte o uno spuntino leggero dopo dieci minuti. 3. Fate solo una seduta al mattino durante l'estate. Se c'è calore nel cervello o nella testa, applicate olio o burro di amla sulla testa prima di fare il bagno. Prendete misri sherbat dissolvendo zucchero candito in acqua. Questo rinfrescherà l'intero sistema. Fate anche sitali pranayama. Non sarete influenzati dal calore. 4. Evitate rigorosamente di parlare troppo, mangiare troppo, dormire troppo, frequentare troppo gli amici e la troppa fatica. In verità, lo yoga non è per colui che mangia troppo né chi si astiene all'eccesso. È dipendente dal troppo sonno o dall'insonnia. Gita sesto 16. Prendete del burro chiarificato con riso durante i pasti. Questo lubrificherà l'intestino e consentirà a vaio di muoversi liberamente verso il basso. 5. Mitaharan vina yastu yoga rambantukarayet nanaroga bavettasia kinci yoga nasi diati. Senza osservare la moderazione nella dieta, se una persona si dedica alla pratica dello yoga, non potrà ottenere alcun beneficio. ma avrà varie malattie. Gheranda Samhita capitolo quinto sedici 6. L'astinenza sessuale totale per sei mesi o un anno vi permetterà senza dubbio di ottenere rapidi progressi nell'avanzamento spirituale e della pratica. Non parlate con le donne, non ridete o scherzate con loro. Evitate completamente la loro compagnia. Senza bramacharya e le norme dietetiche, se si praticano esercizi di yoga, non otterrete il massimo beneficio nelle pratiche spirituali, ma per una salute ordinaria potete praticare esercizi lievi. 7. Siate regolari e metodici nella vostra pratica. Non saltate neanche un giorno. Interrompete la pratica quando avete un problema serio. Alcune persone hanno degli strappi ai muscoli della faccia quando eseguono un kumbhaka. Questo dovrebbe essere evitato. È un sintomo che indica che stanno oltrepassando i loro limiti. Questo è severamente vietato. Tali persone non possono avere un reciaka e puraka regolati. 8. Ostacoli nello yoga. Dormire durante il giorno, rimanere svegli durante la notte, eccesso di urina e feci, danni da cibo malsano e laboriosa operazione mentale con il prana. Quando una persona viene attaccata dalla malattia, egli dice che la malattia è causata dalla pratica dello yoga. Questo è un grave errore. 9. Alzatevi alle 4 del mattino. Meditate o fate japa per mezz'ora. Poi fate asana e mudra. Riposatevi per 15 minuti. Poi fate pranayama. Gli esercizi fisici possono essere convenientemente combinati con le asana. Se avete a disposizione tempo a sufficienza, potete farlo dopo aver finito tutti gli esercizi di yoga e la meditazione. Il pranayama può anche essere eseguito appena vi alzate dal letto e prima del japa e della meditazione. Renderà il vostro corpo leggero e vi godrete la meditazione. Dovete avere una routine che rispetti le vostre comodità e il vostro tempo. 10. Si può trarre il massimo beneficio se viene eseguito anche il japa durante la pratica delle asana e del pranayama. 11. È sempre meglio iniziare il japa e la meditazione presto al mattino, alle 4 appena vi alzate dal letto. A quest'ora la mente è piuttosto calma e fresca. Avrete una migliore concentrazione. 12. La maggior parte delle persone presto al mattino spreca il loro prezioso tempo a rispondere alle chiamate della natura per mezz'ora e a lavarsi i denti per un'altra mezz'ora. Questo non va bene. Un aspirante dovrebbe cercare di defecare in 5 minuti e lavarsi i denti in 5 minuti. Se l'intestino è costipato praticate vigorosamente il salaba, il bujanga e il danurasana per 5 minuti appena vi alzate dal letto. Se siete abituati a rispondere alla chiamata della natura potete farlo più tardi quando avete terminato gli esercizi di yoga. 13. Prima fate il japa e la meditazione. Poi eseguite gli esercizi di asana e pranayama. Quindi terminate il corso della pratica con una breve seduta di meditazione. 14. Siccome c'è sempre un po' di sonnolenza quando ci si alza dal letto, è consigliabile eseguire alcune asana e un po' di pranayama per 5 minuti per togliere la sonnolenza e prepararsi alla meditazione. La mente diventa concentrata dopo la pratica del pranayama. Il pranayama, sebbene riguardi il respiro, è un buon esercizio per i vari organi interni e tutto il corpo. 15. L'ordine generale da eseguire e kriya è prima fare tutte le asana, poi i mudra, poi pranayama e dhyana. Poiché la mattina presto è adatta per la meditazione, potete eseguire questo ordine, japa, meditazione, asana, mudra e pranayama. Questo è il modo migliore. Potete seguire l'ordine più adatto a voi. Dopo aver eseguito gli asana, riposatevi per 5 minuti e poi iniziate il pranayama. 16. Alcuni libri di Hatha Yoga proibiscono di fare il bagno freddo al mattino presto. Probabilmente il motivo è che si potrebbe prendere il raffreddore o avere dei problemi ai polmoni facendo un bagno freddo alle 4 del mattino, soprattutto in luoghi freddi come Kashmir, Mussorie, Darjeeling, eccetera. Non ci sono restrizioni in luoghi caldi. Sono sempre a favore ai bagni freddi prima di iniziare a praticare lo yoga perché sono rinfrescanti e stimolanti. Tolgono la sonnolenza, equilibrano la circolazione sanguigna. C'è un salutare flusso di sangue verso il cervello. 17. Le asana e il pranayama rimuovono tutti i tipi di malattie, migliorano la salute, danno energia alla digestione, tonificano i nervi, raddrizzano il Sushumna Nadi, rimuovono il Rajas e risvegliano il Kundalini. La pratica delle asana e del pranayama conferisce una buona salute e una mente stabile. Poiché nessun sadhana è possibile senza una buona salute e siccome nessuna meditazione è possibile senza una mente stabile, Hatha Yoga è d'immenso uso per gli yogi dhyana, gli yogi karma, gli yogi bhaktas e anche i vedanti. 18. Il mantenimento del corpo è impossibile senza le asana o qualsiasi tipo di attività o esercizio fisico. Persino un vedanti in ortodosso è un Hatha Yoga inconscio. Pratica una sorta di asana ogni giorno. Pratica inconsciamente anche il pranayama perché durante la meditazione il pranayama viene da sé. 19. Ogni volta che vi sentite a disagio, depressi o avviliti, praticate il pranayama. Vi sentirete subito riempiti di nuovo vigore, energia e forza. Vi sentirete elevati, rinnovati e pieni di gioia. Fatelo e vedrete. Prima di iniziare a scrivere qualcosa, un tema, un articolo o una tesi, fate prima il pranayama. Vi darà delle bellissime idee e avrete una produzione stimolante, potente e originale. 20. Praticate regolarmente. Essere regolari nella pratica è molto importante se si vuole ottenere i massimi benefici dell'asana e del pranayama. Coloro che praticano a singhiozzo non ne trarranno molto beneficio. In genere, all'inizio, le persone praticano per due mesi con grande entusiasmo e poi abbandonano la pratica. Questo è un grande errore. Vogliono sempre un insegnante di yoga al loro fianco. Questa è una mentalità a tendenza effemminata. Sono pigri, indolenti e letargici. 21. Le persone non vogliono rimuovere il mala, impurità, con un servizio altruista e vikshepa con le pratiche yoga. Vogliono subito risvegliare il kundalini e alzare bramakara vritti. Si romperanno solo le gambe. Coloro che cercano di risvegliare il kundalini con le asana e il pranayama dovrebbero avere purezza nel pensiero, nella parola e nelle azioni. Dovrebbero avere bramaciaria mentale e fisico. Solo allora possono godere dei benefici del risveglio del kundalini. 22. Seminate il seme della spiritualità nella vostra giovane età. Non sprecate viria. Disciplinate gli indiri e la mente. Fate sadhana. Quando diventerete vecchio, sarà difficile per voi fare un rigoroso sadhana. Pertanto, siate vigili durante l'adolescenza. In breve tempo, vedrete da voi stessi gli eccezionali benefici che derivano dai particolari tipi di sadhana. 23. Quando avanzate nelle pratiche spirituali, dovete osservare un rigoroso mouna, voto di silenzio, per 24 ore di seguito. Questo deve essere continuo, anche per alcuni mesi. Tutti dovrebbero selezionare un corso di pochi esercizi di asana, pranayama e meditare a seconda del temperamento, la capacità, la comodità e le esigenze della persona. 24. È del tutto possibile per un uomo praticare l'astinenza sessuale, anche se ci sono vari tipi di tentazioni e distrazioni. Una vita ben disciplinata, lo studio delle scritture, sastanga, japa, dhyana, pranayama, sattvic, è una dieta moderata. Introspezione, ricerca, autoanalisi e autocorrezione, sadhacara, la pratica del yama, niyama, tapas fisico e verbale, spianeranno tutti una lunga strada nel raggiungimento di questo fine. Le persone hanno una vita irregolare, peccaminosa, smodata, irreligiosa, indisciplinata. Quindi, soffrono e falliscono nel raggiungimento dello scopo della vita. Proprio come l'elefante getta sabbia sulla propria testa, così, anche loro stessi portano difficoltà e problemi sulle loro teste a causa della loro stupidità. 25. Non scuotete il corpo inutilmente. Scuotendo il corpo, anche la mente è spesso disturbata. Ogni tanto, non distendete il corpo. La sana dovrebbe essere stabile e ferma come una roccia quando si pratica il pranayama, il japa e la meditazione. 26. Dovete scoprire da soli, in base alla vostra salute e costituzione, che tipo di regolamento dietetico si adatta a voi e quale particolare pranayama vi aiuterà esattamente. Solo allora potrete procedere in sicurezza con il vostro sadhana. Prima, leggete tutte le istruzioni dei vari esercizi dati in questo libro dall'inizio alla fine. Comprendete bene la tecnica. Se avete dubbi, chiedete a qualsiasi studente di yoga di fare una dimostrazione e poi praticatela voi. Questo è il metodo più sicuro. Non dovreste mai selezionare un esercizio qualsiasi a caso e iniziare a praticarlo in modo sbagliato. 27. In tutti gli esercizi ho suggerito il mantra OM come unità di tempo. Potete avere il vostro guru mantra, Rama, Shiva, Gayatri o un semplice numero come unità di tempo in base alla vostra inclinazione. Gayatri o OM è il migliore per il pranayama. All'inizio dovete osservare alcune unità di tempo per Puraka, Kumbaka e Rechaka. L'unità di tempo e il rapporto corretto vengono da sé quando si fa il Puraka, Kumbaka e il Rechaka finché riuscite a farlo tranquillamente. Quando sarete avanzati nella pratica non sarà più necessario contare o mantenere alcuna unità. Sarete consolidati naturalmente nel normale rapporto attraverso la forza dell'abitudine. 28. All'inizio per alcuni giorni dovete contare il numero e vedere come progredite. Nelle fasi più avanzate non serve distrarre la mente per contare. I polmoni vi diranno quando il numero richiesto è terminato. 29. Non continuate il Pranayama quando siete affaticati. Deve esserci sempre gioia ed euforia di spirito durante e dopo la pratica. Dovreste uscire dalla pratica completamente rimbigoriti e rinfrescati. Non vincolatevi a troppe regole, Niamas. 30. Non fate il bagno subito dopo aver terminato il Pranayama. Riposatevi per mezz'ora. Se sudate durante la pratica non pulitevi con l'asciugamano. Strofinatevi con le mani. Non esponete il corpo a correnti d'aria fredde quando sudate. 31. Inspirate ed espirate molto lentamente. Non emettete alcun suono. Nei Pranayama come Bastrica, Kapalabati, Sitali e Sitkari potete produrre un suono lieve o molto basso. 32. Non dovreste aspettarvi dei benefici dopo averlo eseguito solo per due o tre minuti per un giorno o due. All'inizio dovete fare almeno 15 minuti di pratica quotidiana regolarmente per diversi giorni. Non servirà a niente saltare da un esercizio a un altro ogni giorno. Dovete avere un particolare esercizio per il vostro Abiyasa quotidiano che dovreste migliorare fino a raggiungere un alto livello. Naturalmente potete eseguire altri esercizi occasionali da praticare con l'esercizio quotidiano. Dovete avere Bastilka, Kapalabhati e Pranayama facile e tranquillo per la vostra pratica quotidiana e Sitali, Sitkari, eccetera possono essere praticati occasionalmente. 33. Il Puraka è noto anche come Nisvasa e il Rechaka è noto come Uchvasa. Il processo mentale nel Kevala Kumbhaka è chiamato forma di regolazione del respiro su Gnaka. La pratica costante e sistematica e l'aumento graduale di Kumbhaka è noto come Abhyasa Yoga. L'ingestione dell'aria e vivere solo con quest'aria è chiamato Vayubakshana. 34. L'autore di Sivayova Dipika descrive tre tipi di Pranayama Pracrita, Vaikrita e Kevala Kumbhaka. Se il Prana è sotto forma di respiro inspirato ed espirato a causa della sua naturale qualità di uscire ed entrare il Pranayama è noto come Pracrita. Se il Prana è controllato dal triplice mezzo di buttare fuori, portare dentro e di bloccare il respiro secondo le regole prescritte nei Satra è chiamato Vaikrita o artificiale. Ma con i grandi uomini che si sono elevati al di sopra di questi due tipi di respiro restrittivo l'improvvisa limitazione diretta delle correnti vitali senza ispirazione ed espirazione è Kevala Kumbhaka. Pracrita Pranayama appartiene al mantra yoga Vaikrita appartiene all'aya yoga 35 Questo è chiamato Kumbhaka cessazione del respiro quando non c'è né ispirazione né ispirazione e il corpo è immobile fermo in uno stato poi vede forme come i ciechi sente suoni come i sordi e vede il corpo come il legno. Questa è la caratteristica di colui che ha raggiunto la quiescenza 36 Il Patangeli non pone molta attenzione alla pratica di diversi tipi di Pranayama e gli menziona espirate lentamente poi inspirate e trattenete il respiro la vostra mente diventerà stabile e calma sono solo gli yogi Ata che hanno sviluppato il Pranayama come una scienza e che hanno menzionato vari esercizi che sono adatti a diverse persone 37 Stendete una pelle di tigre o una pelle di cervo o una coperta piegata in quattro sopra stendete un pezzo di panno bianco poi sedetevi rivolti verso nord per la pratica del Pranayama 38 Alcuni prenderebbero l'ordine come espirare inspirare e trattenere altri come inspirare trattenere ed espirare quest'ultimo è più comune In Yajna Valkya troviamo i diversi tipi di regolazione del respiro menzionati in ordine di Puraka Kumbhaka e Reciaka mentre nel testo Naridya li abbiamo nell'ordine Reciaka Puraka e Kumbhaka i due devono essere regolati come alternativi opzionali 39 Uno yogi dovrebbe sempre evitare la paura la rabbia la pigrizia troppo sonno o veglia o troppo cibo o diete estreme Se la regola menzionata qui sopra verrà praticata rigorosamente ogni giorno in tre mesi la saggezza spirituale sorgerà da sé senza dubbio In quattro mesi egli vedrà il Devas In cinque mesi conoscerà o diventerà un Brahmanista e sicuramente in sei mesi raggiungerà Kaivalya con la sua volontà non c'è dubbio 40 Un neofita dovrebbe fare solo Puraka e Reciaka senza Kumbhaka per alcuni giorni Fate Reciaka per un lungo periodo La proporzione per Puraka e Reciaka è di 1 a 2 41 Il Pranayama nella sua forma più popolare e preparatoria può essere praticato da tutti in qualsiasi postura da seduti o camminando ed è sicuro che mostrerà i suoi benefici ma per coloro che lo praticano secondo i metodi specifici prescritti la fruttificazione sarà rapida 42 Aumentate gradualmente il periodo di Kumbhaka trattenete per 4 secondi nella prima settimana per 8 secondi nella seconda settimana per 12 secondi nella terza settimana e così via finché non sarete in grado di trattenere il respiro in base alla vostra completa capacità 43 Buonsenso o Yukti dovrebbero essere usati durante la pratica se un tipo di esercizio non è favorevole al vostro sistema cambiatelo dopo le dovute considerazioni o dopo aver consultato il vostro guru questo è Yukti dove c'è Yukti c'è Siddhi Bukti e Mukti perfezione a pagamento e salvezza 44 Dovreste regolare per bene il Puraka il Kumbhaka e il Reciaka in modo da non dover provare la sensazione di soffocamento o disagio in nessuno stadio del Pranayama non dovreste mai avvertire la necessità di afferrare qualche respiro normale tra due turni consecutivi la durata del Puraka Kumbhaka e del Reciaka deve essere regolata correttamente esercitate la dovuta cura e attenzione le cose saranno facili e andranno a buon fine 45 non dovete prolungare inutilmente il periodo di aspirazione se prolungate il periodo di Reciaka la successiva ispirazione verrà fatta in maniera affrettata e il ritmo verrà disturbato è necessario regolare con cura il Puraka il Kumbhaka e il Reciaka che devono essere assolutamente confortevoli ed eseguire non solo un Pranayama ma anche l'intero corso o i turni richiesti del Pranayama le esperienze e la pratica vi faranno stare bene la pratica rende perfetti siate costanti un altro fattore importante è che dovete avere un controllo efficace sui polmoni alla fine del Kumbhaka in modo da poter fare il Reciaka agevolmente e in proporzione con il Puraka 46 Surya Beda e Ujai producono calore Sitkari e Sitali sono rinfrescanti Bastrica mantiene la temperatura normale Surya Beda distrugge l'eccesso di gas intestinale Ujai il Catarro Sitkari e Sitali la Bile e Bastrica tutti e tre 47 Surya Beda e Ujai devono essere praticati in inverno Sitkari e Sitkari devono essere praticati in estate Bastrica può essere praticato in tutte le stagioni le persone i cui corpi sono caldi anche in inverno possono praticare Sitkari e Sitkari durante la stagione invernale 48 lo scopo della vita è la realizzazione di se stessi ciò è ottenuto attraverso la sottomissione del corpo e dei sensi il servizio a un buon guru l'ascolto della dottrina vedantica e la sua costante meditazione Niralamba Upanishad se siete veramente sinceri e desiderate arrivare al successo in modo sicuro e veloce dovete avere una routine sistematica per asana pranayama japa meditazione svadhyaya eccetera dovete essere molto attenti a continuare il brahmacharya mezzi efficaci per controllare la mente sono il raggiungimento della coscienza spirituale l'associazione con i saggi l'abdicazione totale di tutti i vasana e il controllo del prana mukti kopanishad 49 ancora una volta vi dirò che asana pranayama japa dhyana bramacharya satsanga solitudine mouna nishkama karma sono tutti assolutamente necessari per i traguardi spirituali difficilmente si può raggiungere la perfezione nel rajayoga senza hatha yoga al termine di kumbhaka dovreste ritirare la mente da tutti gli oggetti con una pratica graduale sarete consolidati in rajayoga 50 alcuni studenti che studiano i libri vedantici pensano di essere jnanis e ignorano le asana il pranayama eccetera inoltre dovrebbero praticarli fino a quando saranno perfetti nel shatsanpat nel sadhana chatushthaya sama dhama eccetera i requisiti preliminari del jana yoga 51 non esitate non aspettate di trovare un guru che si siederà al vostro fianco ad osservarvi ogni giorno per un lungo periodo se siete sinceri regolari e sistematici e se seguite le regole e le istruzioni di questo libro molto attentamente non ci sarà alcun problema arriverete senza dubbio al successo all'inizio possono sorgere lievi errori ma non ha importanza non serve allarmarsi inutilmente non rinunciate alla pratica imparerete da soli come risolvere i problemi buon senso istinto la penetrante voce interiore dell'anima vi aiuteranno lungo il percorso tutto filerà liscio alla fine iniziate la pratica in questo stesso istante nel modo giusto e diventate un vero yogi om shanti 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 appendice concentrazione sul plesso solare il plesso solare è spesso chiamato il cervello addominale è un importante centro dei nervi connesso con il sistema nervoso simpatico è situato nella regione epigastrica dietro alla bocca dello stomaco su entrambi i lati della colonna vertebrale controlla i principali organi interni dell'uomo svolge un ruolo molto più importante di quella generalmente riconosciuta ha una parte importante nel controllo delle emozioni e delle varie funzioni corporee è composto da materia cerebrale bianca e grigia è una delle parti più vitali del corpo un colpo supplesso solare è noto agli uomini della box come mezzo immediato per rendere inconscio un avversario o in ogni caso impotente è la sede del prana è la sede del potere è il più importante di tutti gli adara supporti del corpo che sono 16 in totale è noto che gli uomini sono stati uccisi istantaneamente da un forte colpo sul plesso solare il plesso solare è letteralmente il sole del sistema nervoso quando il sole splende armoniosamente l'intero sistema fisico è armonioso irradia forza ed energia a tutte le parti del corpo pensieri e prana quando diretti verso questo centro attraverso il pranayama stimoleranno e risveglieranno la luce del sole latente sedetevi eretti in padmasana o siddhasana chiudete gli occhi inspirate l'aria lentamente attraverso la narice sinistra finché vi sentite a vostro agio tenete la narice destra chiusa con il pollice destro ripetete mentalmente OM poi trattenete il respiro dirigete attentamente l'attenzione verso il plesso solare concentrate la vostra mente in quel punto il pensiero deve essere concentrato su di esso non fate alcun sforzo eccessivo con la mente o altro sforzo inopportuno di qualsiasi tipo dirigete consciamente il prana sulla regione del plesso solare trattenendo il respiro immaginate io respiro nel prana nella felicità nella gioia nella forza nel vigore nell'amore poi espirate lentamente attraverso la narice destra quindi inspirate attraverso la narice destra trattenete il respiro come prima ed espirate attraverso la narice sinistra ripetete il processo dodici volte al mattino paura depressione debolezza e altre emozioni indesiderate che intralciano il cammino del vostro progresso spirituale svaniranno diventerete sempre più fidociosi di raggiungere la realizzazione del sé pancia dharana pritvi dharana ci sono cinque elementi cioè pritvi apas agni vayu e a casa nel corpo dei cinque elementi ci sono le cinque pieghe di dharana si dice che dai piedi alle ginocchia si trovi la regione del pritvi è di forma quadrilatera è di colore giallo e il suo varna ha la lettera sanscrita L lungo la regione della terra cioè dai piedi alle ginocchia contemplando su questo si dovrebbe eseguire il dharana in questo punto per un periodo di due ore al giorno così si raggiungerà supremazia sulla terra la morte non ci affliggerà perché si avrà ottenuto la supremazia sull'elemento terra ambasi dharana si dice che la regione dell'apas si estende dalle ginocchia all'ano apas ha una forma semilunare ed è di colore bianco ha la lettera va per il suo bijascara lettera germinale portando verso l'alto il respiro con la lettera va lungo la regione di apas si dovrebbe contemplare il dio narayana con quattro braccia una testa coronata vestito con abiti di colore arancione senza decadimento praticando il dharana lì ogni giorno per un periodo di due ore si è libero da tutti i peccati poi per lui non c'è paura dell'acqua agnei dharana tra l'ano il cuore si dice che sia la regione di agni agni è di forma triangolare di colore rosso e ha la lettera r per il suo bija alzando il respiro con la lettera ra lungo la regione del fuoco si dovrebbe contemplare rudra che ha tre occhi che concede tutti i desideri e che è del colore del sole di mezzogiorno praticando il dharana lì ogni giorno per un periodo di due ore non si sarà bruciati dal fuoco anche se il corpo entra nel pozzo del fuoco vajavia dharana dal cuore al centro delle sopracciglia si dice che sia la regione di vaju è di colore nero e brilla con la lettera ya portando il respiro lungo la regione di vaju si dovrebbe contemplare isbara l'onnisciente lo yogi non incontra la sua morte attraverso vaju akasa dharana dal centro delle sopracciglia alla parte superiore della testa si dice che sia la regione di akasa è di forma rotonda di color fumo e brilla con la lettera ha alzando il respiro lungo la regione di akasa si dovrebbe contemplare sadisiva praticando questo dharana si ottiene il potere della levitazione lo yogi ottiene tutti i sidi la storia dello yogi busunda busunda è uno degli cirambigis tra gli yogi egli era il maestro della scienza del pranayama si dice che un grande nido come quello di una montagna è stato costruito da lui sul ramo rivolto verso sud del kalpavrishka situato sulla vetta a nord del mahamero in questo nido viveva un corvo di nome busunda si dice che questo corvo era lo yogi che visse più a lungo era un tricala jnani egli aveva cognizione di tutti e tre i periodi di tempo poteva sedersi in yoga samadhi per qualsiasi periodo di tempo egli era privo di desideri egli aveva ottenuto il supremo santi e jnana egli era lì a godere la beatitudine del proprio sé ed è ancora lì essendo un cirangivi per molto tempo fu occupato nel culto di bramasakti a lambusa in questo punto del kalpavrishka busunda visse per molte yugas anzi per molti kalpa lasciava il suo nido nel periodo di pralaya aveva una conoscenza completa dei cinque dharanas aveva fornito prova di se stesso contro i cinque elementi praticando i cinque metodi di concentrazione si dice che quando tutti adityas bruciano il mondo con i loro raggi brucianti attraverso il suo apas dharana egli raggiunge la casa quando si manifestano le feroci burrasche che frantumano in pezzi le rocce lui è nella casa attraverso agmi dharana quando il mondo insieme al suo mahameru è sott'acqua egli galleggia su essi senza alcuna fluttuazione attraverso vayu dharana e quando è arrivato il momento della distruzione universale egli era come in susciupti nella sede di bramich fino all'inizio di un'altra creazione di brama dopo questa creazione lui ricorre di nuovo al suddetto nido per la sua dimora il kalpa brisca sulla vetta della montagna attraverso il suo sankalpa potere di volontà si alzerà e crescerà in modo simile all'inizio del kalpa successivo ogni volta la fabbrica interna il cibo che assumete consiste di elementi e proteine e azotati grassi o idrocarburi come il burro chiarificato e i carboidrati come il riso e lo zucchero le proteine costituiscono i tessuti e i muscoli i carboidrati producono energia oltre a questi ci sono anche vari tipi di sali i vari succhi digestivi la saliva in bocca i succhi gastrici nello stomaco la bile il succo pancreatico e il succo sentericus o succo intestinale nell'intestino agiscono sulle particelle di cibo durante il loro passaggio nel canale alimentare o tubo digerente la saliva agisce sull'amido lo converte in zucchero questa azione è ulteriormente presa dal succo pancreatico intestinale nell'intestino la bile agisce sui grassi il succo gastrico e il succo pancreatico agiscono sulle proteine tutto è convertito in un succo lattiginoso chiamato chilo il chilo viene assorbito dai vasi chiliferi ed è mescolato con il sangue il lato destro del cuore contiene sangue impuro il sangue impuro viene mandato ai polmoni per essere purificato e dopo essere stato purificato viene riportato al lato sinistro del cuore per poi essere pompato nella grande arteria aorta in tutto il corpo nei capillari il sangue emana la linfa che bagna e nutre i tessuti e le cellule del corpo e il sangue impuro viene trasportato dalle vene al lato destro del cuore i prodotti di rifiuto del cibo sono trasportati lungo l'intestino crasso che ha una lunghezza di sei piedi fino al retto dove vengono trattenuti come materia fecale quando l'impulso nervoso arriva al retto dal centro di defecazione del midollo spinale vengono scaricati attraverso l'ano apertura finale del canale alimentare i reni che sono situati ai due lati della regione lombare eliminano l'urina dal sangue e la mandano attraverso due tubi chiamati ureteri all'organo che contiene l'urina chiamata vescica dalla vescica viene rilasciata attraverso l'uretra il sistema nervoso è formato dal prosencefalo nel cerebro dal cervelletto o rombocefalo dal midollo spinale e dai nervi simpatici nel cervello ci sono vari centri per l'udito la vista il gusto l'olfatto la parola eccetera i diversi impulsi nelle mani quando un dito è stato morso da uno scorpione vengono trasportati attraverso i nervi sensoriali al midollo spinale e dal midollo spinale al cervello la mente che ha la sua sede nel cervello reagisce prova sensazioni un impulso viaggia dal midollo spinale e da lì lungo i nervi motori fino alla mano subito la mano viene ritirata dallo scorpione tutto questo è fatto in un batter d'occhio i nervi simpatici riforniscono gli organi interni dell'addome del fegato della milza del cuore eccetera ora descriverò come viene prodotto questo semifluido vitale i due testicoli o semi che si trovano nel sacco scrotale sono chiamati ghiandole secretorie queste cellule dei testicoli sono state dotate con la peculiare proprietà di assicurare lo sperma goccia a goccia dal sangue proprio come le api raccolgono il miele nel favo quindi questo fluido viene portato dai due dotti o tubi spermatici verso i due piccoli sacchetti osservatoi per lo sperma chiamati vescicole seminali sacchetti seminali uno su entrambi i lati sotto eccitazione viene espulso da piccoli dotti chiamati dotti eiaculatori tramite l'uretra o canale urinario dove viene mescolato al liquido prostatico emesso dalle ghiandole della prostata chi è il vero direttore di questi organi interni chi ha creato questa sottile magnanima macchina interna non siete colpiti dallo stupore dalla meraviglia miei cari amici quando per un attimo pensate seriamente alla grandezza divina e alla gloria divina che si trovano nella struttura di questi meccanismi miracolosi cuore polmoni cervello eccetera come funzionano ormoniosamente chi converte il cibo in sangue chi pompa il sangue nelle arterie è lui sentite la sua presenza interiore rendete il vostro silenzioso omaggio a lui gloria gloria al signore creatore di questo meraviglioso corpo la sua immagine la sua dimora il navad varapuri la città dai nove cancelli la dieta dello yoga una dieta che favorisce la pratica dello yoga e il processo spirituale può essere giustamente definita dieta yogica la dieta ha una connessione intima con la mente la mente è formata dalla proporzione più sottile del cibo Saga Udalaka istruisce suo figlio Svetaketu come segue il cibo quando consumato diventa triplice le parti più rozze diventano escrementi quelle intermedie carne e quelle più sottili la mente ancora una volta troverete nel Chandoghi Upanishad con la purezza del cibo una persona diventa purificata nella sua natura dalla purificazione della sua natura egli in verità riconosce il suo sé e riconoscendo il suo sé tutti i legami e gli attaccamenti sono spezzati ci sono tre tipi di dieta cioè la dieta Sattvic la dieta Rajasic e la dieta Tamasic latte frutta cereali burro pomodori formaggio spinaci sono alimenti Sattvic rendono la mente pura pesce uova carne eccetera sono alimenti Rajasic e citano la natura appassionata dell'uomo manzo cipolle aglio eccetera sono alimenti Tamasic riempono la mente con inerzia e rabbia Lord Krishna dice ad Arjuna nella Gita ottavo otto dieci il cibo che è caro a ciascuno è triplice ascoltate la distinzione di questi i cibi che aumentano la vitalità l'energia il vigore la salute e la gioia e che sono deliziosi sostanzialmente leggeri e gradevoli sono cari ai puri l'uomo appassionato desidera cibi che sono amari acidi salati eccessivamente piccanti pungenti asciutti e roventi e che producono dolore sofferenza e malattia i cibi raffermi senza gusto putridi marci e impuri sono cari al Tamasic il cibo è diviso in quattro tipi ci sono i liquidi che vanno bevuti i solidi che vengono sminuzzati dai denti e mangiati alcuni solidi che si assumono leccandoli e alimenti morbidi che possono essere ingoiati senza la masticazione tutti gli alimenti dovrebbero essere accuratamente masticati nella bocca solo allora sono pronti per essere digeriti facilmente assorbiti e assimilati nel sistema la dieta dovrebbe essere tale da poter mantenere l'efficienza fisica e una buona salute il benessere di un uomo dipende soprattutto da una nutrizione perfetta piuttosto che da qualsiasi altra cosa vari tipi di malattie intestinali un aumento della predisposizione alle malattie infettive mancanza di vitalità e il potere della resistenza rachitismo scorbuto anemia o povertà di sangue beriberi eccetera sono tutti dovuti a un'alimentazione sbagliata va ricordato che non è tanto il clima quanto il cibo che svolge un ruolo vitale nella formazione di un uomo forte e sano o di uno debole che soffre di una miriade di malattie una conoscenza della scienza della dietetica è essenziale per ogni uomo se vuole mantenere l'efficienza fisica e una buona salute egli dovrebbe essere in grado di trovare una dieta economica e ben bilanciata ricavata da alcuni alimenti adatti per una dieta solo allora tutti i membri della sua famiglia saranno sani e vigorosi ciò che vogliamo è una dieta equilibrata ma non ricca una dieta ricca produce malattie al fegato ai reni al pancreas una dieta ben bilanciata aiuta l'uomo a crescere a svolgere molto lavoro aumenta il suo peso corporeo e mantiene l'efficienza e è un elevato standard di vigore e vitalità un uomo è ciò che mangia questa è una verità assoluta il cibo è necessario per due scopi uno per mantenere il peso corporeo e due per produrre nuove cellule e per compensare l'usura dei nostri corpi gli alimenti contengono proteine carboidrati idrocarburi fosfati sale vari tipi di cenere acqua vitamine eccetera le sostanze proteiche sono azotate costituiscono i tessuti del corpo sono presenti in abbondanza nel dal nel latte eccetera sono chiamati costruttori di tessuti le proteine sono composti organici complessi che contengono carbonio idrogeno ossigeno e azoto e talvolta zolfo fosforo e ferro gli amidi sono carboidrati sono presenti in abbondanza nel riso i carboidrati sono produttori di energia o donatori di calore i carboidrati sono sostanze come l'amido lo zucchero o la gomma e contengono carbonio idrogeno e ossigeno gli idrocarburi o i grassi sono presenti nel burro chiarificato e negli oli vegetali i grassi sono composti di glicerina con acidi grassi la macchina umana del corpo ha necessariamente bisogno di lubrificazione burro panna formaggio olio di oliva olio di arachidi olio di senape sono ottimi per la lubrificazione una dieta ben bilanciata è quella in cui diversi principi della dieta che vanno a mantenere il corpo e la mente in perfetta salute e armonia esistono in proporzione adeguate il latte è un alimento perfetto perché contiene tutti i principi nutritivi in proporzione adeguate e ben bilanciate le proteine i grassi e i carboidrati devono essere nelle giuste proporzioni dovrebbero anche essere del tipo giusto se una dieta contiene troppo di una cosa o troppo di un'altra se è difettosa in un modo o nell'altro essendo carente o preponderante in uno o più costituenti importanti del cibo allora si chiama una dieta mal bilanciata o difettosa questo porterà alla malnutrizione a una crescita stentata a una carenza fisica eccetera molte malattie hanno origine dalla malnutrizione se il cibo è nutriente sano e ben bilanciato si ha un buon potere di resistenza ed efficienza fisica se si ha efficienza fisica si può completare più lavoro alcuni considerano il latte come dieta animale mentre altri considerano l'uovo come una dieta vegetale tutte queste persone rimarranno deluse il latte è una dieta vegetale mentre l'uovo è una dieta animale questa è la dichiarazione enfatica dei saggi colti gli studenti di yoga dovrebbero rinunciare alle uova tutti i principi nutritivi si trovano nel latte burro formaggio frutta mandorle pomodori carote e rape i succhi digestivi importanti sono la saliva in bocca il succo gastrico nello stomaco e il succo pancreatico la bile e il succo intestinale succo sentericus nell'intestino tenue la saliva è alcalina è emessa dalle ghiandole salivari digerisce gli amidi il succo gastrico ha una reazione acida contiene acido cloridrico è emesso dalle ghiandole gastriche digerisce le proteine il succo pancreatico digerisce gli amidi le proteine e i grassi contiene tre tipi di fermenti digestivi è prodotto dal pancreas la bile è emessa dal fegato digerisce i grassi gli alimenti si trasformano in chilo grazie all'azione di questi succhi digestivi e viene assorbito dai vasi chiliferi dell'intestino tenue gli ingordi e gli epicurei non se lo sognano nemmeno di arrivare al successo nello yoga colui che segue una dieta moderata che ha una dieta regolata può diventare uno yogi questo è il motivo per cui Lord Krishna dice ad Arjuna in verità lo yoga non è per colui che mangia troppo nemmeno per colui che si astiene all'eccesso né per chi è troppo dipendente dal sonno e nemmeno dalla veglia Arjuna lo yoga uccide tutto il dolore di colui che è regolato nel mangiare e nel divertimento regolato nelle proprie opere regolato nel sonno e nella veglia Gita VI 16-17 Assumete alimenti gradevoli sani e dolci a stomaco mezzo pieno riempite un quarto dello stomaco con acqua pura e lasciate il quarto rimanente per l'espansione dei gas intestinali questa è una dieta moderata tutti gli alimenti che sono putridi raffermi decomposti fermentati sporchi riscaldati conservati per oltre un giorno dovrebbero essere abbandonati la dieta dovrebbe essere semplice leggera sana facilmente digeribile e nutriente colui che vive per mangiare è un peccatore ma chi mangia per vivere è un santo quest'ultimo dovrebbe essere adorato se c'è fame il cibo viene digerito bene se non si ha appetito non mangiate niente lasciate riposare lo stomaco un'eccessiva quantità di cibo sovraccarica di lavoro lo stomaco induce un appetito capriccioso e rende la lingua fastidiosa poi diventa veramente difficile soddisfare la lingua l'uomo ha inventato diversi tipi di piatti solo per soddisfare il suo palato e rendere la sua vita complicata e miserabile si definisce un uomo civilizzato e colto mentre in realtà è ignorante e illuso dai suoi sensi la sua mente si arrabbia quando non può ottenere i suoi soliti piatti in un posto nuovo è questa la vera forza è diventato uno schiavo assoluto della sua lingua questo è negativo siate naturali e semplici nel mangiare mangiate per vivere e non vivete per mangiare potete essere veramente felici e potrete dedicare molto tempo alla pratica dello yoga uno studente di yoga che trascorre tutto il suo tempo in pura meditazione ha bisogno di pochissimo cibo un litro o un litro e mezzo di latte e della frutta saranno sufficienti ma quando si reca sul posto di lavoro ha bisogno di un'alimentazione abbondante e nutriente un uomo che svolge un faticoso lavoro fisico ha bisogno di più cibo la carne non è affatto necessaria per il mantenimento della salute il consumo di carne è altamente dannoso per la salute porta a una serie di disturbi come il verme solitario l'albuminuria e altre malattie dei reni dopo tutto l'uomo vuole molto poco su questa terra uccidere gli animali per cibo è un grave peccato invece di uccidere l'egoismo e l'idea della possessività la gente ignorante uccide animali innocenti con il pretesto di offrirli in sacrificio alla dea ma in realtà è per soddisfare le loro lingue e palati orribile inumano AIMSA PARA MO DARMA AIMSA è la prima virtù che un aspirante spirituale dovrebbe possedere dovremmo avere rispetto per la nostra vita Gesù dice beati i misericordiosi perché otterranno misericordia Lord Jesus e Mahavir hanno gridato a voce alta considera ogni essere vivente come te stesso e non danneggiare nessuno la legge del karma è inesorabile inarrestabile e immutabile il dolore che infliggete ad un altro si ripercuoterà su di voi e la felicità che irradiate ad un altro tornerà da voi aumentando la vostra felicità il dottor J. Oldfield medico senior Lady Margaret Hospital scrive oggi la chimica è nelle mani di tutti e nessuno può negare che i prodotti del regno vegetale contengono tutto ciò che è necessario per il pieno sostentamento della vita umana la carne è un cibo innaturale e pertanto tende a creare disturbi funzionali come viene assunta nella civiltà moderna è infettata da malattie così terribili facilmente trasferibili all'uomo come il cancro la consunzione la febbre i vermi intestinali eccetera in misura enorme non c'è da meravigliarsi che il consumo di carne sia una delle cause più gravi delle malattie che portano via 99 persone che nascono su 100 il consumo di carne e l'alcolismo sono strettamente associati il desiderio di liquori muore di morte naturale quando la carne viene eliminata dalla dieta la questione del controllo delle nascite diventa molto difficile per coloro che seguono una dieta a base di carne per il loro controllo della mente è assolutamente impossibile osservate come la tigre mangiatrice di carne sia feroce mentre la mucca o l'elefante che vivono di prodotti vegetali sono calmi e pacifici la carne ha un'influenza malvagia diretta sui compartimenti del cervello l'ultimo passo nel progresso spirituale è rinunciare a una dieta a base di carne la luce divina non discenderà se lo stomaco è carico a causa di una dieta a base di carne nei paesi dove il consumo di carne è molto elevato la mortalità per cancro è molto alta i vegetariani mantengono una buona salute fino alla vecchiaia anche negli ospedali nei paesi occidentali i medici consigliano ai loro pazienti di seguire una dieta vegetariana la loro convalescenza è molto più rapida Pitagora il saggio greco condannava una dieta a base di carne considerandola come cibo peccaminoso ascoltate cosa diceva attenzione o mortali di contaminare i vostri corpi con cibo peccaminoso ci sono cereali frutta che piegano i rami con il loro peso e sfarzosi grappoli di uva nelle vigne ci sono verdure ed erbe dolci che la fiamma del fuoco digestivo può rendere buoni e gustosi non vi è negato il latte e neppure la fragranza dell'aroma dei fiori di timo la terra generosa vi offre un'abbondanza di cibo puro e fornisce pasti ottenibili senza macellazione e spargimento di sangue se volete smettere di assumere carne di montone pesce eccetera dovete vedere con i vostri occhi in quali condizioni brutali e spregevoli vengono uccise le pecore ora nel vostro cuore sorgeranno la compassione e la pietà quindi decidete di rinunciare a mangiare carne se fallite in questo tentativo basterà cambiare gli ambienti in cui vivete e soggiornare in un hotel vegetariano dove non potrete mangiare carne di montone e pesce trasferitevi in una società dove potrete consumare solo una dieta vegetariana pensate sempre agli effetti dannosi causati da un'alimentazione a base di carne e ai benefici di una dieta vegetariana se anche questo non può darvi la forza necessaria per fermare questa abitudine andate in un macello e dal macellaio e guardate personalmente i disgustosi muscoli marci gli intestini i reni e altre parti sgradevoli dell'animale che emanano un odore sgradevole questo indurrà i vai ragia in voi e un forte disgusto o odio verso la carne non solo un brutale ma è un crimine atroce uccidere una mucca o una capra che produce latte e burro eccetera dal valore inestimabile o uomo crudele ignorante autoilluso non uccidete questi esseri innocenti una tortura vi attende nel giorno del giudizio siete moralmente responsabili delle vostre azioni la legge del karma è infallibile uccidere le mucche equivale a uccidere la propria madre quale diritto avete di togliere la vita a questi animali innocenti che vi danno il loro latte per nutrire il vostro corpo questa è una delle azioni più brutali inumane e strazianti la macellazione delle mucche delle capre e di altri animali dovrebbe essere fermata immediatamente dalla legislazione gli animali macellati causano vari tipi di veleni nel sangue a causa della loro paura e rabbia la dieta vegetariana può fornire completamente i bisogni dietetici del corpo pertanto tali crudeltà sono ingiustificate ora parlerò delle vitamine anche le vitamine sono necessarie nella dieta esse costruiscono il corpo se sono assenti o carenti il corpo non può crescere e compaiono malattie da carenza come il rachitismo lo scorbuto eccetera sono presenti in minime quantità negli alimenti sono come una scintilla che accende il fuoco della nutrizione ci sono quattro tipi di vitamine importanti vitamina A vitamina B vitamina C vitamina D la vitamina A è presente nel latte la vitamina B è presente nel riso grezzo e nel succo di pomodoro la carenza di vitamina B causa il beriberi coloro che mangiano riso bianco prendono questa malattia la vitamina C si trova nelle verdure nella frutta e nelle verdure a foglia verde questa vitamina viene distrutta dalla cottura e dall'inscatolamento i marinai soffrono di scorbuto perché non possono mangiare frutta e verdura fresca durante i loro lunghi viaggi in genere portano con sé succo di limone questo impedisce lo sviluppo dello scorbuto la vitamina D è presente nel latte nel burro nelle uova nell'olio di fegato di merluzzo eccetera l'assenza o la carenza di vitamina D causa il rachitismo nei bambini il cibo non è altro che una massa di energia il cibo fornisce energia al corpo e alla mente se riuscite a prelevare questa energia dalla vostra pura volontà se conoscete la tecnica di yoga di assorbire l'energia direttamente dal sole o dal prana cosmico potrete mantenere il corpo con questa energia e rinunciare del tutto al cibo lo yogi ottiene il kaya siddhi o perfezione del corpo se il cibo è completamente digeribile produrrà costipazione il cibo dovrebbe contenere dei residui di fibre o bucce che formeranno la materia fecale l'acqua non dovrebbe essere assunta quando è in atto la digestione nello stomaco questo diluirà i suchi gastrici e altererà la digestione dove possono i sagnasin che vivono di elemosina ottenere una dieta equilibrata in certi giorni ricevono solo cibi acri altri giorni solo dolci e altri giorni ancora cose acide ma possono ricevere l'energia necessaria attraverso il potere della meditazione questo metodo unico dello yoga è sconosciuto alla professione medica e agli scienziati ogni volta che la mente è concentrata un'onda divina bagna tutti i tessuti con l'elisir divino tutte le cellule sono rinnovate e vivificate il digiuno è proibito per i praticanti di yoga in quanto produce debolezza un digiuno occasionale e leggero è altamente benefico risanerà accuratamente il sistema darà riposo allo stomaco e all'intestino ed eliminerà l'acido urico gli studenti di yoga possono assumere un pasto completo alle ore 11 una tazza di latte al mattino e mezzo litro di latte e due banane o due arance o due mele alla sera i pasti della sera devono essere molto leggeri se lo stomaco è carico si presenterà il sonno una dieta a base di solo latte e frutta è uno splendido menù per gli studenti di yoga cibi e bevande semplici naturali non stimolanti costruttori di tessuti produttori di energia non alcolici mantengono la mente calma e pura e aiutano nella pratica dello yoga e a raggiungere l'obiettivo della propria esistenza il pranayama di sivananda tecnica sedetevi comodamente su una sedia su un divano o su una poltrona inspirate l'aria attraverso entrambe le narici finché vi sentite a vostro agio trattenete il respiro finché vi sentite a vostro agio ripetete il vostro ishta mantra OM mentre trattenete il respiro poi espirate finché vi sentite a vostro agio non è necessario osservare alcun rapporto tra ispirazione espirazione e ritenzione ma lasciate che l'ispirazione e l'espirazione siano profonde e complete benefici i benefici di questo pranayama sono incalcolabili tutti i muscoli sono rilassati tutti i nervi sono tonificati il ritmo e l'armonia sono stabiliti in tutto l'essere la mente si calma la circolazione migliora una pace e una beatitudine inesprimibili vengono a regnare dentro di voi potete eseguirlo al mattino mentre siete sdraiati a letto la mente diverrà vigile per iniziare il giapa o il diana potete farlo quando la mente sta per perdere l'equilibrio a causa dell'instaurarsi della lossuria della rabbia o di altri malvagi vrittis la mente si riempirà di un grande potere che impedirà al malvagio vrittis di disturbarla potete farlo poco prima di iniziare i vostri studi la mente si concentrerà facilmente e ciò che studierete sarà indelebilmente impresso nella vostra mente potete farlo nelle ore di ufficio riceverete nuova forza ogni volta e non sarete mai stanchi quando ritornerete a casa dall'ufficio potete praticare questo pranayama e vi sentirete ricaricati di nuova energia il grande vantaggio è che una volta che inizierete a praticarlo lo farete molto spesso e la vostra mente non potrà mai trovare una scusa per non praticare questo Atisukha Purvaka Pranayama un pranayama molto facile e comodo che ha tutti i vantaggi del pranayama senza le sue leggi e regolamenti fatelo da ora senza indugio Kundalini Pranayama in questo pranayama il bhavana è più importante del rapporto tra puraka kumbhaka e rechaka sedetevi in padma o siddha asana rivolti verso est o nord dopo essersi mentalmente prostrati ai piedi di loto del Sakturo e aver recitato Stotras in lode a Dio e al Guro iniziate ad eseguire questo pranayama che porterà facilmente al risveglio del kundalini inspirate profondamente senza emettere alcun suono mentre inalate sentite il kundalini dormiente del chakra muladhara che viene risvegliato e sale da chakra a chakra alla conclusione del puraka con il bhavana fate in modo che il kundalini abbia raggiunto il sahasrara più è vivida la visualizzazione da chakra a chakra più rapido sarà il vostro progresso in questo sadhana trattenete il respiro per un breve periodo ripetete il pranava sul vostro ishta mantra concentratevi sul chakra sahasrara sentite attraverso la grazia di madre kundalini che l'oscurità dell'ignoranza che avvolge la vostra anima è stata dissipata sentite che tutto il vostro essere è pervaso dalla luce dal potere e dalla saggezza ora espirate lentamente e mentre espirate sentite il kundalini sakti che scende gradualmente dal sahasrara e da chakra a chakra fino al chakra muladhara ora iniziate di nuovo il processo è impossibile glorificare adeguatamente questo meraviglioso pranayama è la bacchetta magica per raggiungere la perfezione molto rapidamente anche pochi giorni di pratica vi convincerà della sua straordinaria gloria iniziate oggi in questo preciso istante che dio vi benedica con gioia beatitudine e immortalità domande e risposte è corretto dire che il pranayama non è necessario nella pratica del rajayoga no il pranayama forma uno degli otto componenti del rajayoga è pericoloso praticare il pranayama senza l'assistenza di un guru insegnante le persone sono preoccupate inutilmente è possibile praticare esercizi ordinari di pranayama senza l'aiuto di un guru un guru è necessario se si vuole praticare il kumbhaka o il trattenimento del respiro per un lungo periodo e per unire apana con prana ci sono libri scritti da yogi realizzati che possono guidarvi nel caso non foste in grado di trovare un guru ma è meglio avere un guru al proprio fianco o prendere lezioni da lui e praticarle a casa si può mantenere una corrispondenza regolare con lui potete trattenere il respiro da mezzo a uno o due minuti senza difficoltà o pericolo se non potete trovare uno yogi realizzato potete avvicinarvi a degli studenti di yoga senior anche loro possono aiutarvi è possibile con sola la pratica del pranayama risvegliare il kundalini sakti dormiente sì anche le asana bandas mudras japa la meditazione una forte e pura volontà analitica irresistibile la grazia del guru devozione risveglieranno il kundalini sakti quali sono gli effetti della pratica del kecciari mudra aiuterà lo studente a bloccare il respiro avrà una buona concentrazione e meditazione sarà libero dalla fame e dalla sete potrà spostare piuttosto facilmente il respiro da una narice all'altra può anche avere che va alla kumbhaka molto facilmente quali sono i sintomi quando il prana e la pana sono uniti e quando il prana passa su shumna quando prana e apana sono uniti il prana e apana unito passerà attraverso il shumna e il praticante diventerà un morto per il mondo cioè perderà la consapevolezza del suo corpo ma avrà una perfetta consapevolezza degli ambienti e del mondo sentirà il brevido divino l'estasi divina e le esperienze degli stadi inferiori del samadhi quando il prana procede più in alto nel shumna il praticante sentirà diversi tipi di esperienze su diversi tipi di chakra che non possono essere descritti ma dovrebbero essere vissuti quando il prana raggiunge sahasrara lo yogi ottiene il samadhi nella pratica del pranayama durante maa banda si dovrebbe lo stesso mantenere la proporzione di 1 4 2 si in maa banda la proporzione per l'ispirazione il trattenimento e l'espirazione è di 1 4 2 se si pratica il bandhatraya pranayama e si pratica puraka 10 matra kumbhaka 40 matra e rechaka 20 matra quanto tempo deve durare il puro kumbhaka e quanto tempo deve durare la pausa espiratoria con uddhyana nel bandhatraya i principianti non hanno bisogno di fare una pausa respiratoria gli studenti avanzati possono farla per 5 o 6 secondi nel bandhatraya il principale kundalini 1 4 2 è alquanto sufficiente per l'unione del pana e apana qual è la differenza tra tadana kriya e maa veda nel tadana kriya si può respirare in qualsiasi modo ma il maa veda pranayama dovrebbe essere praticato come descritto nel bandhatraya il pranayama è necessario per ottenere il darsana del signore no quando il prana viene portato fino alla decima porta bramachandra fino alla sommità della testa il praticante sentirà una puntura di spillo no che cos'è l'urdveta pranayama mentre si fa il sukha purvaka o il loma viloma pranayama si sente che il virya scorre in alto verso il sasrara alla sommità del capo sotto forma di orgias questo è il urdaveta pranayama se cerco di mantenere il rapporto 1-4-2 quando pratico il pranayama non riesco a concentrarmi sul mio istadevata se cerco di concentrarmi non riesco a mantenere il rapporto 1-4-2 vi chiedo gentilmente di consigliarmi cosa posso fare cerchi di mantenere il rapporto per due o tre mesi si formerà una forte abitudine e il rapporto si manterrà automaticamente poi potrà concentrarsi sulla sua divinità tutelare la mente può fare solo una cosa alla volta qual è lo scopo di ispirare attraverso la narice sinistra ed ispirare attraverso la narice destra e viceversa questo renderà il respiro ritmico i nervi e la mente saldi e consentirà al sushum nanadi di scorrere che sarà utile per la meditazione manterrà una perfetta armonia nel sistema i cinque cosa vibreranno ritmicamente ci possono essere dei risultati pericolosi nella pratica del pranayama come pensano alcune persone non c'è alcun pericolo nel praticare il pranayama le asana eccetera se state attenti e se usate il buon senso le persone si preoccupano inutilmente il pericolo c'è in tutte le cose se si è negligenti sono regolare nel mio sadhana però gli scatti continuano anche se non sono così frequenti come prima potrebbe gentilmente darmi un consiglio in merito attraverso la pratica del pranayama e della meditazione le cellule e i tessuti sono vivificati sono caricati con nuovo prana vengono generate nuove correnti praniche queste danno origine agli scatti all'inizio spariranno presto sarebbe così gentile da chiarire a panavayu noi inspiriamo aria quindi l'ossigeno viene assorbito dalle cellule del sangue e dal plasma ma da quell'ossigeno come si forma la pana in quale parte risiede qual è la natura e come sono uniti il prana e la pana gentilmente mi spieghi scientificamente menzionando le parti interessate in tal modo la pana non è formato dall'ossigeno la pana è energia la pana risiede nella parte inferiore dell'addome nel muladhara nei discendenti colon retto e ano la sua natura è un movimento verso il basso la sua funzione è l'espulsione di urina gas ed escrementi prana e apana sono uniti da kevala kumbhaka kumbhaka muladhara jalandharabanda e udhyanabanda sono uniti nell'ombelico o chakra manipuraka come viene eseguita la nadi suddi la nadi suddi pulizia delle nadi è samanu o nirmanu cioè con o senza uso del bija secondo la prima forma lo yogi in padmasana o siddhasana offre le sue preghiere al suo guru e medita su di lui con la meditazione su yam egli esegue japa del bija 16 volte attraverso ida kumbhaka con japa del bija 64 volte e poi l'espirazione attraverso il nadi solare e il japa del bija 32 volte il fuoco viene generato da manipura e unito a prithvi poi segue l'inalazione da parte del nadi solare con il vani bija ram 16 volte kumbhaka con 64 volte japa del bija seguito dall'espirazione attraverso la nadi lunare e japa del bija 32 volte poi medita sulla brillantezza lunare fissando la punta del naso e inspira tramite ida con japa del bija tam 16 volte kumbhaka viene fatto con il bija vam 64 volte egli si sente inondato dal nettere e ritiene che le nadi siano state lavate egli espira attraverso pingala con japa del bija lam 32 volte e in tal modo si considera rafforzato se siete negligenti nel scendere i gradini di una scalinata cadrete e vi romperete le ossa se siete negligenti quando camminate nelle parti più trafficate della città verrete investiti dalle macchine se siete negligenti quando acquistate un biglietto alla stazione ferroviaria perderete il vostro portafoglio se siete negligenti nel distribuire miscele ucciderete i pazienti dandogli del veleno o una medicina sbagliata o somministrando un farmaco in dosi eccessive quindi anche quando praticate il pranayama e altri esercizi di yoga dovete porre attenzione alla vostra dieta dovreste evitare di mangiare troppo dovreste assumere cibi leggeri facilmente digeribili e nutrienti non dovreste andare oltre la vostra capacità di trattenere il respiro dovreste prima praticare solo l'inspirazione e l'espirazione senza trattenimento del respiro per uno o due mesi dovreste gradualmente aumentare il rapporto da 1 4 2 a 16 64 32 dovreste ispirare molto molto lentamente se queste regole vengono osservate non ci sarà alcun pericolo nella pratica del pranayama e di altri esercizi di yoga avete ascoltato la scienza del pranayama di Sri Swami Sivananda edizione audiolibro 2020 David De Angelis traduzione dall'originale in inglese a cura di David De Angelis tutti i diritti di traduzione sono riservati narrato da Vita Wolf Avete ascoltato La scienza del respiro e del pranayama contiene i due libri La respirazione e la salute di Yogi Ramacharaka e La scienza del pranayama di Sri Swami Sivananda traduzione a cura di David De Angelis tutti i diritti di traduzione sono riservati narrato da Vita Wolf Audible